Le generalità adesso... Allora, per minuto... Angelo... Eh, papà... Paolo... 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 Di anni... Quarantuno... Nato a... Catania... E... dove è detenuto? A... Alessandria... E' detenuto Alessandria... Va bene... Allora, lei ha interrogato, e quindi non giura, come imputato di un processo connesso. Che lei ha imputato di un processo connesso a questo... E' difesa dall'avvocato Pepe, che è il suo avvocato ed è presente. Pepe, mi pare, è vero. Pepe, è questo, quello che si sente. Pepe. Allora, ecco, lui ci vorrebbe dire, queste circostanze particolari, che sono due o tre circostanze alle quali lui ci deve riferire. Se, me l'uso Giovanni, ha svolto... San Felice se ne va a casa se dice un'altra parola. E' già è stata espulsa la volta. Se me l'uso Giovanni ha svolto un'attività nell'ambito del cosiddetto clan Turatello. Eh, mi ripeto, mi scusi, se... Se me l'uso Giovanni ha svolto, se ha svolto o meno... Non ha mai svolto nessun'attività con Turatello. Mi sentono? Sì. Benissimo. Non ha mai svolto nessun'attività con Turatello. Cioè, lei come fa a sapere? Ecco, non... E' perché facevo parte della cosiddetta banda Turatello fin dal 1974 e meglio di me non lo può sapere nessuno. Sono presuntuoso, magari. Cioè, lei l'ha fatto parte della banda Turatello dal 1974 fino a quando? Sì. Fino a quando... Finché è morto Turatello. Finché è morto Turatello. Finché è morto Turatello. E che ruolo aveva nella banda Turatello? Lei? Beh, direi un ruolo primario, per quanto riguarda le bischie. Cioè, eravate quindi molto vicino a Turatello. Sì. E sapete... L'attività di Turatello qual era in particolare? L'attività della banda, non soltanto... Beh, Turatello aveva le sue attività, faceva un po' di tutto. Certamente non vendeva cocaina. Eh, questa è una buona... Né altro tipo di droga. Né altro tipo di droga, ci mancherebbe. Invece mi interessava perché dirigevamo tutte le bischie di Milano. Ma ero io a dirigere le bischie, signor Presidente. Presidente, ma la cosiddetta banda Turatello era costituita... Dovrei dire la banda di Paminondo, penso... Dopo Turatello, sì. Ma era costituita sempre dai medesimi elementi? O occasionalmente per... Occasionalmente. ...per determinati reati venivano usati elementi, diciamo, estranei? Eh, signor Pubblico Mestero. Magari in questo momento non posso elencare i nomi di tutta la banda Turatello. Però una cosa è certa, riguardo al Melluso. No, la domanda non riguarda per il momento il Melluso. Io ho fatto una domanda che le ho chiesto, sì. La domanda del Melluso viene dopo. Avvocato, avvocato... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh. Che facciamo, interrompiamo al momento in cui... No, ma non interrompe in questo momento... No, non interrompe, io sto interrogando il testo. ...interrompe l'imputato testimone, quindi... Senti, ma lei non deve tollerare niente. Io già gliel'ho detto in altra udienza. Lei non deve tollerare nulla. Lei è una parte in questo processo, ancorché autorevole. Ancorché autorevole. Lei è solo una parte. No, 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 no. Come una parte al 70 autorevole, mi permetto di dire, la difesa e il difensore, caro... No, no, Presidente, io chiedo... Presidente, io chiedo... Svolge un ruolo di parte lei. Lei non può richiamare nessuno, assolutamente. Io chiedo, Presidente, che sia formalizzato l'interrogatorio nel senso... Il signore Paminonta stava rispondendo e quindi lei deve attendere la risposta. Che lei le valuta se ci sono opposizioni... Non può strozzare la risposta, lei. Direttamente e personalmente. Ora, io in questo momento la domanda che ho chiesto, che sia rivolta a Paminonta, è questa. Voglio sapere se nella banda Duratello c'erano elementi che indipendentemente... Poi domanderemo quanti erano, chi erano, eccetera. Elementi esterni che effazionalmente... Ecco, questa è la domanda. Allora, la domanda la avete capito. Ma l'ha capito anche il testo. Me la ripeto per chi si... Allora, sì, cioè, nella banda Duratello... Cioè, no, al di fuori della banda Duratello, erano anche delle persone che non appartenevano alla banda Duratello, ma che lavoravano per il Duratello. In qualche attività. Se non appartenevano, non lavoravano. Non lavoravano. Vabbè, ma può darsi che Duratello si servisse anche... Conoscenze, magari. No, non si servivano anche di astrani. Di qualche astrani? Cioè, estranei alla banda. Ma una banda l'ho avuta anch'io, di estranei non mi sono mai servito. Volevo fare una domanda. Ma mi risulta quindi che lavorassero per Turatello persone che fossero estranei alla banda sua. Volevo fare una domanda. Quando Epaminonda ha conosciuto Melluso, quali sono stati i rapporti? Quando si sono interrotti, cioè tutta la sua storia è comune tra Epaminonda e Melluso. Non c'è stato nessun rapporto. Io conoscevo Melluso. Da quando? Lo vedevo in giro. Da quando? 1986-77. Prima che la restassero usciva di galera. Lo vedevo. 1976-77 risalirebbe questo inizio. Beh, adesso non è che io tengo peoria di Melluso. Insomma, lo vedevo. Lo incontravo qualche volta. Melluso ha detto cia cia cia. Il bello se l'ha inventato lui poi. Cia 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 era per noi. Cia cia cia. No, no, non il bello. Il bello se l'ha inventato lui. Ogni istante sentiamo un uomo sopra il nostro. Cia cia cia. Allora che... Allora i rapporti che... I suoi rapporti. Non ho avuto nessun rapporto io con Melluso. Non potevo avere rapporti con lui. Cioè, ma allora come l'ha conosciuto? No, io prego il collega Morelli di usare lo stesso... No, perché sono costretto di far farla la sua presidente. Allora quali erano i rapporti? Non l'avete conosciuto? Ma non l'avete mai lavorato insieme? Io non personalmente. Non l'avete mai lavorato. Ma non l'avete mai lavorato insieme con Melluso. Lo conoscivo e lo vedevo saltualmente quando il medesimo usciva dalle carceri. Perché è sfruttato più volte detenuto. E sapeva delle attività di Melluso? Conoscevate le attività di Melluso? Sapevo che faceva rapine. O appartamenti. Faceva rapine, furti in appartamenti. E rapine. E rapine. Non mi risulta, eh. Non mi risulta che Melluso ha spacciato droga. No, assolutamente no. Non mi risulta che Melluso abbia mai spacciato droga. Quando si sono interrotti i suoi rapporti con Melluso? Non ne ho mai avuti. Non ne ho mai avuti. Ce l'avete vista sempre sporadicamente. Ma non c'era nessuna amicizia. C'era una conoscenza. Non c'è stata nessuna. E in carcere dove e quando l'ha incontrato? Dove sono stati vicini? A Melluso? Ad Alessandria. In che periodo? Bah, sarà stato quest'inverno. Vorrei precisare alla corte che io ascolto, non avendo nulla da fare in galera, Radio Radicale. E mi permetto di dire che le minchiate di Melluso dette in quest'avola le ho ascoltate nella stessa giornata in cui le ha dette. Sono già informatissimo di quello che è successo qui dentro. Questo tanto per Presidente. Mi faccio una domanda. Ho un'occasione di sentire la Radio Radicale che riferiva allo svolgimento di questo processo fin dal primo grado. Fin dal primo grado. Fin da quanto il processo era in primo grado e ho rilevato che il medesimo ha detto una quantità di cose che si risate. Allora, quale sono? Per non dire minchiate. No, io mi ricordo. Lei mi fa. È la stessa cosa. Allora, quale sarebbero queste cose che non mi persuadono? Cioè, queste cose che avete definite minchiate, lo so. Ma tutto quello che ha detto in quest'avola sono minchiate, il Melluso. Non una. Tutte indistinguate. Il fatto che si dedicava al traffico di droga. A meno per quello che ne sappia io per come ho vissuto fino a 22 mesi fa. Credo che qualcosa dovevo pur saperlo a Milano. A meno se è vero quello che ho fatto lì o quello che dice la Questura, Carabinieri. E di quello che sono imputato. Nell'uso ha detto tutte minchiate. Quale vuole che gli dico? Droga. Ma non l'ha mai trattato. Non l'ha mai trattato. Ma che è curioso. Non l'ha mai trattato droga. No. Assieme? No, no. All'amor di Dio. Non l'ha mai trattato droga. No, lui era l'angente. Lui dirigeva le bische. Io ho trattato grossi quantità di cocaina, signor Presidente. Perciò, ero nel ramo, diciamo. E lei da quanto tempo l'ha incominciato a trattare? Nel 71. Nel 71? Sì. Anche quando faceva parte della banda Duratello? Mai. Qualche volta per fatti miei, ma non me la dava certamente Duratello. Anche quando stavo presso il tuo mantello? Anche prima di Sarazzo? Sì, sì, dal 71. Anche prima di Sarazzo? Sì, sì, dal 71. Dal 71. Sono i verbali di polizia. Di traffico, di grosse quantità. No, allora piccole quantità. Ma operavo per conto mio, in quanto Duratello non mi dava mai incarichi del genere, ha detto. Operavo per intenderlo. Per conto mio. No, io gliela chiesi a Duratello qualche volta, in quanto mi bisognava, ma ne parlai di questa cocaina, ma lui non ne trattava. Certamente che se Duratello, adesso non vorrei dire, Duratello non trattava, ma se Duratello avrebbe avuto bisogno di un etto, due etti di cocaina, chi è che non gliela dava, sapeva chi la trattava. Però lui personalmente non ha mai trattato cocaina. E nessun altro tipo di droga. E nessun altro tipo di droga. Presidente, desidero che si rivolga a questa serie di domande. Innanzitutto, da chi era costituita la banda Duratello e da chi era costituita la sua banda? In quale momento se c'è stata una concuento... Ma aveva la banda? Non aveva una banda. E fa minuto. Sono pubblico ministero, io non posso stare nove mesi qui a spiegarle le sue. Non aveva una banda. Perché no? No, perché... Ma in realtà non ci riguarda. Veramente i nomi della banda Duratello ci sono processi in corso. Siccome si parla di una banda Duratello e si dice questo ci apparteneva e quell'altro non ci apparteneva, evidentemente ci saprà chi è che apparteneva e chi non apparteneva. Lui qua interrogato con il pubblico ministero e io processo. Vuol dire che c'è qualcuno che non apparteneva, vuol dire che se si sa chi è che ci apparteneva, insomma, non so se... Ma questa è la domanda signor Presidente che la prego di rivolgere e poi risponderà come crede. Cioè voi sareste in grado di indicare numerosi componenti, perlomeno, anche se non tutti perché potreste... Ma le devo dare... Sareste in grado di arrivare ma ne avete riferito in altro procedimento. Eh certo e poi devo fare un diretto processo su questa questione non posso farlo un altro a Napoli. Allora, verbalizziamo questo. Ha già risposto in altro. Sarei in grado di riferire i componenti della banditura a terra ma questo già l'ho fatto in altro processo che è in corso a Milano mi pare. E quante persone ha accusato in quell'altro processo? Più o meno. Non lo so, non mi ricordo. Dopo che l'altra sarà un'altra scusare 5, 6 potrebbe domani mattina accusarne altri. Scusate, ma Turatello e Meluso si conoscevano? Non è impossibile la loro conoscenza perché c'era una grande diversità tra il personaggio Meluso e il personaggio Turatello non potevano conoscersi. Ma come differenza di importanza di importanza di personalità ma se potevano conoscere lo stesso se erano potuti incontrare se erano potuti essere presentati l'uno all'altro se potevano conoscere se si sono conosciuti sono conosciuti nella carcere di Cunio non saranno stati amici senz'altro Turatello era Turatello Melluso era Meluso non saranno in conseguenza della risposta che ha dato adesso visto che c'era erano diversi livelli delinquenziali insomma tra Meluso e Turatello tra Epaminonda eccetera erano diversi completamente non solo ma prima ha detto anche un'altra cosa che ha detto Melluso non conoscevo così come fa a sapere qual era l'attività delinquenziale del Melluso ossia se spacciava o non spacciava proprio in modo particolare perché faceva rapine qualche rapina avrà fatto fra i quali una se lo vuol verbalizzare l'ha fatta sì l'avrà dichiarata lui tranne l'ha fatta con Bruno Gentile Gentile? sì ed era la bandatura terra con se Gentile? no assolutamente Bruno Gentile e Domenico anche lui ha la bandatura della terra questo se ben mi ricordo nel 77 non è che conservo tanta memoria sul Melluso quindi Presidente Domenico l'ho detto prima Domenico Zanti quindi Presidente allora vuol dire che lui controllava tutta l'attività delinquenziale di Milano dico lui no assolutamente no siccome erano due miei amici e allora mi raccontavano che sono andati a fare una rapida non è che posso dargli delle specifiche e poi è normale che eppure Zanzi non apparteneva neanche lui alla bandatura Turatello no quindi l'errore dell'altro erano però miei amici e si spessi mi hanno parlato del Melluso al quale si accompagnavano per commettere i fatti dirittosi se Villa ha mai fatto parte della banda Turatello se Villa Andrea Villa ha mai fatto parte della banda Turatello Andrea Villa conosceva senz'altro Turatello ma non ha fatto mai parte della banda Turatello è preciso meglio dal 74 in poi no sicuramente permette ancora una domanda la Corte ha dichiarato il signore Faminonda al giudice di Maggio che Melluso scrisse una lettera ad Alfio Larosa minacciandolo di ribellare le rapine commesse insieme se non gli avesse mandato 10 milioni può dirci dove si trova questa lettera questa lettera dovrebbe essere in possesso del dottor Di Maggio pubblico ministero di Milano dottor Di Maggio lo sostituto procuratore della Repubblica io chiedo no no Di Maggio è un altro Di Maggio chiedo alla Corte comunque di disporre l'acquisizione agli atti di copia di questa lettera grazie allora questo contatto avuto tra Pavinonda e Melluso ti ha dichiarato Melluso di quest'offerta di alcuni decine e decine di milioni per ritrattare le accusi ci sono state allora ma sì e come noi signor Presidente io in carcere come tutti i carcerati ci annoiamo quando arriva un tipo come Melluso si passa un po' di tempo allora si parlava del più e del meno siccome lui quantifica tutto in denaro ciò che fa mi chiese che interessi avevo io di dire che lui non lavorasse per Turatello e che interesse avevo perché così scaggionava Tortorali o Valpecchiari anzi mi pregose e accusavo Valpecchiari io conosco bene poi tra parentesi allora gli dice l'interesse mio che non come dice lui mezzo miliardo che lo dichiarò alla dottoressa Introini io ho detto un miliardo era per divertirmi un po' infatti Melluso mi sembra un po' esagerato la dottoressa Introini questo può richiedere può acquisire gli atti della dottoressa Introini la procura di Milano la procura di Milano benissimo io ho copia di questa dichiarazione se vi può essere utile ho copia dell'interrogatorio reso dal ci risparmia di una lettera scritta mi da Salvatore Sanfilippo in cui mi parla di Melluso sarebbe interessante se c'è della legge si si consegna una lettera infatti dice a questo punto spontaneamente Epaminonda consegna una lettera all'ufficio a firma Sanfilippo Salvatore fatta mi pervenire tramite corrispondenza indirizzata a Cian non è allegata la lettera dovrebbe esserci però verbalizzato il fatto della lettera si si non è che tenete anche la copia della lettera bisognerebbe acquisirla che cosa diceva questa lettera di Sanfilippo mi chiede di Melluso credevo sul verbale nel contenuto era che Melluso esattamente mi ricordo benissimo diceva che che era che cosa un blocco monolitico di merda scusi la frase ma c'è scritto così è che dice delle grano sfronzate che continua a mettersi d'accordo per accusare persone fra i quali voleva che Sanfilippo accusasse me perché lui diceva Melluso che suo padre diceva Sanfilippo lui consigliava di accusarmi sull'uccisione del padre che io non so neanche che suo padre sia morto ma sono tutte quelle storie che poi leggerà adesso non mi ricordo se si chiede quella lettera sarebbe bene chiederà che copia di questo va bene mi ha auto accusato sull'uccisione del padre di Melluso con Melluso con Melluso quando siete stati in casa ma tre giorni dopo l'hanno portato via le giorni si è stati insieme tutta la sua vita si si ma si è stati in carcere insieme con Melluso sono tante giorni e adesso recentemente recentemente cioè più o meno quando tre giorni no dico quando in che periodo doveva essere penso gennaio credo c'è quest'anno gennaio gennaio avete fatto cinnaio a Cuneo si potevano essere conosciuti e essersi incontrati Turatello in Melluso ma in che epoca è stato arrestato Turatello a Cuneo è andato nella carcere di Cuneo Turatello e Melluso si ma lui come lo sa viste che l'ha visto in carcere e non facevo e signor come sa che è la domanda che la prego di rivolgere ma perché io non facevo il falegname l'avrò sentito dire no non è che facevo il falegname io fuori ma che tu la te l'abbai passato in carcere lo doveva sapere lo seguivo anche lo seguivo anche e l'avrò l'avevate sentito l'ho sentito l'ho sentito Presidente permette un'ultima domanda ha dichiarato il signore Paminonda di essere stato inserito anche se in via assolutamente autonoma in quel periodo 75 74 76 77 nel nel mondo dello spaccio del commercio della droga nell'ambiente milanese la domanda è la seguente è possibile che in Milano poiché a noi risulta devo fare una piccola premessa Melluso ha dichiarato io ho fatto qui una ricostruzione delle attività di spacciatore di Melluso Melluso avrebbe io seguo il suo racconto spacciato droga per circa 20 kg in quel contesto questa è la media di cocaina in circa due anni nei brevi momenti di sua permanenza all'esterno quindi estremamente concentrata sarebbe stata nel tempo questa sua attività allora la domanda al signore Paminonda è questo in quel contesto temporale nell'area di Milano esisteva una persona o anche un gruppo organizzato in grado di commerciare quantitativi così grossi di cocaina ho già risposto prima io pongo la domanda ha dichiarato la pregheria di farle rispondere la pregheria ha dichiarato ha dichiarato esatto ha dichiarato prima che se c'erano persone all'altezza di poter commerciare oltre 20 kg di cocaina nel periodo di due anni no di circa in tempi però strettissimi perché Melluso è stato quasi sempre detenuto sì ma in due anni si poteva anche in due anni 20 kg di cocaina si può vendare come no in due anni cioè in due anni di costante presenza sul mercato sì in due anni perché allora la cocaina non era come negli ultimi tempi senz'altro però era certo i pacchi da 5 kg 4 kg siamo un po' calmi nel 76 non giravano neanche a morire nel 76 non giravano neanche a morire non giravano questi quantitativi di 4-5 kg però in due anni in un anno e mezzo in due anni si poteva trovare perfetto allora l'ulteriore domanda è questa allora si poteva essere c'è qualcuno a Milano che aveva la tua nel campo della droga si capisce se altrimenti se avessero potuto ricercare i 20 kg l'ho ricercato certamente in due anni in venti anni insomma è una persona che doveva essere inserita inserita la domanda è questa perché insomma lui per dire questo vuol dire che cosa aveva l'esclusiva forse sulla piazza di Milano oppure come fa ad escludere che altre abbiano potuto fare una cosa di questo genere non l'ha escluso non l'ha escluso non l'ha escluso non l'ha escluso anche se a quell'epoca grossi quantitativi non giravano ha precisato che non giravano quantitativi così grossi in unica soluzione erano persone che potevano avere la possibilità di girare di smerciare anche 20 kg in due anni in un anno e mezzo in due anni potrei fare una domanda risulta da alcune dichiarazioni che poi sono state la base di questi processi che a un certo momento la nuova camorra cercò di entrare a Milano e controllare il mercato della droga se il test può affermare o escludere questa penetrazione che avviene in un certo momento a Milano della nuova camorra che acquisisce un certo controllo non intende la nuova camorra Raffaele Cutolo eh già gli omedi di Raffaele Cutolo non potevano neanche avvicinarsi a Milano quindi esclude che Raffaele Cutolo sia venuto a Milano e abbia controllato un certo percaso di droga lo escludo vabbè ma la droga non era controllata a Turatello ma noi avevamo delle storie con il signor Cutolo non è che era cioè non l'aveste fatto avvicinare soltanto perché era Cutolo assolutamente l'attività che avesse voluto svolgere lì assolutamente anche se implicitamente ha già risposto negativamente però siccome questo viene dichiarato in particolare da Barra e da altri si dice Barra che in quel periodo più o meno corrispondente alla morte di Turatello qualche volta dice prima ma che volta dice subito o dopo Cutolo acquisì il controllo di una raffineria di droga che operava attraverso Padillo e distribuiva una grossa quantità di droga a Milano se il test può affermare o escludere a questo punto lei vorrei precisare perché lei adesso mi ha detto prima o dopo la morte di Turatello lei così mi ha detto ha detto lei è vero avvocato lei dice prima o dopo la morte di Turatello non ha precisato però Barra ha fatto le dichiarazioni e parla di una raffineria di droga sulla quale la nuova camorra in generale e Cutolo avrebbe avuto il controllo ma che droga era mi scusate in Milano che tipo di droga c'era queste sono le dichiarazioni che fa Barra che tipo di droga era? era una raffineria di droga di cocaina di eroini non era cocaina non era cocaina si può trovare agli altri ora questa raffineria operava una distribuzione di droga ora se appunto il test può affermare la cocaina lo escludo se ci riferiamo alla raffineria di cocaina per quello che io ne possa sapere insomma qualcosa dovrei sapere comunque Cutolo non venne sicuramente a Milano comunque se venne non stabilì una serie di rapporti diciamo non lo conosco neanche se fosse venuto a Milano e avesse cercato di impadronirsi di un certo mercato di droga e di certe attività estorsive l'avrebbe sicuramente saputo lei? beh credo di sì almeno Presidente chiedo scusa direi la domanda possiamo concludere questa serie di domande si dice da parte di Barra e di altri che Cutolo avrebbe fatto uccidere Turatello per impadronirsi del mercato di Milano e in conseguenza la morte di Turatello si sarebbe impadronito avrebbe fatto uccidere Turatello per impadronirsi del mercato di Milano inteso come settore vische estorsioni e droga se è vero questo e se è vero che Cutolo si è o meno impadronito di questi settori vische estorsioni e droga lo assi nel modo più categorico no perché ce l'avevo io cioè che le vische che Cutolo abbia messo mano nelle vische lo escludo categoricamente fino a quando c'era Turatello quando è c'era io dopo Turatello signor Presidente dopo Turatello c'ero io e solo io chiedo scusa avvocato è una questione estranea all'interrogatorio non voglio fare la domanda sto dicendo un'altra questione estranea all'interrogatorio no non c'entra niente all'interrogatorio chiedo scusa signor Presidente in relazione all'indagine fatta ieri a proposito del pestaggio del detenuto cioè indagini che sono state avviate ieri stesse il procuratore il procuratore della Repubblica ha inviato adesso in questo momento un sostituto insieme al medico legale per sentire quindi se lei costesemente vuole consentire al detenuto di allontanarsi un momento dall'aula come vedo è una cosa che non c'è di niente con l'interrogatorio allora parlati lei si può allontanare un momento dall'aula e sottoporsi quindi a queste visite a questa visita si rinuncia a restare in aula questi pochi in questo quarto d'ora ha messo quarto d'ora eh sì d'accordo e si arriva allontanare soltanto per un quarto d'ora durante la visita per la visita soltanto allora chiedo scusa quindi aspetta aspetta Baccioli sta dettando l'ordinario il detenuto signor Presidente quindi lui io cerco di limare questa domanda siccome sono punti importanti punti nodali dell'accusa e delle sentenze eccetera ecco quindi esclude in modo categoria esclude in modo categoria che una parte delle attività Turatello ossia una parte delle attività delinquenziali di Turatello si sono state prese in mano da Cutolo e dalla Nuova Camorra ma quale sono queste parti delinquenziali di Turatello mi si dice l'attività di Turatello sono le bische sono le bische bische e spaccio di cocaina non l'ha mai spacciato quindi spaccio di cocaina quindi non c'era neppure prima e quindi non l'ha certo ereditato le bische non l'ha ereditato perché lei l'avrebbe saputo e mi sembra l'ha ereditato di tutte lei li controllavo io quindi sicuramente le attività altre attività escursive io non lo so ma chi svolgeva la banda Turatello e che controllava Turatello non ne controllava la estorsione Turatello ecco quindi Turatello controllava le bische le bische sono passate a lui alla morte di Turatello e quindi si esclude assolutamente se fossero intervenuti i cutoliani addirittura lei probabilmente sarebbe entrato l'avrebbe impedito anche con la forza anche con è chiaro altro punto in questo giro di particolare peso delinquenziale a Milano la Nadia Marzano esisteva come donna che aveva particolare peso donna che poteva la interrompo perché non la conosco neanche quindi non conosco neanche se fosse stata una donna di particolare peso nel mondo delinquenziale l'avrebbe saputo nel mondo delinquenziale nel mondo della droga particolarmente magari di nome no magari la conoscerò in che modo il nome non mi dice nulla in che modo dovrebbe entrare in questa Nadia Marzano il discorso è questo si dice come costruzione accusatoria che la Marzano era una donna talmente potente la quale aveva posto in relazione Tortola e Cutolo in Milano ora a questo punto io chiedo al testo era una donna di particolare lui non la conosce per niente se avesse avuto questa particolare influenza l'avrebbe conosciuta perché lui conosceva tutto il mondo delinquenziale di Milano ma vedi il fatto è che lei parte da un presupposto col se quando lei dice se fosse stata una donna che cosa possiamo sapere se fosse stata l'avremmo venuta doveva esserlo prima e poi potrebbe sentire il testimone mentre lui conosce tutti quelli che in quel periodo avevano particolare influenza nel mondo delinquenziale tutti quelli di peso è bello oggi quelli di peso riconosceva lui ma più normalmente poi nel campo di cui si interessava lui non crede che poteva conoscere tutti i ladri di Milano no no assolutamente i personaggi di peso del mondo delinquenziale di Milano riconosceva tutti i personaggi del mondo delinquenziale di Milano quelli che contavano lui li conosceva tutti non è che ha detto che lui personaggi minori secondari ma come te li passiamo dopo ma quelli che contavano li conosceva tutti una domanda una domanda per favore che lui conoscesse o meno tutti quanti la domanda quale domanda nessuna domanda la domanda la domanda la sarà questa se lui i personaggi che contavano li conosceva tutti allora ma non si può dire quali sono i personaggi sembra che mi viene di personaggi possiamo domandarglielo perché lei mi ha detto io sto dicendo questo lui è all'apice del mondo è uno dei vertici lui sta nel campo della Mala e Pacifico lo dice lo ammette io dico che conoscesse fino a che grado i personaggi che contavano del mondo della Mala li conosceva tutti o sapeva chi era che contava del mondo della Mala avvocato ma consento di fare un'osservazione se la sua domanda è diretta a stabilire che la Marzano non fosse un personaggio che contava nel mondo della Mala nessuno ha mai detto questo va bene ma lo potete fare dopo non ha mai detto questo non ha mai detto questo ha un determinato ruolo che è quello che è di cui ci scuseremo ma che fosse un personaggio che contava ma nessuno sarebbe mai sognato di dire la domanda del consigliere potrei fare una domanda sia pure tramite il presidente vorrei chiedere tramite il presidente a Epaminonda poco fa ha detto che loro con Cutola hanno avuto una storia quale è stata? no non abbiamo avuto nessuna storia c'era la storia se poteva storie non le ho avute perché non lo conosco con Cutoliani non c'erano simpatici a noi Cutoliani a Milano quindi c'erano? non c'era stata nessuna storia c'è stato qualche contrasto c'è stato qualche contrasto anche fisico ma incontro ma è tutta una storia che non non intendo parlarne adesso signor Presidente anche se l'ho già dichiarato c'è stato un contrasto che non volete no non c'è stato nessun contrasto era noi così c'erano antipatici Cutoliani a Milano voi erano antipatici anche a Tuna Terra a Tuna Terra non lo so se gli erano antipatici o simpatici a me io sto parlando di me comunque Presidente è stato registrato i Cutoliani a Milano c'erano antipatici ha detto questo mi erano antipatici lui ha detto a noi di Milano c'erano antipatici i Cutoliani ma non che c'erano è che non si volevano a Milano si va bene mi scusi glielo dico io ma è un mio modo di parla mi perdoni ho detto a noi fa tutte le rettifiche ho detto tutte e due le risposte però è il mio modo di parlare a Milano era antipatici c'è anche a Milano era antipatici se no sentiamo a noi c'erano antipatici non è che erano a Milano a Milano non c'era io questo ho chiesto che fosse registrato non ho chiesto che fosse registrato e altro a me basta questo allora un paio di domande Presidente ancora? eh sì io pure no no dopo dopo posso anche farla dopo no no non è importante ma lui sa per lo meno per sentito dire che Turatello è stata ammazzata e da chi? ah beh siamo a domande non lo spiega no no è la domanda lo sapete che Turatello è stata ammazzata? non se lo so è la domanda è la domanda non lo sapete non ve le risponde glielo vediamo devo pensare allora sapete da chi? eh? sapete da chi? da chi? l'hanno pure condannato ecco e sa quindi sa che hanno condannato quelli che hanno fatto ammazzare a Turatello sì compreso Cutolo certo ecco ma basta così no no chiudiamo questo punto ah chiudiamo chiudiamo lui ha detto lui ha detto che sa chi ha ammazzato Fratello avvicinati ora a questo punto sono stati condannati e gli ho detto chi e sa chi e lui ha detto che hanno pure condannato no no lui sa chi ma è un processo che risulta nel quale fra l'altro è stato anche testo quindi lui non equivochiamo sul discorso che lui sa di Cutolo allora domandiamoci se lui sa degli esecutori o sa anche di un supposto mandante Cutolo perché ha già escluso prima che fosse mandante Cutolo ma no no scusi il cancelliere allora sapete facciamo la domanda allora voi sapete gli esecutori che sono stati anche Cutolo Presidente sapete anche che c'è stato un mandante si Cutolo Presidente mi scusi per un chiarimento per evitare di fare questioni utili Epaminonda è stato formalmente accusato giudicato e quindi assolto come mandante dell'omicidio di Turatello quindi altro che se lo sapeva benissimo meglio ancora ottimamente mi va bene la risposta che ha dato quella che ha dato mi va bene allora l'avvocato Falumbo tu voleva fare una domanda sempre sempre rapida si Presidente mi pentoni poiché abbiamo un elemento che conosce molto della vita di Milano vorrei sapere dal signore Epaminonda se conosce Luigi Moccia l'ho sentito nominare qui tramite Radio Radicale ma non il nome mio è nuovissimo non è mai stato amico di Turatello non conosco il nome Moccia non mi risulta non le risulta che fosse amico di Turatello non so neanche come fa non l'ho sentito mai nominare prima di questo processo ne ha mai inteso associare questo nome al traffico della droga se non l'ho mai sentito come faccio ad associarlo grazie signor Presidente mi scusi il Melluso chiede di essere posto a confronto con il signore Epaminonda Presidente per cortesia prima della richiesta di confronto una sola domanda al signore Epaminonda se non le dispiace la data della morte di Turatello se la ricorda no serve a me non la ricordo sinceramente la data esatta si si agosto 1981 non ricordo se il 17 agosto 1981 e se una domanda al signor Cancelliere per cortesia se è stato incartato che gli uomini di Cutolo 17 agosto 81 se è stato incartato che gli uomini di Cutolo non potevano neanche avvicinarsi a Milano si gli uomini di Cutolo non potevano neanche avvicinarsi a Milano una frase che ha detto il signore nel senso che se c'erano reagivamo benissimo grazie mi pare legittima la vangolarità della cosa che siamo e l'uso che ci chiede i confronti con tu facciamo favorevole si la corte io sono la voce della corte è stato rigettato perché stando i contrasti completi che ci sono tra la vostra versione e la versione di Paminonte non c'è possibilità di confronto quando la corte ha deciso non è che si può parlare né gli avvocati possono dire niente né voi potete dire niente se ne può andare Paminonte se ne ha aperto l'aereo lo potete fare con una dichiarazione con un'altra dichiarazione se ne può andare Paminonte se ne ha aperto l'aereo si si può l'autorare non c'è motivo la corte ha ritenuto no e quindi non c'è da fare io sono la voce della corte la corte ha ritenuto no la corte è formata così non è che sono soltanto io allora dobbiamo sentire chi? San Finipo ok no è San Finipo l'abbiamo già sentito chi? tasca e melluso poiché riguarda la stessa materia la conoscenza da parte di melluso di Turatella io ritrovo opportuno farlo adesso tanto sarà molto breve penso non lo so ma possiamo fare prima una cosa prima di fare i confronti vogliamo sentire l'unica che è rimasta appesa è San Finipo vogliamo sentire un momento prima di questo confronto non lo so è venuto Catapano e allora possiamo ripetere Catapano poi dopo facciamo allora ma Catapano non sarà breve perché fra l'altro abbiamo una chiesa Catapano viene da fuori viene da fuori la seconda volta l'abbiamo sottratto da un'altra autorità giudiziaria per sentirlo ieri l'abbiamo portato qua e non è stato sentito perché è arrivato tardi oggi è ritornato un'altra volta Catapano è su una piccola posizione soltanto con tasselle e basta Aspetta un minuto soltanto intanto voi dovete essere messi a confronto con Ballanzasca ancora Vuole salutare la corte l'avvocato Catapano è venuto? Sì L'abbiamo fatto ritrasportare la seconda volta ecco perché Ma questo non è Catapano Chi è? Catapano Guido Catapano Guido Catapano Guido Cominciamo adesso I discorsi a distanza cominciamoli Belluso lei sarà chiamato è stato chiamato un'infinità di volte oggi sarà chiamato ancora una volta e la corte ha ritenuto anche io ho espresso anche io mi sono associata alla richiesta del suo difensore per il confronto con i 3 minuti la corte l'ha arrestita Ma Belluso non ha diritto di avere tutte queste spiegazioni abbiamo fatto l'ordinanza e è chiusa adesso ne va a stare qui Allora Sì sì qua Catapano Guido Simeone che ha avvisato il confronto Comandante Comandante Dove sta? Ah sta arrivando eccolo Comandante vi potete per favore Cioè sono state dette in primo grado delle cose da Catapano Guido che non risultano riportate né nel verbale scritto dal cancelliere né nella trascrizione della bobbina assume l'avvocato Ah è la giusta del 10 giugno nel senso che al punto 17 dove è scritto Catapano Renato deve rendersi Catapano Guido Allora La questione sulla quale non erano non era stato verbalizzato regolarmente Non era stato verbalizzato una dichiarazione del Catapano nel confronto con Piedicini Luigi nell'udienza del 24 maggio dell'85 quindi giudizio di primo grado nell'udienza antimiridiana Il Catapano ebbe testualmente a dichiarare ed è strano che non venga riportato nel verbale e vi ho chiesto anche l'audizione della bobbina dalla quale mi auguro possa risultare a meno che il Catapano non confermi integralmente quelle dichiarazioni rese in primo grado Dicevo Presidente il Catapano ebbe a dichiarare testualmente che bisognava stare da una parte o dall'altra dello schieramento bisognava scegliere lo schieramento in quanto non era possibile per un detenuto non opportare per la nuova famiglia in generale in realtà più che non opportare per la nuova famiglia o per la nuova camorra cioè questo è nel carcere questo è nelle carceri nelle carceri nel carcere nel carcere allora Catapano avete fatto questa affermazione non proprio esattamente così signor Presidente comunque comunque per il caso di personaggi come Peticini e altri ragazzi si sono trovati in questa situazione sì è vero è vero in certi casi come il fatto di Peticini e altri detenuti in alcuni casi in alcuni casi si sono trovati costretti a essere legalizzati con la nuova comorra organizzata anche per Tassella ci vorrebbe questo vale anche per Tassella vale anche per Tassella beh Tassella io non lo conosco personalmente aspetta allora piano piano in alcuni casi in alcuni casi no carcere signor Presidente in alcuni casi di persone si sono trovati in situazione di doversi legalizzare come è successo con il Peticino che subì un passaggio da alcuni gutoliani nel carcere di Portazzurro per essersi rifiutato no perché venne scambiato per un appartenente alla nuova famiglia ecco io proprio questo Presidente no che lui spiegasse meglio come veniva esercitata questa costrizione mi pare che si interessa comunque sì Presidente chiarire questo punto qui chiarire facciamo scrivere un po' di più al canale e poi sì percorsi quest'altro ebbe un bestaggio ebbe un bestaggio nella quale si sono trovati alcuni detenuti allorché sono venuti in contatti con determinati personaggi questo è non è che in contatto con determinati carceri no con determinati personaggi che erano in carcere certo cioè io capitavo con non so con voi e allora dovevo scegliere per forza no non è vero capitavano anche persone che non dovevano scegliere rimanevano in mezzo a noi secondo la circostanza oppure in situazioni in cui si sono trovati queste persone Presidente a mia specifica domanda il catapano ebbe a dire che anche detenuti diciamo di psiche debole dovevano scegliere non potevano rimanere estranei quando si trovavano in questa situazione quando si venivano a trovare in questa particolare situazione a cui si è riferito è così in realtà ha risposto già il test cioè maggiormente insomma si potrebbe dire maggiormente quando il detenuto aveva una psiche debole se capisce la situazione signor Presidente vorrei spiegarlo perché credo che la situazione è questa il pedicino si è trovato a Porta Azzurro a Porta Azzurro il pedicino venne scambiato per un elemento dalla nuova famiglia e venne passato da Imperatrice Salvatore venne picchiato a sangue di fatti era presente anche Gualnieri Alfredo a questo passaggio perché era convinta che era un appartenente alla nuova famiglia questo ragazzo questo pedicino col tempo capito al carcere di Pianusa però prima venne però al carcere di Pianusa che già era stato legalizzato nel carcere di Poggio Reale da Amedeo Morra detto la Bussese e allora quando si in questa situazione che ha passato il pedicino e quando si sempre insieme ai gutoliani diciamo è stato un po' costretto da questa scelta di fatti io disse che il pedicino era un appartenente della nuova famiglia organizzata però il suo ruolo era quello di Picciotto ho sempre detto questo e confermo questo che lui faceva parte della nuova famiglia organizzata con il ruolo di Picciotto non era insomma un alto grado un alto grado certo si no lui non era ancora legalizzato venne legalizzato in un secondo tempo dopo il passaggio a Poggio Reale da Amedeo Morra e questi quindi dopo Portagio Reale è stato a Poggio Reale poi non so se si sia legalizzato in base a quel passaggio oppure si sia fatto legalizzare perché abbia fatto una sua scelta ma loro il Picciotto li intendevano legalizzato o li intendevano camorrista le riunioni dei camoristi degli sgaristi non può stare presente perché è un Picciotto cioè non c'è ancora quella fiducia che gli si può dare però è un appartenente a tutti gli effetti è un camorrista responsabilità limitata è un camorrista è il primo grado è il primo grado è un dato semplice quindi lo sapete siamo presenti Presidente io chiedo scusa ma devo insistere nei carceri laddove c'erano camorristi appartenenti alla nuova famiglia per un non affiliato né all'una né all'altra organizzazione era laddove c'erano nei carceri laddove c'erano camorristi appartenenti alla nuova famiglia per i non affiliati né all'una né all'altra organizzazione era possibile mantenere questo stato di estraneità o meno o si doveva optare per l'uno o per l'altro schieramento cosa che mi pare che disse il calabano a mia richiesta specifica ma questo non dico di non averlo detto l'avvocato può darsi anche abbia detto questa affermazione però l'affermazione mia è questa gli sto dicendo secondo il carcere c'è un'ipotesi c'è il carcere di santa maria capovetere che io non sono mai stato però so più o meno le strutture era un carcere che era situato in due divisi in due parti da una parte la nuova famiglia e dall'altra parte la nuova camorra organizzata quanto un detenuto neutrale si veniva a trovare in un carcere del genere con queste strutture qua allora diciamo la cosa erano tre le cose o si passava alla nuova camorra o si passava con la nuova famiglia oppure si andava alle celle e si chiedeva un immediato trasferimento perché automaticamente il neutrale entrando nel carcere e rimane nel carcere e va non so in una delle due ale dove sono situate le organizzazioni diciamo già automaticamente scassa nel riguardo dell'altra organizzazione quella cosa è di dire anche quella persona appartiene a loro anche se non appartiene a un futuro nemico che va eliminato questo sì lo confermo quindi in certi in certi caos secondo le strutture secondo i casi delle persone ha detto pure che avrebbe avuto la possibilità il neutrale diciamo di andare e di mettere in ovo in isolamento e chiedere di andare in ovo in questo esperimento va bene mi è sufficiente presidente grazie cioè lei Tassella ha detto che non lo conosce l'ha messa a verbano no non lo conosco va bene allora nessun confronto con Tassella poi c'è questa lettera che riguarda solo Catamano no ma il motivo del confronto poi non ho capito qual è con lui è stato strumentale perché siccome bisognava integrare un verbale che non era completo se no si faceva il confronto Catamano guido non veniva presidente per cortesia per cortesia presidente sia Melluso che San Filippo vorrebbero essere messi a confronto con il signor Catamano io farò volentieri con fronte però naturalmente dopo aver parlato dopo aver spiegato la corte a quest'aula tutte le cose poi farò più che volentieri con fronte se lei li concede con Melluso con San Filippo con Pandio con chi vuole lei è stata presentata in data 26 26 giugno 86 dall'imputato Tortola una lettera che sarebbe giunta a Tortola una lettera del Ticis 286 inviata da lei a Tortola la ricorda certo certamente e la riconosce la sua certo la confermo allora la lettera che è nel fascicolo dell'udienza del 26 686 presentata esibita alla corte dal Tortola e a mia firma a mia firma da me da me personalmente è stata inviata al Tortola fermo il contenuto del testo del contenuto della lettera certamente questa lettera fu letta già la volta scorsa quindi signor Presidente scusi vorrei vorrei consegnargli questi due fogli signor Presidente vorrei che sono io vorrei consegnargli questi due fogli che però la pregherei se vorrei dato agli avvocati di non leggerla di non leggere e sì perché mi servirà per il confronto ci sarà eventualmente con il signor Pandio anche non ce la leggeremo soltanto se non facciamo il confronto certamente no signor Presidente tratta della fedelizzazione delle persone cioè come si entrava nella nuova famora organizzata e sono due i pezzi cioè c'è la vecchia poi dopo la prima volta cioè come si veniva fedelizzata signor Presidente in un prima tempo poi venne trovata dai ma non ne parli non lo dica dia solo la rima certamente ma non è il problema avvocato perché tanto Pandio non la conosce sa solo la fedelizzazione ma non sa come il rito di affidazione lo saprà domani domani appena avrà allora dobbiamo disporre contanto a loro questa richiesta che spiegare se lei mi permette so che ecco questo processo d'appello viene dato viene viene usato come il primo grado forse viene dato più spazio un po' a tutti dissociati pentiti imputati avvocati e tutto se lei anche mi dà il mio spazio per poter spiegare la situazione parlerò prima del pandico signor Presidente poi dopo parleremo di melluso allora signor Presidente io in primo grado feci l'affermazione in cui io dichiarai alla corte dopo otto mesi dal mio pentimento chiarisco questo punto qua poi naturalmente mi verranno fatte le domande risponderò a qualsiasi domande dissi io fui uno di quelli insieme a Guarniere che dovevamo smentire il pandico il pandico Giovanni del primo grado ora Roberto Cudolo e altri cudoliani come Michele Iafulli queste persone qua ci dissero di preparare un memoriale questo memoriale venne preparato da me Raffaele Vaiano e lo misero a punto e presi gli accordi e i guarnieri per cercare di smentire il signor pandico ora signor Presidente io avevo appena due anni da fare avevo pochi anni da fare non avevo anche il mandato di cattura per l'associazione delinquere io non volevo prestarmi diciamo a questo fatto questo fatto non volevo mettermi in mezzo a queste cose proprio per la mia piccola condanna comunque Roberto Cudolo in una maniera o nell'altra erano ordini neanche più che altro le cose si chiedevano ma quanto uno poteva rifiutare si venivano un po' imposte insomma lo feci presente però Roberto Cudolo con me non si è mai imposto perché era un appartenente che Roberto Cudolo mi teniva abbastanza in considerazione come ragazzo e signor Presidente Roberto Cudolo a me mi disse e io lo riconfermo mi disse Guido guarda io gli dissi che cosa abbiamo a che vedere con questa persona se la deve spiegare lui non sono fatti nostri se è innocente uscirà noi non abbiamo niente a che vedere Roberto Cudolo mi disse Guido effettivamente dice guarda è un amico è stato appontato anche con esponenti da una nuova comune organizzata per il traffico di droga queste cose qua però signor Presidente io in primo grado cioè quanti io mi pentì a novembre non ho mai dichiarato queste cose le ho dichiarate dopo otto mesi sette mesi perché feci anche presente che quello che mi aveva detto Roberto Cudolo era solo un modo per incitarmi per convincermi andare avanti con questo memoriale cioè andare avanti sulla cosa convinto certamente andare avanti sulla cosa convinta signor Presidente certo all'atto del pentimento no lo disse in primo grado dopo otto mesi sì signor Presidente dopo otto mesi circa è così sì sì certamente signor Presidente naturalmente di queste cose però io ho sempre espresso che per me non non si rivelava una verità perché Raffaele Cudolo signor Presidente che conosciamo bene molti noi molti di noi era una persona che faceva capire che l'organizzazione era forte sì l'organizzazione ma magari conoscevamo un sindaco Raffaele Cudolo aveva un sindaco corrotto un assessore un'ipotesi e a noi ci faceva capire che niente niente aveva Andreotti che era corrotto per ipotesi oppure chi lo sa chi aveva comunque io sono stato sempre qui di quell'opinione che che non c'entrasse niente ecco che era tutta una cosa un po' costruita comunque signor Presidente vado avanti io in un interrogatorio signor Presidente e dico subito signor Presidente che io non farò nome di magistrati lo dico subito chiaramente che sia chiaro per tutti sia da Avvocati o dal signor Pubblico Ministro io non farò nome di nessun magistrato io ho avuto collaborazione con i magistrati e tutto quanto se ci sono state qualcosa lo sanno loro voglio comunque dire che in un interrogatorio signor Presidente in cui mi venne chiesto che io ero in cielo con Pandico perché Pandico quanto si è pentito era in cielo con me signor Presidente e andò a parlare con il maresciallo con la scusa del maresciallo invece si andò a dissociare si andò a pentire e in questa agenda un magistrato mentre faceva il mio verbale mi chiese ma hai visto l'agendina di di Pandico dissi no effettivamente io questa argentina non l'ho mai vista signor Presidente questa argentina mi disse e non hai letto il nome di Enzo Tortola su questa argentina no disse invece noi lo mettiamo nel verbale dissi no guardi non metto niente perché assolutamente io non ho visto niente e non voglio che venga messo cioè nel mio nel verbale che io abbia potuto vedere questo nome al signor Pandico perché non era vero signor Presidente poi vorrei dire io sono rimasto 23 giorni signor Presidente nella sezione speciale di Poggio Reale dopo il mio distorsiamento e in queste 23 giorni signor Presidente l'ha distorsiato e c'era anche Guarnieri io gli posso dire i nomi di tutti i gutoliani che c'erano in quella sezione in quell'epoca quando vi siete distorsiati quanti ero già distorsiato signor Presidente io mi sono distorsiato il 5 novembre dell'83 signor Presidente io sono rimasto fino a mi sembra il 20 5 novembre se non sbaglio guarda signor Presidente non è che l'ho scritto non è che l'ho scritto mi potrei anche sbagliare veni portati in una caserma verso il 22 e il 23 assieme a Guarnieri sempre se non sbaglio e sono rimasto 23 giorni dentro questa sezione e in questi giorni signor Presidente io ho subito una perquisizione sono stato messo assieme agli altri detenuti e già ero un distorsiato e già ero un pentito e non capisco come mai ci sia rimasto tanti giorni in questa sezione di sicurezza signor Presidente che era facile sapere le cose appoggio le aree ed era facile uccidere la gente poi nella caserma Pastrenga signor Presidente quando io arrivai mi venne data una stanza e ce la alloggiavano il pandico mi sembra in quel periodo incarnato e barra io e il primo modo di incontrarmi con si Pastrenga parla no in una stanza cioè in una stanza solo io c'era cioè nella caserma c'erano certo anche di parlare con il pandico e siccome signor Presidente si è parlato io già sapevo questa storia che lo stesso pandico ecco lo spiego ora lo spiego è questa la storia signor Presidente che pandico non è stato mai un fiduciario di cutolo pandico non è stato mai consigliore signor Presidente perché glielo dico io ci sono tanti pentiti che morissi lei può chiedere a chiunque signor Presidente cioè qui non si fa fondo di questi piccoli particolari che possono sembrare insignificanti per smascherare una persona che sta mentendo o che è un caluniatore cioè se noi trascuriamo questi particolari non si potrà mai scoprire la verità cioè è inutile ha capito che cosa voglio dire e allora io voglio dire signor Presidente il signor pandico non è mai stato un uomo di fiducia di Raffaele Cutolo se lei vede quanti giorni è rimasta da scolipicene è stato un tempo ristretto signor Presidente ma rendiamoci conto che il signor pandico è arrivato nel carcere di Ascoli Viceno un carcere di massima sicurezza signor Presidente di massima sicurezza io ho fatto tre anni di speciale è arrivato in un carcere di massima sicurezza ma che perogolosità rappresentava il signor pandico era forse un soggetto che era pericoloso nei carceri perché poteva commettere un omicidio perché poteva tentare un'evasione perché forse era un boss di qualche organizzazione era una figura che non era conosciuta assolutamente da nessuno no dopo via certo 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 deve prima parlare no signor certo fate silenzia dopo avrete il concorso fate silenzia deve prima parlare certo certo dalle prove le sue prove signor Presidente le prove che ha costruito su Enzo Tortola e su altre povere gente che che non si chiamano Enzo Tortola signor Presidente allora stavo dicendo il signor pandico come dicevo non è una una figura signor Presidente che può rappresentare un pericolo questo questo trasferimento di essere portato ad Ascoli Piceno è a quanto strano specialmente in un carcere dove c'era Raffaele Gutolo dove Ascoli Piceno veramente era la centrale della NCO e venne portato là non poteva mai essere un uomo di fiducia in una di queste riunioni quanto pandico era già presente perché pandico ad Ascoli Piceno signor Presidente pandico ad Ascoli Piceno signor Presidente non faceva che altro che lo scrivano ma lo scrivano lo sa in che senso che a Raffaele Gutolo quest'uomo faceva pena signor Presidente gli passava 300.000 lire al mese per scrivere le cartoline le lettere ai gutoliani nei carceri ecco cosa faceva signor Presidente data che Gutolo in quel periodo 82-81 era una persona che gli scrivono anche le persone dalla libertà anche i disoccupati signor Presidente tutti a chiedegli un aiuto ecco il ruolo del signor Pandico allora signor Presidente aveva il timbro di Gutolo certo sì l'avevo no signor Presidente guardi che dico io vuol sapere lei che cosa ha portato di prova il signor Pandico per far vedere per far vedere che lui poteva essere guardi era in cella con me signor Presidente io gli dico un'altra cosa cioè sto saltando certi tempi ma li riprenderò li riprenderò capito perché il gioco ieri il signor Meluso l'ha potuto fare con D'Amico con D'Amico con me non ci riesce su questi giochi gli voglio dire guardi era consigliore dice Pandico dice Pandico allora io gli dico una cosa signor Presidente un mese prima un mese prima del pentimento di Pandico Giovanni Pandico Giovanni dalla NCO aveva presa la sentenza di morte signor Presidente gli dico un'altra cosa signor Presidente era stata emessa la sentenza di morte nei suoi confronti da chi dalla nuova capolore organizzata da noi da noi perché io non ero un capolore signor Presidente signor Presidente io gli stavo dicendo no? gli stavo dicendo venne data la decretata la sentenza di morte dalla nostra sezione dal nostro blocco sia ben inteso perché la sezione signor Presidente è una sezione intera è formata in tre blocchi nel nostro blocco eravamo 12 cutoliani signor Presidente da 10 cutoliani venne decretata dalla sentenza di morte e il pandico si trovava in cella lui e Guarnieri Affrito al Guarnieri Affrito non venne mai detto nulla perché era un ragazzo che si era fatto un po' plagiare dal signor Pandico ecco per dirlo signor Presidente viene decretata una sentenza di morte contro un consigliere di Cutolo e chi potrebbe dare una sentenza di morte? io che sono uno sgarista perché? perché fu signor Presidente perché? fu mi spiego perché stato che il passato sapevamo chi era Pandico signor Presidente se era arrivato adunque signor Presidente che il signor Pandico ma vogliono cercare di sapotarmi questo l'ho capito anche io ma non c'è problema signor Presidente non saranno certamente queste chiacchiere a smontarmi non esiste ma allora che fu messo? gli stavo dicendo signor Presidente glielo dico io no perché noi siamo arrivati a convincimento e qui in questa aula ci sono camoristi che erano nella mia sezione come Sandro Fusco Antonio Danna ed altre persone e c'è anche il pentito Franco Leonardo che può dare conferma di questa sentenza di morte decretata da noi eravamo arrivati a convincimento non a convincimento ma eravamo sicuri che il suo passato del Pandico fosse un confidente dei carabinieri signor Presidente e al carcere di Pianusa al carcere di Pianusa aveva lunghi lunghi signor Presidente dentro un carcere speciale difficilmente si abbiano dei collochi con il maresciallo che durano ore ore noi eravamo arrivati a convincimento che lui fosse un confidente signor Presidente e noi siamo anche dagli agenti di custodia io oggi che sono un pentito un distociato ne sono ancora convinto Presidente le domande le rivolgiamo dopo e facciamo più parlare alla fine perché adesso signor Presidente riallacciamo il discorso di Ascoli Piceno e perché è stato messo in mezzo il signor Tortora dal Pandico questo quanto lui si è trovato dentro la cella di Raffaele Cutolo si trovava Raffaele Cutolo Marco Medda imperatrice e non ricordo chi altro e c'era anche il Pandico e c'era anche il Pandico signor Presidente c'era anche il Pandico signor Presidente lei allontana sempre i detenuti allontani anche i pentiti quanto danno fastidio se voi date fastidio vi dobbiamo allontanare quindi se volete restare in aula anche a sentire perché potrebbe essere anche dopo ma adesso sta parlando e quindi Catapallo ha il diritto di parlare quando avete parlato voi avete parlato e nessuno vi ha disturbato adesso non disturbate Catapallo stavo dicendo signor Presidente certo imperatrice e il signor Pandico questo in che periodo? era nell'82 nel periodo guardi io non gli posso dire le date signor Quasigniere mi posso ricordare certe altre no era nell'82 quando lui si trovò ad Ascoli Piceno 81 non so 81 82 non so c'era anche lei? no io non c'era signor Presidente vuole far sapere queste cose? questa signor Presidente mi è ineditata Vito Pesce Vito Pesce signor Presidente che era di Milano era uno sgarista un capozona di Milano c'è qualche domanda che dovrei fare proprio su Vito Pesce sì allora signor Presidente no io questo sto facendo ma siccome ho visto che è stato comunque interrotto non è stato interrotto perché sono per dare una precisione di competenza ma sempre che interrotto non c'è problema io mi fermo al mio punto signor Presidente io vengo interrotto ricomincio sempre da zero da tre come diceva Troisi io ricomincio sempre da tre non c'è problema continui allora signor Presidente stavo dicendo stavo dicendo in questa in questa riunione si stava parlando di dare della droga della copaina signor Presidente a una persona una persona della fiancheggiatura non so un legalizzato e Marco Medda imperatrice parlavano dicendo a Raffaele Cudoro ci potevamo dare tramite i nostri comparifuori questa droga in consegna a questa persona per lo spaccio Raffaele Cudoro signor Presidente disse a Marco Medda imperatrice disse non è che facciamo la fine la fine di Tortora a questo punto sentendo il nome Tortora il signor Pandio certo ha una persona un fiancheggiatura della nuova camorra pianizzata è strana è strana la nuova camorra è un fiancheggiatura signor Presidente un fiancheggiatura è strana però non legalizzata al che cuto osservò certo osservò disse no osservò disse non è che facciamo la fine di Tortora che gli abbiamo dato la droga se come c'era il signor Pandio cosiddetto consigliore disse Pandio disse compare dice ma di chi state parlando di Tortora quello del pappagallo come usa dire lui Raffaele Cutolo signor Presidente che fa il pazzo ma non è pazzo Cutolo sì certo gli chiese questo fatto qua Raffaele Cutolo signor Presidente per sviare le cose perché non era una persona di fiducia signor Pandico e lo dimostreremo con altri fatti che non era nessuno è Tortora del pappagallo disse sì dice quello del pappagallo disse quello del pappagallo è così signor Pandico immagazzinò questa faccenda qua arrivando poi all'accusa del Tortora signor Presidente questo è un fatto che io quanto sono stato nella caserma pastrenga signor Presidente io volevo dire questo signor Presidente certo io volevo dire un altro che è successo che è successo e non è preferibile fa tanto caldo potesse stare in corrente io allora signor Presidente Cutolo rispose sì 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 quello del pappagallo in realtà Cutolo a chi si riferiva lo sapete si riferiva a un altro Tortora signor Presidente un Tortora che io non so se può essere qui si è fatto Rolando si è fatto Enzo Berry tante altre persone come fate a dire che si riferisse a un altro Tortora signor Presidente si riferiva a un Tortora che sta nella provincia di Caserta che è un affiliato alla nuova camara organizzata e che tratta proprio negli stupefacenti nella nella cocaina signor Presidente ma non era Enzo Tortora signor Presidente voi però voglio voi eravate presente a questo discorso no 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 io l'ho detto signor Presidente queste sono cose che mi questo discorso io non ero presente certo io l'ho detto era presente Marco Medo signor Presidente Vito Pesce questa gente è qua io l'ho detto però signor Presidente tutto segnato signor Presidente no vado sempre avanti con il mio discorso che qua sarà difficile lo c'è stabilire insomma chi mente chi dice la verità io signor Presidente mi trovo come sa la mia lettera è arrivata dal carcere di Prescia non come sostiene il signor Pandico o qualche di un altro a Benevento non Benevento io sono nel carcere di Prescia da dieci mesi io signor Presidente suffluisco di permessi suffluisco ogni anno della riduzione pena per la buona condotta signor Presidente ho tre anni e mezzo da fare frequento corsi di scuola cioè e sono tre anni che sono dissociato voglio dire questo perché io non vengo davanti a una corte a giocarmi a calunniare o a dire delle bugie e a giocarmi le mie cose per difendere o a un tortolo o a quella che sia o a quella che sia non vengo qua a dire questo perciò io sto dicendo delle verità che adesso ho l'opportunità di poterle dire cioè quelle cose che so io forse a voi vedere se sono verità o menzugne stavo dicendo signor Presidente nella caserma prastringo mi trovai a mangiare con il pandico ora arriva il perché non era tortolo signor Presidente siccome il signor il pandico ogni tanto ci veniva portato del vino del mangiare buono si poteva stare insomma si poteva vivere cioè è come nel cacere viene portato un pacco e mangia meglio di lui signor Presidente e il signor pandico non si era accorta che si era fatto un bicchiere di vino di troppo signor Presidente e andò il discorso del signor Tortola e si atteggiava signor Presidente di questa maglia di questa intriga che aveva fatta e che portava avanti il signor Presidente e lui proprio mi diede la conferma che io già sapevo del fatto di Tortola della storia cioè della riunione con Cutolo e tutte queste cose qua signor Presidente però non gli nascondo non gli nascondo signor Presidente ma allora voi dite che Pandico non era neanche lui convinto di quello che aveva sentito dire da quando Pandico che si era accorta un ruolo di torto no signor Presidente Pandico se ne è reso conto dopo che il signor Tortola Enzo non c'entrava niente lì per lì se ne è reso conto dopo signor Presidente che si trattava di torto del papagallo certo certo se ne è reso conto che non era quel Tortola Enzo Tortola il rappresentatore ma bensì un altro Tortola era il Tortola che l'ho indicata che non so chi sia però poi signor Presidente comunque io ero appena arrivato nella caserma era arrivato da circa dieci giorni era ancora un po' frastornato nel carcere di Avezzano signor Presidente io scrissi una lettera scrissi una lettera nel carcere di Avezzano scrissi una lettera a un giudice signor Presidente e spiegai e disse signor giudice se lei mi può chiamare perché io ho alcune cose da riferire e volevo parlare appunto di queste cose signor Presidente vieni chiamato vieni chiamato dopo una settimana venire portato in caserma alla pastrengo accennai di queste cose a un colonnello dei carabinieri dissi guardi colonnello disse io ho saputo queste cose cioè sono sicuro di queste cose perché ci sono altre cose che coincidono altre cose e qui è un castello di menzogna contro questo Tortola Enzo il colonnello mi disse va bene Catopano dice riferiscilo al giudice parlai col giudice signor Presidente però parlai più che altro accennai in qualche cosa dissi guardi signor giudice qui ci sono certe situazioni però non riuscii a parlare gli dissi solo che riguardavano Tortola mi disse aspetta che ora vedo se ti posso far rimanere in caserma andò a parlare con il colonnello non so per quali motivi signor Presidente comunque io in caserma non ci rimasi rientrai il giudice mi disse che sarebbero venuti loro al carcere signor Presidente di fatti dopo 15-20 giorni un mese vennero alcuni magistrati ad Avezzano e io andai andai giù signor Presidente da questi magistrati e trovai il signor Pandico il signor Pandico parla questi magistrati e feci presente a loro e lo dissi davanti a loro e gli dissi guardate che il signor Pandico Giovanni nella camorra non era nessuno lo sa come mi attaccò il signor Pandico disse mente dice mente è un falso pentito è un infiltrato sta in mezzo ai pentiti per uccidere insomma cerco di crearmi quel terrore di crearmi quel terrore mentale e di crearmi quegli stati d'animo insomma che io avrei dovuto dire no va bene mi sono sbagliato e tutto quanto comunque io lo feci presente e tutto quanto poi non è come come dice il signor Pandico come dice il signor Pandico il signor Presidente che c'è? non mi interessa io vi dico che Pandico io il signor Presidente io dovevo diventare un capozora io dovevo diventare un capozora uno sgarista io ero un capozora io non sono mai stato un camorista e sono molte più cose del signor Pandico c'è lui il consigliere deve sapere più cose di me a livello di camorra non mi interessa ma bisogna il troppo ho fatto ma quello che si può dire Cattapani in questo processo non è appellante è la sentenza passata in giudicato sta dicendo delle cose che non mi interessano nessuno vedo nemmeno il difensore di Tortora è inutile perdere quindi possiamo scrivere piuttosto rapidamente possiamo dire piuttosto rapidamente non ho capito il signor Portigliere ho detto lei non è appellante la sentenza è passata in giudicato quindi non deve fare dichiarazioni che riguardano lei le dichiarazioni degli altri non riguardano nessuno ma quali le dichiarazioni sto facendo a me signor Pansigliere scusi adesso sto facendo le dichiarazioni su Pantico su Pantico su Pantico io sto parlando su Pantico io comunque finisco signor Presidente ma io posso anche stringere se è che finisco l'interrogatorio qua non c'ho problemi se devo parlare parlo signor Pansigliere ho capito raccontare nuove storie noi già stiamo piedi dando la testa con le storie io finisco signor Pansigliere se lei mi dà l'opportunità io finisco con questo interrogatorio di Pantico poi dopo parleremo di Melluso e poi dopo signor Pansigliere c'è l'interesse bene c'è la curta interessa ma se ci deve dire cose nuove interessanti e serie non lo so queste sono cose vecchie signor Pansigliere qualcosa abbiamo già sentito sono cose serie ma no sono cose che non ha vissuto lei direttamente come già dire a raccontare fatto di astoli dopo lei ci sono cose anche che ho vissuto direttamente signor Pansigliere è qua è qua il punto perciò soltanto quello che ha vissuto direttamente lei il resto lasciamo ecco allora dopo signor Pansigliere lei dice di fare delle cose che io ho vissuto direttamente allora dopo prendiamo un po' appandico e gli dica signor Presidente perché qui bisogna arrivare a queste cose qui di legalizzare una persona cioè lui è il consigliere come dice non esiste il consigliere ripetiamo la stessa cosa voglio vedere se ci riesce signor Presidente non è detto che tutti ci devono riuscire perché non tutti sapevano come si legalizzava però tutti i camoristi pentiti che vengono qua e lei potrà leggere quella che io gli ho consigliato quel foglio che gli ho consigliato potrà chiedergli se gli ricordano qualche cosa di camorra e gli risponderanno tutti la stessa cosa comunque io volevo dire che il signor Pandico si è preso anche 80 milioni per scagionare Pupetta Maresca signor Consigliere non so questa lo sapeva lei non so se lo sa sull'omicidio Semerari vabbè diciamole queste cose diciamole cioè non facciamo parlare solo il Pandico il Pandico il melluso è appunto io sono qui io parlo cioè dirò le mie cose e poi dopo sta a voi ma come ha saputo però questo fatto ma ci deve dire i fatti ma sono certo certo e chi gliel'ha dato come fa a saperlo lei lui signor Presidente lui lui stesso lui stesso signor Consigliere in caserma e come ha detto anche il fatto di Enzo Tortola lui stesso me l'ha confermato queste cose ecco perché io racconto fatti e poi dopo ritorno a lui comunque signor Presidente il fatto della sentenza di morte su questo particolare di Tortola in realtà il Pandico in caserma le avrebbe confessato di avere accusato Tortola sapendolo innocente certamente non ha detto questo prima ha detto una cosa completamente che cosa vorrei conoscere io sto fare faccia procuratore generale lei non deve chiedere a me l'autorizzazione le domande le facevamo in ultimo io mi sono affermato su un'impresa io vorrei che specificasse precisasse il suo principio ma allora rileggiamo il verbale perché l'ha già specificato questo qua tanto vero che ha detto no è certamente buona vita e Cutone che l'ha preso in giro ma l'ha detto sì come del pappagato l'ha detto ed è stato verbalizzato che vuole che deve girare che in Caselma no in Caselma mi confermò l'ha detto lì l'ha detto procuratore generale lei non può distorcere il pensiero del difensore è lei che sta cercando di distorcere il pensiero lascia che glielo dico con chiarezza senta guarda io non l'autorizzo a usare un tono del genere procuratore generale e proprio mi formalizzo a questo punto e ritengo che lei debba chiedere scusa a questo difensore per le espressioni adoperate in quest'aula ritengo che lei debba chiedere pubblicamente scusa a questo difensore guardi proprio glielo chiedo formalmente io normalmente le chiedo di modificare il suo linguaggio quando parla di modificare chiedetevi scusa quando parla e proseguiamo no perché lei ha detto spiegamente se lei non può travolgere che significa che io sto travolgendo il pensiero di cose no distorcere il mio pensiero non il pensiero procuratore generale il mio pensiero non il pensiero dell'immedente la risposta comunque era dovuta mi scusi mi riferivo al mio pensiero non al pensiero di quindi e lei mi deve chiedere scusa pertanto va beh c'è una risposta su un equivoco va beh allora quindi riprendiamo comunque comunque signor presidente io avrei già finito comunque signor presidente infatti io non mi sono confuso in nulla nel rispondere confermo che in caserma la pastringa pandico quando fece il monpranzi e lui si era bevuto un bicchierino un po' di troppo mi conferma effettivamente che non era Enzo Tortora poi vorrei dire anche dato che ha sostenuto lui che io avrei subito delle aggressioni nei carceri per chissà quale cose per accusare ritrattare io non ho mai ritrattato su nessuno io signor presidente accuso 200 appartenenti alla nuova camorra organizzata e sono testimone su 12-13 omicidi di camorra e lei può controllare che io non ho mai ritrattato su niente l'unica aggressione che tentarono di farmi è a Campobasso e me ne ha tentato di fare pandico Giovanni e il fratello tanto è vero tanto è vero e questo si possono controllare signor consigliere con fatti con fatti al carcere di Campobasso che il pandico venne trasferito sia per il fatto mio sia per altri fatti che non intendo dire dentro quest'aula comunque e venne mandato al carcere di Pescara ecco dove ho subito io l'unica aggressione che a lui che a lui dice pentiti e ha subito l'aggressione o non l'aggressione ma basta dopo il pandico del fratello di Pantico poi vorrei dire signor presidente belluso ho finito ho finito con Pantico l'ultima cosa su Pantico si ancora ci sarebbe da fare un fotocomando non ancora signor presidente io vorrei dire signor presidente vorrei dire una cosa no vorrei dire una cosa dentro quest'aula no io sono un pentito ma sono un detenuto e devo essere trattato come i detenuti che stanno dentro quella cabbia se io mi permetto di dare fastidio alla corte agli avvocati agli imputati lei mi deve mandare fuori cioè qui non ci devono essere trattamenti c'è i signori là dato che sono esibizionisti e sono sempre a caccia di queste cose lei li deve buttare fuori non è una lezione signor Pubblico io non sto dando la lezione a nessuno io sto dicendo che io sono stato buttato fuori dall'aula al primo troncone solo per aver detto una parola e allora facciamo tutte le cose uguali io non voglio dare lezioni a nessuno di vita voglio dire signor presidente c'è una lettera che di Monaco mandò alla corte mi sembra del primo del secondo troncone del terzo troncone voglio dire o del secondo o del primo non ricordo dove è imputato di Monaco nella quale lui aveva ritrattato le accuse contro Tortola ufficialmente per far sentire anche ai colmeristi come diceva lui in un secondo tempo in un secondo tempo signor presidente lui scrisse una lettera alla corte dove diceva che aveva ritrattato l'accusa contro Tortola perché aveva paura di essere ucciso e nei confronti dei camoristi insomma per far vedere che lui ritrattava questa lettera però signor presidente signor presidente questa lettera lui la scrisse da carcere di campo basso si trovava al pianterino assieme al pandico Giovanni la lettera gli era scritta a pandico Giovanni la lettera venne scritta con la macchina da scrivere signor presidente e da premettere signor presidente e da premettere io lo dico adesso che di Monaco che di Monaco che la lettera è stata suggerita dal pandico e di Monaco signor presidente non sa né leggere né scrivere perciò più prova di così di Monaco Franco non sa né leggere né scrivere la lettera è lo stesso di Monaco me lo disse a me che la lettera gli viene fatta scrivere da signor pandico a Giovanni e lui lo sa bene a campo basso pianterino non sa né scrivere né leggere gli scrivo io le lettere per la fidanzata allora queste sono afferite frasi insomma frasi piccolissime non so che il di Monaco non è un alfabete e il di Monaco viene riferito alle circostanze a circostanze che gli era stato scritta lui e questo a me l'ha detta perché con me c'è stato due anni due anni siamo stati sei mesi assieme sì io voglio dire signor Presidente che tutto quello che ha detto è falso a cominciare dalla fotografia con la Susi la fotografia con il signor Enzo Tortora e la ragazza Mona signor Presidente in mell'uso telefonava a questa ragazza tedesca e me lo diceva lui lui signor Presidente per farla venire in Italia perché voleva che questa ragazza adesso si conferma che a un incontro a un incontro di fatti lui ha detto che al signor Tortora l'ha incontrato per consegnargli della cocaina ed era in compagnia di una ragazza e voleva farlo confermare l'accusa da questa ragazza qua la falsa aggressione del fratello Vittorio sono tutte cose confermate da lui signor Presidente la conoscenza di Duratello che non esiste lui non conosce Duratello e dopo gli dirò anche che non conosce Duratello con fatti pure il fatto di aver incontrato Francesco Pazienza Calvi Tortora nell'ufficio la sola tutto grado tutte falsità signor Presidente sono tutte bugie signor Presidente sono stato due anni melluso e tanto fulbio si pensa di avere una furbizia a età una furbizia da idiota io lo dico io perché lui è convinto di venire davanti a una corte davanti a degli avvocati davanti a chiunque e prendere in giro a tutti io ce lo sto non attaccando dicendo la verità e lo sto dicendo signor Presidente perché cosa è successo a parte il fattore della condanna di Tortora che si è condannata a dieci anni e io so che lui è innocente io lo so poi sarà la corte credeci o non credeci io lo so io voglio dire a noi ci hanno ammazzati i familiari ma l'incarnata gli hanno ucciso un familiare a parecchi pentiti sono stati uccisi i familiari sono state messe bombe e minacciate questo signore qua signor Presidente ne ha sempre approfittato lo sa quanto ha preso per fare le interviste ai signori giornalisti non dico qui presenti i giornali oggi gente quelli che stiano ha preso 60-70 milioni signor Presidente 5 milioni a destra e 5 milioni a sinistra per fare le interviste che gli devo dire che quanto si è sposato al suo matrimonio si è fatto dare 10 milioni ma insomma ma qui siamo dentro un'aula di giustizia noi ci stanno ammazzando i familiari Presidente io ricevo una telefonata di minaccia ogni due giorni per dirgli che mi minacciano la famiglia perché sto accusando Raffaele Cutero e tante altre persone non possiamo avere un'immagine non dico al livello di magistratura perché io quando vado davanti a un magistrato e porto dei fatti vengo creduto vengo creduto ma dico al livello di opinione pubblica a livello di tutto dico a passare come dei cani come dei cani come stiamo passando come persone che io lo sa in cerca di che cosa dei vermi questo noi non lo possiamo accettare perché ci ammazzano i familiari se ci ammazzano i familiari se ci minacciano signor Presidente qualcosa di vero stiamo dicendo e non è giusto che non capisco come mai Belluso sia stato inserito in questo processo poi signor Presidente anche questo è un mistero sia stato inserito nel nostro processo c'è della nuova camora organizzata comunque signor Presidente dicevo le accuse anche contro queste sono tutte cose dette da lui signor Presidente le accuse contro Walter Chiari Patrizia Caselli Carifano signor Presidente tutte cose perché la sera siamo stati sei mesi in cella la sera noi parlavamo di lui abbiamo sempre parlato di lui qualcuno potrebbe dire Catapano ma perché non l'hai detto prima Catapano andava a finire la pianosa speciale Presidente glielo dico io comunque ti stavo dicendo queste accuse qua signor Presidente queste persone qua lui ha pensato bene se Francesco Duratello signor Presidente lui si considerava un uomo di fiducia dice che lui era l'uomo di fiducia di Francesco Duratello da tenere conto signor Presidente che qui si parla del 76-77 lui aveva 18-19 anni Francesco Duratello era circondato signor Presidente dai peggiori mafiosi dai peggiori mafiosi signor Presidente che erano emigrati a Milano e Francesco Duratello era il figlioccio figlio anzi legittimo se non mi sbaglio di Franco Oppola cioè non era un cretino cioè non so dare 20 kg di cocaina in mano a Melluso però naturalmente da 20 kg di cocaina e 10 kg quelli che sono li dai in mano a Melluso in varie fasi dice portala a Tortora sì lui lo dice ma a un certo punto non può dire io sono un fiduciario io ero qualcuno in questa organizzazione non posso dire che la cocaina la portavo solo a Tortora devo metterci il contorno e allora che contorno ci mette? ci mettiamo a Valterchiari naturale Valterchiari già avuto dei precedenti per gli stessi reati Califano anche lui Califano non ha mai nascosto di usare sostanze stupefacenti ma queste sono parole sue io gli sto dicendo le parole che Melluso diceva a me signor Presidente e insomma andando avanti è accusato anche Califano volevo accusare Amanda Lira Ornella Mudi Pippo Paudo tra un altro po' signor Presidente tutto lo spettacolo stava tutto in carcere tutto appoggio reale lo voleva trasferire comunque gli sto dicendo signor Presidente perché le ha messe vicino perché deve dare una certa credibilità non poteva dire sì io davo la cocaina solo a Turatello come tu un grande personaggio che stai in una grande organizzazione la dai solo a Turatello voleva accusare Silvio Berlusconi signor Presidente lo sa perché voleva accusare Silvio Berlusconi no però per traffico di droga non lo poteva fare Berlusconi è un miliardario scherziamo accusare Berlusconi di che cosa di traffico di droga è una sciocchezza accusarlo che lui riciclava i soldi dei sequestri il colmo proprio riciclava i soldi dei sequestri lui dice questo l'ha detto lui questo l'ha detto lui certo e tutto quello che gli sto dicendo e quando aveva detto queste cose quando aveva fatto tutte queste confidenze c'era qualcuno presente sì c'è stato anche l'amico ma queste confidenze signor Presidente a me me le faceva perché con me c'è stato sei mesi due anni assieme e sei mesi in cielo con me ha capito lui si pensava che era davanti a lui un altro melluso di Giovanni io lo dico io poi dopo signor Presidente stava prendendo accordi e questo c'è un altro pentito stava prendendo accordi per accusare Renato Pozzetti assieme a Uriema un altro pentito a Campobasso per accusare Renato Pozzetti mettendosi d'accordo e rilasciando l'ennesima intervista ai giornalisti per prendere un altro po' di milioni e mi propose signor Presidente di accusare Califano di accusare Califano perché io Califano lo incontrai lo incontrai non l'ho incontrato Califano cantava un locale il MAC 2 in provincia di Modena e io lo incontrai lo incontrai che andai a questo locale con la mia ragazza e c'era Califano io raccontai questi episodi a Meluso signor Presidente e lui mi disse sei uno stupido perché lo potresti accusare e nessuno ti potrebbe smentire di fatti io Califano nel 79 nel 1979 mese di agosto a settembre signor Presidente fece una tournée di 3 o 4 giorni in questo locale è stato 3 o 4 giorni io l'ho incontrato sono andato a applaudire ci scambia anche una parola così perché lui veniva da Roma io ho molti amici romani e io raccontai questo fatto a Meluso e Meluso mi disse perché non lo accusi ecco e io non l'ho accettato naturalmente signor Presidente io sono stato nel 1978 77 sono stato assieme a Renato Valanzasca a Cacciare di Pisa anche se Renato Valanzasca ha le amnesie non si ricorda va bene con Ferrorello con Claudio Gatti con Lello Di Palma ed altri ragazzi con Valanzasca Claudio Gatti 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 Lello Di Palma non ricordo il nome Lello veniva chiamato Di Palma mi sembra Vincenzo Di Palma non ricordo bene Raffaele qualcosa di gioco e Valanzasca Renato e mi trovavo a Pisa con loro signor Presidente era il periodo in cui erano in guerra erano in guerra cioè Renato Valanzasca con Francesco Duratello lo ricordo benissimo e gli dirò una cosa e si parlava tanto si parlava molto dei fatti di Milano signor Presidente di Duratello degli agguati che subiva Duratello e tutto quanto io non ne rascondo io in quel periodo simpatizzavo per Renato Valanzasca per il suo gruppo perché conoscevo molti amici suoi io e altri amici miei simpatizzavamo per Renato e di questo come l'uso Giovanni signor Presidente non è stato mai assolutamente accennato che è stata affiliata a Turatello comunque vado avanti io gli voglio dire una cosa signor Presidente nel 74-75 ho detto le date non le dirò precise perché ma sta registrando l'avvocato sta registrando i giudici dicono di stringere io lo capisco cosa devo fare io dico concisamente io faccio quello che mi dite però sta scrivendo scrive rapidamente 74-75 eh? nel 74-75 74-75 signor Presidente successo uno dei tanti episodi però questo è un episodio che insomma lo sanno tutti si 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 melluso dice dice di essere stato fiduciario di Turatello che rendiamoci conto signor Presidente Turatello era circondato dai più grandi mafiosi d'Italia no io lo ridico perché bisogna ricordare questo Francesco Turatello nel 74-75 venne attaccata una sua bisca signor Presidente una sua bisca venne venne sparata venne sparata in questa bisca no e venne sparata da Renato Valanzasca Vito Pesce ed altre persone questa bisca signor Presidente si trova in una strada di Milano ed è situata in un posto che io non dirò non dirò perché lo deve dire melluso signor Presidente melluso melluso lo deve dire dove si trovava la bisca qual era perché c'è melluso il fiduciario e io so solo questi fatti signor Presidente questi fatti qua che sono fatti realmente accaduti perché c'è qui si mette a melluso a dire di raccontare episodi accaduti a Francesco Turatello quello che non ha fatto Renato Valanzasca venendo qua perché Renato Valanzasca li sa questi fatti e non capisce perché non li dica perché li dovrebbe sapere melluso c'è un fiduciario di Turatello ha capito signor Presidente comunque io non dirò non dirò naturalmente la bisca e tutto quanto poi io vorrei raccontare un episodio che farà un po' sorridere però lo devo ecco lo devo raccontare signor Presidente vabbè mettiamo anche il trantamento scusa sì dirò l'ultima cosa però gli racconterò questo episodio poi abbiamo finito eh eh laura lo so che lo so no no signor Presidente lo so che la verità fa male signor Presidente la verità fa male io lo so no no non c'è problema non si preoccupi Presidente io volevo dire una cosa no poi passerò all'ultima fase e avrò finito signor Consigliere voglio dire no lo volevo dire signor Presidente da tenere conto anche un certo trantamento un certo trantamento un po' diverso che hanno tenuto tanti pentiti cioè melluso è stato trattato in una certa maniera da certi magistrati io non accuso nessuno dai certi magistrati è stato trattato in una certa maniera pentiti che hanno accusato decine di omicidi signor Presidente e centinaia di camoristi quanto si spostano per fare un processo vengono appoggiati in altre case circondoriare alla sezione pentita melluso no melluso va a Palermo va a Trapani viene appoggiato dentro l'appartamento del giudice Palermo per fare un processo di due soldi queste sono cose da dire signor Presidente e allora perché questo trattamento è diverso al melluso perché un trattamento quanto accusa solo un Tortora accusa con bugie accusa solo un Walter Chiari accusa solo a una Patrizia Caselli c'è l'appartamento del giudice Palermo per il processo che ha fatto a Trapani non so perché accusava un maresciallo degli agenti custodi lui non è stato appoggiato dove tutti noi signor Presidente dove tutti noi che a noi veramente ci vogliono uccidere questi dico signori persone che accusiamo non a lui non a lui signor Presidente che ce l'ho incontrata per strada i camoristi gli sputano in faccia per le bugie che ha detto e basta ma non gli fanno niente glielo dico io signor Presidente comunque l'ultimo episodio che ti farà sorridere un po' a Campobasso io lo dico questo signor Consigliere possono sembrare le stupidagge ma per far capire anche la personalità di un individuo capito non sono venuto qui a perdere tempo ho viaggiato tanto per venire a dire queste cose le voglio dire voglio dire a Campobasso un giorno melluso ha ricevuto una lettera diceva una lettera signor Presidente ed eri solito malato di mente il solito paranoico ne ho ricevuto anche io certe lettere che ho buttato lettere di qualche lettera anche di minaccia su questa lettera c'era scritto ricordo le frasi dice anch'io sono ricercato come te ora mi sono nascosto sulla luna però sulla terra ho lasciato un cane il quale vede una lettera paranoica di un pazzo lui mi disse a me guarda che lettera ho ricevuto io ho lessi la lettera mi misi a ridere questo è un pazzo Gianni mi disse ma chi lo sa io scherzando signor Presidente le giuro signor Presidente non devo più uscire a libertà ma veramente mi devono trucidare la famiglia i camoristi che sono fuori c'è una bugia gli dissi melluso dico questo qui è il mostro di Firenze dissi questo è il mostro di Firenze Gianni che ti ha scritto neanche a farlo apposto casualità vuole che sul timbo signor Consigliere c'era il timbro di Cento mi ha detto ma Cento dove si trova ho detto guarda non lo so io lo domanda Pasquale Parra che era in una gabbia a fare il passeggio gli ha detto in Toscana proprio alla fraternità melluso la sera signor Presidente ha scritto al giudice a Firenze dicendo che il mostro gli aveva scritto a lui poi è venuto vicino a me a dirmi Guido perché non mi scrivi una finta lettera fai finta che è stato il mostro figuriamoci io che davano qui da passare per il mostro di Firenze a scrivere una finta lettera signor Presidente che lui poi avrebbe dato ai giornalisti per fare l'intervista ecco chi è melluso signor Presidente ora possiamo fare i confronti che vuole dunque Presidente alcune domande se mi consente ce n'è una che mi sta particolarmente a prego in pochi minuti sono fatto perché ho in cacchieria dovrà essere il mostro di Firenze secondo lui e metta anche a Belbala che mi ha proposto a scrivergli a a a a per far capire il melluso per denaro cosa fa signor Presidente ha speculato anche sulla morte del fratello anche sulla morte del fratello nemmeno il fratello lascia in pace sotto terra quel povero ragazzo il catapano all'inizio della della sua deposizione all'inizio della sua deposizione ha detto di essere stato interrogato da un sostituto a Pianosa e che questo no a Pianosa dove dove di Pianosa io sono stato interrogato dai giudici dai giudici ad Avezzano a a Campobasso alla Caserma posso aver sbagliato io mi riferisco a quel primo interrogatore lei ha parlato di un interrogatore che mi sono distorsiato no signore ma faccio finire nel corso di questo interrogatorio il giudice gli avrebbe detto prima esplicitamente tu hai visto l'agentina di di Pantico Nettodiro forse gli ha chiesto specificamente hai visto che c'era il nome il nome di Tortora lui ha detto lui ha detto dice no non l'ha visto dopodiché il giudice ma tu sai niente di Tortora e lui avrebbe detto no io non so niente dopodiché il giudice sempre gli ha anche detto però io nel verbale lo metto lo stesso allora prima domanda ma questo verbale poi è stato fatto allora posso rispondere eh sì io vorrei dire esattamente non penso di aver detto comunque no no io confievo no no signora signora io confievo quello che lei dice però gli voglio dire non l'ha detto così presidente scusi io ricordo benissimo questo passaggio il giudice gli propose non disse io lo metto nel verbale no prima propose ma io allora nel verbale lo metto lo stesso ma allora lo mettiamo nel verbale disse il giudice allora io chiedo che questa parte della registrazione venga ripetuta attraverso i registratori no perché la domanda che devo fare allora la domanda è questa lasciamo stare quelle che ha detto lasciamo stare quelle che ha detto no ma io esatto eh no io la voglio arrivare la voglio arrivare il verbale può essere sottoscritto un verbale o no un verbale qualunque guarda signor pubblico ministerio io ho sottoscritto tanti verbali no in quell'occasione io mi sto riferendo in quell'occasione lei ha parlato certo se il giudice le ha detto nel verbale ci mettono ci metto o alla signor pubblico ministerio vuol dire che un verbale si faceva e allora io gli ho chiesto gli ho chiesto il verbale è stato fatto lui dice che siccome è una circostanza estremamente importante noi abbiamo sempre permesso che dobbiamo abbiamo il dovere di indagare non solo in tutte le direzioni ma anche per quel che si dice e che non si dice in quest'aula e fuori di quest'aula e allora io chiedo che venga richiamato il verbale anche per sapere chi è il giudice che l'ha sottoscritto lui dice io il nome del giudice non li faccio ma noi abbiamo modo di poterlo accertare attraverso la firma che è in calcio a quel verbale quindi formalmente sin da questo momento adesso poi passiamo alle altre domande io chiedo che la corte richiami il verbale a cui si riferisce il catapano il catapano lui l'ha detto il prima leggiamo allora le prime dichiarazioni che ha fatto e si lo risolviamo dal caccia di Avezzano dal caccia di Avezzano la dichiarazione tu lui hai reso nel caccia di Avezzano no aspetti no io al caccia di Avezzano non ho detto che aveva fatto nessun verbale lei adesso può sentire la registrazione sentire sentire ecco come allora presidente io le chiedo che venga sentita la registrazione perché ho appuntato subito ho preso un appunto io non è che mi posso dimenticare di questa qua è una questione lei ha detto che aveva fatto un verbale non ho detto ha parlato del verbale certo ho parlato del verbale ma può vedere il verbale che risulterà dalla registrazione esatto esattamente poi ha detto un'altra cosa poi ha detto un'altra cosa che sta succedendo con la gabbia lì no no vabbè adesso dopo dopo lo sentiamo no è finito è finito richiesta poi a seconda che risulterà dalla bobina facciamo la richiesta io posso rivolgere facciamo che no è tempo di finire le domande mie va bene va bene l'avvocato Paolo volevo solo per contribuire dire un verbale si redige nel carcere ma poi va a finire in un processo se noi non sappiamo in quale processo e davanti a quale autorità giudiziaria questo verbale è finito a chi e dove lo richiederemo sarà proprio qua come niente sarà proprio qua o in uno degli altri troncori ci sarà sicuro non c'è dubbio il modo di ritraggiarlo ci sarà quindi non è che si sfuggia a determinate norme le cose non è che si possono dire e non dire o si dicono e si va fino in fondo e si è chiaro fino in fondo non è che si possono lasciare intendere e poi non si dicono si dicono e si va fino in fondo ecco poi un'altra cosa ha detto mi ha dato una notizia molto interessante lui dice Pantico un mese prima della dissociazione era stato condannato a morte questa condanna a morte dove è che sarebbe venuta nel carcere di Paliano no nel carcere di Pianosa sezione speciale nel carcere di Pianosa nel carcere di Pianosa nella un mese prima 83 è stato giugno maggio giugno maggio maggio perché a giugno poi aspetta 82 da non confondere 82 e a questa condanna ha morto mi sembra di aver sentito ha partecipato anche Vito Pesce c'eravamo io no Vito Pesce aspetta il pubblico ministero per lei c'era c'ero io c'era Antonio Tanna Maurizio Tango Leonardo Francesco che è un pentito e c'erano altri ma a me interessa Vito Pesce Vito Pesce non sono sicuro perché sono passato alcune altre comunque Vito Pesce è stato è stato nella nostra sezione ma stava lì nella vostra sezione non è il nostro blocco stava nella nostra sezione però giù in fuori ma lui ha detto che era un'iniziativa di quel blocco di quel blocco e non c'era in quel blocco Vito Pesce quindi questa è la risposta non sono sicuro voglio darti anche che c'era comunque non c'era in quel blocco ma c'era c'era Salvatore c'era un blocco che rimase strano l'iniziativa procuratore generale ma io che colgo le ragioni della sua domanda devo insorgere proprio ma perché comprendo le ragioni della sua domanda le comprendo perfettamente chieda al presidente che non ha però lei vuole inserire per forza Vito Pesce perché Pantico scrisse la lettera a Vito Pesce io comprendo le ragioni della sua domanda e lei non può inserire Vito Pesce in un gruppo del quale non faceva parte io posso chiedere quel che ritengo utile all'accuso la differenza se c'era o meno le regole procuratore generale io sul processo ci passo anche le nottate oltre che le giornate ha compreso quindi questo tipo di intervento lo comprendo perfettamente ecco perché ecco e allora allora non credo che lo comprendi ma noi dobbiamo precisare quello che dice il testo perché ha detto che Vito Pesce faceva parte di un altro blocco il blocco che decise la morte di Pantico non comprendeva Vito Pesce signor Presidente c'era esposito Salvatore Vito Pesce signor Presidente non so perché signor Presidente ora spiego la situazione di Vito Pesce io glielo spiego io non ho finito Presidente fa la domanda glielo vuol rivolgere o no stavo rispondendo io Vito Pesce può darsi che non l'abbia fatto lui non era nello stesso blocco ma era in un'altra parte dello stesso carcere però c'estava nello stesso signor Presidente Vito Pesce era nella sezione con Roberto Cudolo c'era Roberto Cudolo signor Presidente Donino Natale stavano però in un altro blocco però la sezione è unica ora non ricordo perché dopo in un secondo tempo Vito Pesce insieme a noi non ricordo c'era già insieme a noi però c'era Esposito Salvatore c'era non qualcuno Antonio Tanna molto bene e chiede che venga registrato esattamente quando lui ha detto e aspettiamo in modo che si registra non ricordo bene può portarsi prima può portarsi dopo ma comunque insomma comunque erano tutti camorristi che stavano là camorristi e sgaristi tutti camorristi camorristi dico per dire tutti della nuova camorra poi i gradi lasciamolo stare alla parte ora siccome risulta siccome risulta che Vito Pesce dopo che pervenne la notizia che Pandico stava per dissociarsi scrisse una lettera a Pandico per convincerlo a ritornare sui suoi passi più o meno lui sa di questa lettera chiedo la parola presidente mi appongo alla domanda perché si fonda su un dato processuale inesatto perché la lettera non fu inviata da Vito Pesce a Pandico ma da Pandico a Vito Pesce esattamente il contrario di quello che dice ma scusi ma lei fa una domanda che non è ancorata su un dato processuale ma scusa lui dirà è la lettera del 4 marzo del 1983 ma scusi ma scusi ma scusi presidente ma io vorrei che la corte congliete l'insidia di un interrogatorio di questo tipo perché dice Vito Pesce ha scritto non è vero che Vito Pesce ha scritto una lettera ma lo dirà lui dire non è vero allora non deve il problema è un altro il procuratore già dice poiché risulta che invece non risulta il fatto se la produco questa lettera e se io la produco lei deve prima produrla a noi questa lettera prima di poter porre la domanda allora seguiamo la procedura procuratore generale avete sentito lei parla di un processo che noi non conosciamo sta parlando sta parlando di un'altra causa lei comunque la domanda la posso seguire e ha una finalità forse di questa lettera che sarebbe stato scambiato io di questa lettera non ne so niente poi si è stata però io volevo dire una cosa signor presidente no perché io volevo chiedere poi se sapevo qual era la finalità la vera finalità di questa lettera non lo so signor presidente no volevo dire questa lettera che sarebbe stata scambiata tra ma non lo so non lo so se ci sia stata questa lettera perché io vorrei dire che io tant'è vero che passai anche nella cella di Pandico Pandico quanto si è pentito signor presidente eravamo in cella assieme un mese prima un mese un mese e mezzo prima gli fu data questa sentenza poi fermata da Roberto Cutolo da Michele Iafulli cioè altri personaggi che dissero di fermarci io passai anche in cella con Pandico proprio per questi motivi qua per controllarla che non facesse scherzi e quanto si è pentito signor presidente che viene qui a mostrarvi i cliché l'unghia di Cutolo il cliché ce l'aveva per chi doveva firmare le lettere di Cutolo ad Ascoli Piceno eccolo là perciò non è potrebbe rispondere a qualsiasi domanda sua di Pianosa non c'è problema se non sa che c'è stata la lettera quindi non potrà dirmi ovviamente qual era la vera finalità di questa lettera magari ce l'ha di Davanti se viene dunque e allora ecco poi lui ha parlato di un ulteriore interrogatorio che ha reso nella caserma Fa Strenco può precisare l'epoca precisa di questi interrogatori lui ha detto che ha scritto prima una lettera in cui nella quale ha manifestato il proposito sostanzialmente di scaggionare Tortore credo che sia questa comunque ha scritto una lettera nella quale chiedeva di essere interrogato certo poi ha detto che questa lettera del contenuto di questa lettera o comunque in un colloquio che ha avuto ne ha parlato a un colonnello dei Carapiglie dopodiché a distanza di una ventina di giorni grosso modo ha detto così è stato effettivamente parlare anche con il giudice ecco esattamente ed è un giudice il quale ha cercato in quell'occasione di terrorizzarlo in un certo qual modo di terrorizzarlo per pandico pandico ci provo e poi anche pandico ma comunque ha detto che anche un giudice ha tentato di terrorizzarlo ora io vorrei sapere è stato in quell'occasione è stato fatto un verbale no io gli ho detto che lo so anche io non è e poi lo sentiamo lo sentiamo e lo sentiamo io perciò ho chiesto la traduzione si usa la bobbina lo sentiamo ho detto ho detto che pandico i interrogatori sono sempre interessanti proprio per quelle che si dice non per quelle che poi eventualmente si può casualmente può essere scritto nel verbale posso fare una precisazione lui la prima dichiarazione che è del 21 novembre 1983 e disse in questa dichiarazione al giudice istruttore di confermare le dichiarazioni resa al PM il 15 luglio 83 questa dichiarazione resa al 15 luglio 83 non esiste nel processo quindi allora non è stato fatto se non sbaglio si dà atto anche a verbale di cui ho lettura e non ci sta io e la cancelleria della nostra sezione abbiamo perso una settimana sfogliando questo processo il secondo trongone e il terzo trongone e allora l'abbiamo trovato allora partendo da questo dato di fatto che questa dichiarazione non c'è io chiedo che sia rivolta al al catapano questa questa specifica domanda in quell'occasione quando fu portata alla caserma pastrenga dopo che lui aveva scritto la lettera e dove si cercò come sentiremo dalla registrazione che è stata fatta di in un certo qual modo di terrorizzarlo di richiamarlo alle sue grosse responsabilità in ordine a un'eventuale ritrattazione o alla ritrattazione di un accuso o quel che sia non lo so non ha importanza fu fatto o non fu fatto verbale verbale non venne fatto ripeto che il pantico il pantico io non parlo di pantico io non ho fatto lei cosa non ho fatto nessuna verbale nessun verbale allora scriviamo questo qua e comunque che data ci fu questo colloquio perché controlliamo un poco quando è andata nella caserma io mi oppongo io chiedo che il pubblico ministero ponga le domande il presidente ed è quello che sto facendo il presidente no che le trasmetta al presidente una volta il presidente ritenga di ammettere sia il presidente a fare le domande e mentre il testo o imputato che sia sta rispondendo il pubblico ministero non lo interrompa non lo interrompa affatto è esattamente quello che sto facendo se sta verificando il contrario quando lei fa le domande incomincia la domanda l'articola incomincia a rispondere l'imputato poi comincia a parlare lei poi quello si confusa non è accaduto non sta accadendo niente di tutto questo sta accadendo questo ascoltiamo le trascrizioni comunque sentiamo dalla registrazione sentiamo dalla registrazione io chiedo che le domande le ponga il presidente sono d'accordo che debba continuare così questo sistema che poi è quello legale dell'interrogatorio di chi viene qui quindi Presidente la domanda che le chiedo in definitiva la data nella quale fu 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 portato nella caserma Pastrengo più o meno quando è avvenuto questo quando è avvenuto questo caserma Pastrengo ci sono andato a novembre penso verso il 25 novembre non ricordo bene la data l'ho detto anche prima cioè aspetti ma cioè del mio pentimento di questo fatto qua e non ricordo non ho segnato le date non l'ho segnato non l'ho segnato e poi veni portato alla Pastrengo ci rimasi un paio d'ore e ritornai al carcere di Avezzano e non feci né un verbale alla Pastrengo né un verbale dopo ma non feci niente signor Presidente rimase due ore e poi fu ritorna e poi fu riportato all'Avezzano veni riportato al carcere di Avezzano al carcere per i pentiti che si aveva detto ma così risulta già stretto questo niente concludo soltanto facendo una richiesta alla corte che si è accertato tutte le volte che il catapano è stato tradotto tradotto alla caserma Pastrengo tutte le date che è stata tradotta alla caserma Pastrengo Presidente una domanda vorrei che venisse posta al catapano risulta proprio dal dal primo verbale di interrogatorio allegato agli atti del nostro processo quello al quale ha fatto puntuale riferimento il consigliere Morello nella prima parte si richiama un interrogatorio che poi non si rinviene agli atti risulta nel corpo di questo verbale quanto segue i due parlavano sempre fra di loro si riferisce a Pandico e a Guarneri e non mi tenevano informato di ciò che dicevano punto a questo punto desidero dichiarare che intendo dissociarmi dalla NCO della quale ammetto di aver fatto parte eccetera eccetera come camorrista eccetera quindi interviene improvvisamente nel corpo di un interrogatorio che non lascia emergere ragioni che in un certo senso giustifichino poi questo mutamento di indirizzo è chiaro spunta improvviso questo intento di dissociazione allora la domanda che vorrei che la Corte ponesse spiegherò poi le ragioni successivamente per le quali si impone a mio avviso questa domanda è la seguente quando ha reso questo interrogatorio al giudice istruttore Fontana e io posso anche ricordare la data in data 21 novembre del 1983 il signor Catapano era già dissociato o aveva già deciso di dissociarsi quando iniziò l'interrogatorio 21 novembre del 1983 già mi ero già c'era un mio verbale di dissociazione di dissociazione benissimo e questo io devo chiarire alla Corte perché ho posto questa domanda perché nella prima parte di questo interrogatorio emergono clamorose contraddizioni che il giudice immediatamente coglie e dice a questo punto dice il magistrato noi giudice facciamo rilevare la notevole contraddittorietà tra le sue dichiarazioni e il contenuto delle lettere eccetera per cui quindi e come mai lei aveva rappresentato al magistrato che si era già dissociato dinanzi a quale giudice lei aveva questa dissociazione certo certo a giudice Fontana allo stesso giudice Fontana che interrogava a dottor Fontana io e allora prima di questo verbale prima di questo certo certo la dichiarazione del 21 novembre certo il 5 novembre mi distociai il 5 novembre mi sembra che venne in quei giorni lì a carcere di Poggio Reale il giudice Fontana e fece il verbale e dove è questo verbale agli altri nostri non esiste un verbale precedente ma questo qui è un verbale scusi avvocato che risulta fatta alla caserma Pastringo questo risulta adesso glielo dico subito in Poggio Reale in Poggio Reale in Poggio Reale alle ore 12 e un qua e 15 in Poggio Reale e la data scusi e la data 21 novembre del 1900 a me mi sembra io vorrei sapere una cosa signor Presidente io vorrei sapere il giorno però che io sono stato tradotto nel carcere nella caserma Pastringo perché non vorrei confondere i tempi perché io feci un verbale al carcere al carcere di Poggio Reale ed ero nella sezione pentito voi non fosse tradotto alla caserma Pastringo vorreste sapere certo c'è possibile lui è stato interrogato a quello che si arriva a capire la prima volta il 15 luglio 83 perché era stato accusato da Pandico e disse mi meraviglio come Pandico mi accusa eccetera eccetera non si era ancora dissociato poi lui dice che si è stato interrogato ancora un altro 5 novembre comunque quel solo interrogatore che teniamo come primo diciamo che sia il 21 novembre altri 4 successivi 5 verbali teniamo noi in questo punto consigliere noi diciamo denunciamo questo metodo cioè non si può non si possono allegare agli atti come i primi documenti quelli nei quali nasce un'accusa contro un soggetto e dimenticare sistematicamente devo dire a questo punto i documenti anteriori i quali invece possono dare un contributo ai fini dell'accertamento della verità quindi noi stiamo denunciando veramente un metodo che sembra ricorrente in questo processo grazie allora domande ancora al Catapano come si diceva quello che diceva l'avvocato Coppola ma riguarda Catapano al Catapano riguarda no 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 ho una richiesta non una domanda riguarda il momento dell'affiliazione riguarda lo faccio come difensore di Danna ecco Danna su quale zona operava la zona era in carcere avvocato però era di Forlì perciò automaticamente avrebbe operato una volta fuori sulla zona di Forlì ma non è lei ha parlato che lui avrebbe operato sulla zona di Milano Milano aspetta avvocato lui è della zona di Forlì però automaticamente se sarebbe uscito fuori avrebbe operato in tutte le zone dove non c'erano pudoliani come avrei fatto anch'io però lui è di Forlì pertanto ecco ma è stato Pantico a suggerirgli di dire che avrebbe dovuto di dire la storia della droga a Milano che Danna operava sulla droga a Milano che lei Catapano avrebbe avuto da operare con la droga a Milano no avvocato questo qua Pantico a me queste cose qui non le ha mai non le ha mai dette comunque fatta dalla droga fra Milano capito che dice Milano Emilia Romagna per fare un punto no no lei ha detto in precedenza che appunto Danna operava a Milano che lei quando sarebbe uscito dopo due anni avrebbe dovuto andare a Milano ha detto anche dei nomi di Milano perché c'era il commercio della droga a Milano lei avrebbe operato su Milano conferma queste cose oppure no no io avvocato io ho detto e ci sono i miei verbali ho detto che io una volta fuori avrei preso contatti con esponenti sempre da una nuova come organizzata o simpatizzanti come il fratello di Vito Pesce per un traffico di droga che avremmo dovuto fare in Lombardia in Emilia Romagna in Toscana nel Lazio fino a Napoli e naturalmente Cerdanna sarebbe uscito come dovevo uscire io come dovevano uscire altri altri cutoliani avrebbero operato con noi di questa operatività su Milano Carabano invece ha parlato di questa operatività ma Ipanimonda non è dalla NCO cioè la nostra è una organizzazione a parte noi con Ipanimonda non avevamo niente a che vedere perciò Ipanimonda ha smentito che voi eravate su Milano no io non ho detto noi senta signor Avvocato noi avevamo dei cutoliani noi eravamo ecco era un progetto noi eravamo appoggiati nella zona di Milano avevamo molti cutoliani solo che a livello a livello di prendere del traffico di droga quello ancora noi non avevamo in mano era un progetto che si sarebbe dovuto fare se noi una volta molti cutoliani di noi sarebbero stati fuori ma strano questi molti cutoliani a Milano sconosciuti Presidente una sola domanda al testo e catapato sì perché? mi mettono sempre i minoranni che devo sollecito le antipatrie o le simpatie parlate così il traffico di droga nella Lombardia era un progetto e che precedentemente non vi era operatività della NCO nel traffico di droga nella zona della Lombardia mi pare che abbia detto questo ha parlato del progetto ha accenato al progetto sono la domanda dell'Avvocato esatto ma ha detto che era un progetto che precedentemente la NCO non aveva operato possiamo allora porlo sotto forma di domanda se gli risulta che la NCO abbia operato in Lombardia nel traffico delle sostanze superfacenti l'Avvocato ho capito la sua domanda e ho capito anche insomma dove è il punto comunque io le confermo la NCO era in progetto per il traffico di droga cioè poi ci sono stati piccoli quantitativi che non credo che la NCO cioè si sarebbe operata per piccoli quantitativi io non lo so ma non ci credo perché la nuova camera organizzata quanto si muoveva si muoveva per fare traffici veri e propri perché non era una banda di quattro se possiamo mettere anche quest'ultima affermazione avverbale allora sospettiamoci Presidente chiedo scusa il test Catapano ha detto che ricopriva l'incarico nella organizzazione di Sgarrista quindi era a conoscenza dei fatti importanti e meno importanti dell'organizzazione può dirci se le donne in genere e questa è la prima domanda venivano reclutate come camorrista dall'organizzazione confermo se ho capito la domanda signor Presidente confermo quello che ci ho detto in primo grado che le donne le donne signor Presidente non potevano assolutamente essere legalizzata la nuova camorra organizzata era impossibile come non esiste del Consigliore non esistono queste cose signor Presidente grazie ne consegue una seconda domanda se ha mai saputo dell'appartenenza alla NCO di una suora ma se non c'era la suora è donna la suora è donna e beh andiamo nel particolare adesso non ne ho parlato pertanto non ne so niente non ne so niente grazie ci sono dei confronti che io se non sono già programmati li chiedo io allora ci andiamo a sciogliere la risenza già programmata ma mi sembra che fossero già programmati determinati confronti li chiedo formalizza la mia richiesta di determinati confronti con melluso e con bandico le difese che dicono i difensori che dicono non si oppongono Presidente e la Corte si ritira per deliberare signor Presidente scusi ma io devo fare una richiesta e la Corte va in Camera di Consiglio decidi anche su questa richiesta abbia pazienza per non fare andare di nuovo la Corte in Camera di Consiglio dopo signor Presidente scusi come la Corte sa la settimana scorsa in Campania e specialmente a Napoli è venuta la commissione anti-camorra o anti-mafia che dir si voglia in una intervista rilasciata al quotidiano il mattino che io posso produrre dalla Corte del 28 giugno 1986 sono riportate delle frasi tra virgolette frutto di un'intervista fatta dal giornalista Marco Pellegrini ad un membro della commissione queste due frasi che io citerò alla Corte vorrei che la Corte mi seguisse per un momento c'è un primo inciso i procuratori di Aviglietti e Salerno hanno parlato chiaro sostenendo che la situazione è drammatica mentre il capo della procura napoletana ha ritenuto di dover esprimere un giudizio riduttivo domanda del giornalista e sui pentiti il procuratore Cagliardi ha detto di non essere in corso in errori o depistaggi mentre per quanto riguarda Napoli si è agito nella illegalità senza neanche raggiungere un abbassamento del tasso di criminalità siccome ho motivo di ritenere che questa sia una dichiarazione resa dal giudice Cagliardi io faccio esplicita richiesta alla Corte o di sentire il dottor Cagliardi come testimone per spiegarci quali sono le illegalità che risultano a lui oppure di acquisire il verbale della commissione antimafia che è stato redatto in data 27 di giugno 1986 mi associo nella richiesta di sentire il giudice Cagliardi su questo specifico punto e su questa dichiarazione che ha resa alla commissione antimafia mi associo che sia il giudice Cagliardi che altri che eventualmente avessero reso condizioni dichiarazioni analghe che vengono in quest'avolo come testimone a dirci come e perché hanno reso quelle dichiarazioni io questo giornale l'ho piegato religiosamente dal 28 ho aspettato 5 giorni 6 giorni che il giudice Cagliardi facesse una smentita siccome questa smentita non è venuta pregherei l'avvocato di produrre il giornale come te certo grazie spero che avranno spero che avranno l'occasione di farlo in altro per quanto poi si riferisce alla reazione della della no no ecco la corte giustamente ha osservato che una notizia proveniente da un giornale che per sentito dire credo che non neanche che non si tratta di che chissà se sono le dichiarazioni del dottor Cagliardi o sarebbe che le avrebbe sì ma guardate un po' le ordinanze si impugnano per Cassazione quando stiamo in appello poi basta no no ma io non sto impugnando l'ordinanza dico soltanto per carità lo so so benissimo dico soltanto questo che io mi riservo se mi riuscirà di averla se capisci che questa poi è una questione di avere i verbali della commissione in modo che la corte è di rinnovare poi ovviamente la richiesta in modo che se la corte rileverà che effettivamente sono state fatte queste affermazioni da parte del dottor Cagliardi rivaluterà l'esigenza da parte della pubblica di far sentire il dottor Cagliardi in questa sede perché la chiarisca questo è tutto che non si riferiscono a questo ma a più in generale ma a meno a meno a meno le vostre dichiarazioni che contrastano nettamente con quelle là prego grazie allora se chi 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 protesta vedete che è allontanato dall'aula ah presidente si era detto si passava al confronto fra Melluso e Vallanzasca come ordine abbiamo un test che deve ripartire che si sente male ma ci sentono tutti male eh lo so chi è chi è Marra Mauro Marra Mauro Marra Mauro Marra Mauro si ma avete imputato il processo connesso si si è una saitta di ufficio ma su che cosa su che cosa deve essere sentito su che cosa mi ha dato qualche l'estero è una verità io me lo so sorvete allora ma speri ci stanno un motivo è ordinario ma la mano sarà il capito per lui è un fascicoletto azzurro dei documenti per la nostra è bellissimo quello che abbiamo è un fascicoletto 25 25 25 per la prodotta si si sta nel fascicolo non lo so mi credo non lo facciamo a me stai e che risulta scritto a mano ma non so se proviene da voi si si è mio è mio è posto allora me lo leggo sommariamente no no è inutile che la leggiate e perché allora leggo per sommi capi perché è la lettera di 4-5 pagini io effettivamente sono stato un camorresta e quando mi hanno arrestato io sono stato effettivamente un camorresta dice Mauro e quando sono stato arrestato quelli della squadra mobili napoletana da quelli della squadra mobili napoletana era ricercato per il 416 bis e per un residuo di pena di 6 anni che doveva scontare forse per l'omicidio per l'arabino si fecero quegli abusi quegli abusi così che adesso mi trovo con un casino di omicidi addosso distrutto moralmente e con tante persone che nemmeno conosco accusati di gravi reati per lo più ora mi trovo al regime di articolo 90 per poi il giorno che c'è detta al loro ricatto subito dopo al ricatto di chi? perché la mia coscienza non mi fa dopo che al ricatto subito dopo un po' si presentarono il giudice spirito Fontana di Pietro di Perso tutti quanti insieme 8-2 8-3 e un e un numero e non mi mi sono piedi cortesi vorrei sentire e non mi sono nemmeno piedi in quest'ora e subito dimend... e subito dimend... domandarono quello che sapevo di voi io gli rispose ah voleva mi domandarono che cosa sapevate di Tortora allora io subito gli rispose guardate che qui state sbagliando di grosso il Tortora non c'entra perché per la cronaca io e Pasquale Scotti eravamo l'ultimo gruppo di fuoco della nuova camorra organizzata rimasto fuori e stavamo in stretto contatto con Cutolo della Sinara e sapevamo vite e miracole e perciò se Tortora fosse camorresta doveva per forza avere il contatto con noi anche perché lo spaccio di stupro facente passava per mani nostre cioè voi vi interessavate lo spaccio di stupro facente proprio questa è la vostra attività anche anche vabbè si capisce non posso tra l'altro ti interessava poi ti dissi anche che noi la sera che vedemmo dal Tg la notizia del vostro arresto rimanemmo stupiti rimanemmo stupiti tramite il nostro uomo adesso pendito e poi non convinti siccome allora stavamo facendo un movimento con Cutolo alla Sinara tramite il nostro uomo adesso pendito che andava personalmente da Cutolo coperto da altre personalità questo uomo andava da Cutolo gli mandammo una lettera e chiedemmo spiegazioni in merito anche perché volevamo sapere se Cutolo lo nascondesse a noi invece lui ci ha restituito ci ha mandato questa risposta sempre per iscritto così così ha tolto ogni nostro dubbio ora una volta ascoltato tutto i magistrati mi risposero va bene vuol dire che non sai niente su Tor che non sai niente su Tor e non verbalizzarono nemmeno niente cioè non verbalizzarono la vostra dichiarazione di quello che avevo detto di quello che avevo detto sul vostro caso poi verbalizzarono tutto quello che io dicevo di conoscere di conoscere sugli album delle foto delle foto con uomini con gli uomini e le fedili penali ho messo di verbalizzare quella parte lì scusatemi della calligrafia e infatti la notiamo anche noi scusatemi la calligrafia degli errori e vi ripeto che il motivo che vi ho scritto e che non l'ho scritto ai giudici perché io alla giustizia italiana non mi credo non ci credete avete detto così tantamente evidentemente allora allora se non vi sareste ben dite poi allora allora la lettera è vostra sì l'avete scritta sì e avete detto che insomma sareste stato interrogato dai giudici i quali omissero nel verbale che sono capito io omissero il verbale quello che avevate detto il rapporto determinato accusato signor Pesero adesso questo fatto è relativo adesso perché io se avevo scritto questa lettera è perché ero sfondo che voleva dire no non ero sfondo per dire la verità su questo ma io voglio sapere adesso adesso non contano più niente perché ormai l'hanno detto le stesse loro le cose che stanno facendo per tutti quindi è inutile ma voi avevate riferito ai giudici anche questa circostanza che non fu verbalizzata perché fu ritenuto forse non influente esatto non l'avete capito bene allora confermo anche il contenuto della lettera stessa il contenuto della lettera stessa di cui mi è data la lettura domanda questa parte prima siccome risultano agli atti adesso non so dire se di questo processo io un altro che ho fatto in grado d'appello giorni fa a San Domenico di cui era imputata ne fa troppi ne fa troppi perché io ho fatto a un certo momento con fondo risulto che lui è stato interrogato più volte Marra è stato interrogato più volte questa diciamo questa sollecitazione dei giudici o perlomeno questo questa mancata questo mancato inserimento nei verbali è avvenuto in occasione di quegli interrogatori cioè quali quelli che lui ha arreso immediatamente dopo il suo arresto ma chissà quando era resi quanti gli interrogatori la vedete in questo processo ne ha reso tredici in istruttoria in questo processo ne ha reso tredici in istruttoria e mi riferisco a questi qua sì e appunto per questo ce lo sto chiedendo se si riferisce a quello ma appunto per questo ce lo sto facendo chiedere allora qual è stato uno dei primi non ci si ricorda non ci si ricorda passate cinque anni ecco e diciamo che è passato cinque anni poi ha detto un'altra cosa mi riferisco nella lettera a uno dei primi interrogatori a uno dei primi facilmente a uno dei primi un'altra cosa lui ha detto questo io facevo parte del gruppo di fuoco scotti eccetera ed è vero ecco lo dicevano lui questo è facile dunque faceva parte del gruppo di fuoco scotti eccetera dice dopo di che noi quando Cutler era già all'asinara mandammo un nostro uomo che è coperto da una forte personalità andò all'asinare lo mandammo questo uomo proprio per chiedere se era vero che Tutler era implicato no ha detto questo io voglio sapere quali erano i mezzi di comunicazione lui ha detto che era in contatto con Cutler quando Cutler era all'asinare quali erano i mezzi di comunicazione perché loro avevano con Cutler voi accennate a una persona che è entrata all'asinare accompagnata da alcune personalità cioè da persone che avevano la possibilità di poter entrare sta verbale queste cose l'avete già detto verbale e ripetete siccome noi non abbiamo letto ti verbale chi era questa persona se potete dire questa persona se erano le personalità queste personalità che facevano entrare questa persona dentro il colonnello Barisone il maggior Barisone allora quindi questa persona con Cutler attraverso il colonnello Barisone questa persona entrava questa persona la persona la persona che andava all'asinare sarebbe stata accompagnata sarebbe stata fatta entrare dal colonnello Barisone Barisone esatto la persona che andava all'asinare per conto loro per poter contattare Cutler entrava in carcere con il laccio passale con il barisone perché si stava facendo un finto vendimento di Cutler e di MED ma non era nessun finto vendimento era soltanto che noi dovevamo fare i vateri a MED questa persona che andava lì diceva che noi stavamo in contatto con i mass ci facevamo scoprire i copi delle armi delle cose però non era tutto un gioco che noi stavamo facendo per fare vateri a MED perché MED andava lo scotti siccome voleva sapere che non gli trovo è possibile mai che questo qui è un gamorrista ci faccia la droga ci mandavano sapere la lettera la lettera persona entrava per mantenere contatti con il Cudolo in relazione a un dattivo di evasione da noi progettato in favore del MED da noi progettato e maschervava un vendimento e maschervava e si mascherava si si è giusto e mascherava ecco benissimo benissimo esatto presidente scusi che è la domanda vuole domandare a Marra se era lo stesso fornello che fornì la divisa al signor Pantico nella caserma ma che lo so no 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 siccome stiamo parlando della stessa caserma non è l'unico fornello non era quella ma poi a me non era la caserma quella era la santa cosa sulla sinatra altra domanda niente basta allora signor ma è inutile allora facciamoli specificare informazione cosa facciamoli specificare lo so questo che è stato portato questo messaggio e così via chi gliel'ha detto a lui se di costa direttamente facciamoli specificare questo lo sapevate direttamente voi anche voi vi interessavate di questa progettata evasione di me lui partecipava anche noi anche noi partecipavamo a questa attività e quindi evidentemente alle scuse ai pretesti per poter entrare ma voi su lì sono state trovate macchine moto sono state trovate tutte quindi sappiamo che è vero vogliamo o riteniamo noi che sia vero vorremmo appunto che precisasse ulteriormente tutto quello che sta a proposito di questo siccome sono fatti molto ma i dubbi sono presidati già lo sapevi scritto già sta scritto dice già sta scritto quello che ho detto ve lo ho detto già sta scritto altrove le ho lette no no altrove anche altrove ma qui si è aperto evidentemente qualche procedimento qualche chiesta e non lo sa ma io ah no non sapevo che lo sapevo io ma io e non è che lo sappiamo sappiamo tutto ovviamente questo è accaduto prima che loro fossero arrestati si 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 è chiaro allora possiamo licenziare il testo e dove ha fatto la domanda e poi ha fatto un po' prima alzare il grado che ricopriva nell'organizzazione il mal secondo regalo secondo regalo regalo proprio regalo secondo regalo secondo regalo secondo regalo conosceva appartenenti del gruppo benedentano si chi Pedicino Lombardi Sacconi Pallarini quale Pallarino tutti i tre fratelli fratelli tre quattro tutti Pallarini sono stati venuti nel carcere di Campobas insieme a me quindi l'avete saputo proprio da loro si ah allora sono stati in carcere con loro tutti i tre tutti i tre sono stati in carcere insieme con il Pallarino con tutti i quattro che vi dorminate Pallarino Pallarino Gerardo è stato in carcere insieme a me Poi Pallarino Gerardo Gerardo si poi un altro fratello i nomi i nomi Presidente non è perché vedete che a me non ti nomi ti dammi dopo pronti lo dico Gerardo Gerardo Poi si chiamava Gerardo con la parola che non ci stavano da sublizzo poi c'era un altro fratello poi per i cittadini stavano nel carcere di Campobas insieme a noi quanti erano i fratelli Pallarino Giusto come mi mettevi a contare due non ci sono conosciuti due uno Gerardo un altro e un altro non mi ricordo di qui aveva non ricordi no però è stato nel carcere con lui quindi si potrebbe anche identificare oh ma parlavano anche degli altri fratelli questi due hanno parlato anche degli altri fratelli i fratelli Pallarino l'avete visti due mi sembra sono tre una cosa l'avete conosciuto a quello senza corsa per usare la vostra espressione no non l'ha conosciuto me l'ha raccontato il fratello che è una lide con un colpo di pistoli non avete conosciuto Pallarino quello con la gamba amputata non l'ha conosciuto ma no ha sentito parlare da parte dei fratelli non ha conosciuto quello con la gamba amputata ma l'ho sentito parlare dagli altri fratelli dice qualche cosa di diverso però presidente ha detto qualcosa di diverso in primo grado Marra e che dicevo basta controllare eh controllare pagina 27 se il consigliere Morello lo ha sotto mano lo potremmo verificare in ogni modo non lo dico 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 eventualmente sarà oggetto di discussione da parte del difensore va bene quindi non conferma che Pallarino Giovanni lo conosce allora presidente per cortesia nessun'altra domanda presidente allora ci sono due domande presidente per cortesia poiché il Marra ha riferito che ha parlato dei sacconi in genere si ma quali dei fratelli quali sacconi sapete indicare vincenze vincenze è una mi ricordo mi scozi ma quant'erano i fratelli sacconi grazie ho due sicuro due sicuro e ma siete stati detenuti insieme con Sacconi Vincenze no eri di transito a Benevento l'ho conosciuto come Pattanzi da Benevento però prima poi dopo sono passati con la nuova famiglia è stato lui di transito a Benevento dove siete stati volati voi siete stati di transito quando lui era detenuto Sacconi Vincenzo era detenuto Presidente per cortesia a questo punto io richiedo una ricognizione personale con Sacconi Vincenzo mi ricognizione voi sapete bene che c'è una cosa che è diventata la loro Presidente ma qua si parla perché questo si può fare i distruttori sono al massimo in primo grado ma proprio deve essere in primo grado quando andiamo a fare queste ricognizioni ma voi ma voi mi riconosceva arrabbiate non mi arrabbio di niente per l'amor la ricazze consigliere Morelli stavo distratto la ricazze signor Presidente mi scusi vorrei chiedere al signor Marra se eventualmente è amico di Gianni Melluso si ha mai sentito parlare da Gianni Melluso dell'innocenza dell'imputato Tortora con voi ha mai parlato di Gianni Melluso dell'innocenza dell'innocenza se era innocente Tortora ma signor Presidente è venuto che parliamo adesso ma Melluso mi ha mai parlato di Tortora e me l'ha parlato come colpevole o come innocentente non mi ricordo me ne ha parlato non mi ricordo ma non mi ricordo pure se ne ha parlato io mi sono un po' di cervello se potete me dipendere è un po' di cervello direzze dipendere ma guardate ci si è confronto con Marra ma non ti ha di noi ma ci si è confronto con Marra si cioè non ha voluto rispondere in effetti che si è stato fatto no ma che ne facciamo già stato ammesso tutti quanti non è che ogni giorno ogni momento gli viene ammesso uno di colori la cosa è indicato da 6 ma io me lo ho avronto con uno ma poi può darsi pure che sia stato fatto io non lo so neppure ma vediamo un po' perché può darsi anche che sia stato fatto che è stato richiesto dalla persona che ha richiesto e che noi non nominiamo perché vuole non essere indicata ma lo mettiamo è superfluo in quanto che altri sono gli elementi da cui si trae la sentenza trae la sua responsabilità ecco allora potete andare signor Presidente chiedo scusa signor Presidente ho necessità di sottoporre all'attenzione della Corte una circostanza sì signor Presidente ricapitolo molto brevemente con dichiarazione di ragoste agli arresti domiciliari non ci sta manco d'amico non ci verrà mai in un momento signor Presidente a questo punto lo sfogo diventa legge adesso dobbiamo andare avanti con l'udienza alla fine dell'udienza facciamo le perdite di tempo ma non sono perdite di tempo consigliere Morelli io ho interesse a che venga resa giustizia anche a un piccolo imputato perché io con lo stesso con la stessa sincerità devo dire che adesso è programmato l'interrogatorio di San Filippo l'interrogatorio di Belluso i confronti di Vallanzasca con Belluso e San Filippo eccetera facciamo questa alla fine parliamo di quest'altro io ho bisogno di fare una sola richiesta la posso motivare adesso e fra due ore io sono qua solo per questo facciamo prima le cose programmate per oggi c'è poi le altre cose Ruggiero San Filippo che notte chi è Ruggiero è stato Ruggiero che non è stato interrogato non è stato interrogato no e no ma si è allontanato si è allontanato Ruggiero credo che non c'è stato Ruggiero Vincenzo deve essere interrogato Presidente non lo so non lo so ma deve essere interrogato Ruggiero Vincenzo Ruggiero Vincenzo Ruggiero Vincenzo è ho avuto la lettera un minuto è l'unica persona di tutto questo processo che non è accusato da nessuno oh sta soltanto documenti Luiso Ruggiero Vincenzo Ruggiero Vincenzo Gruppo Benevento avete detto così in istruttoria di protesto innocente nego di aver fatto parte alla nuova camora organizzata prendo atto che il mio nome figuri in due lettere di Saturnino Vittorio dirette ad Esposio Salvatore ne parla a Barra ho conosciuto Saturnino Vittorio nel carcere di Bari e si stabilì tra noi un buon rapporto è così? si si tra noi non so se Saturnino faceva parte della nuova camora organizzata non conosco Esposio Salvatore non so perché Saturnino assicura l'Esposio della mia disponibilità per un servizio che lo stesso Saturnino avrebbe dovuto rendere all'Esposio ah voi avreste potuto prendere parte a quella omicida del barista come dico non lo so così risulterebbe da queste lettere da queste lettere così dopo la sua liberazione il Saturnino passò per la mia casa ma io cercai di allontanarlo avete detto voi conosco bene in un giro Salvatino Carlo Sire il Saturnino Vittorio lo chiama Comparillo Saturnino Vittorio mi chiamo Comparillo io aspettavo la vostra liberazione dal carcere per eseguire quel tale servizio al quale prima accennavamo è così ma come dice lui in queste lettere io vorrei dire una cosa io a questo Saturnino l'ho conosciuto al carcere di Bari eh lo avete detto sì perché eravamo paesani sapete quando in un carcere si trovano dei paesani ma questo Saturnino sapevo che io ero fidanzato a San D'Agore dei Cosa al suo paese ecco è uscito dopo 6-7 mesi non lo hai scritto queste lettere spazio menzionando il mio nome nelle lettere ma non so il motivo per quale motivo l'abbia fatto signor Presidente l'unica cosa che posso pensare è che questo sia un malato di mente cioè non si è mai messo d'accordo prima con voi di questo fatto qui ma no ma non abbiamo mai parlato di queste cose io ho tentato anche di farmelo spiegare quando ci siamo incontrati anche lui non so spiegarmi come mai non so non mi spiego il contenuto di quelle lettere non ho capito dite voi che non vi spiegate il contenuto di queste due lettere non ve lo spiegate ma io non so spiegare come mai abbia fatto a mettere il mio nome nelle lettere spiegare a questo spiegare a questo di fuoco che non mi non lo canone io pensi tanto questo lo scriveva lui io quando sono stato scritto queste lettere io ero venuto al caccio di Foggia vedete se io avevo corrispondanza con questo Saturnino io non avevo nessuna corrispondanza l'ha scritto lui che ne so i rapporti erano molto stretti erano molto stretti tra questi Saturnino ma no ci abbiamo conosciuto così buongiorno buonasera non lo so io ero allo scuro di tutto quando questo scriveva queste lettere e mi andava a dire queste cose signor Presidente io sto da 38 mesi in caccio senza sapere il motivo soltanto perché un pazzo la mattina si alza e si mette a scrivere queste cose e hanno trovato il mio nome perché era un plegidicale e se questo mettere il nome di chiunque potremmo metto questo no perché il reato stavate dentro io stavo per una lesione signor Presidente io questo reato avevo 18 anni quando l'ho fatto io l'ho pagato mi ha accusato un dentato vicino poi l'ho portato a lesione io l'ho pagato anche nella requisitore che hanno scritto mi hanno fatto pericolore con questo reato signor Presidente io questo reato l'ho pagato quando ho dovuto pagare oppure devo continuare a pagare perché sono re di aver pagato già un altro reato eventualmente avresti potuto pagare l'altro reato ma io non ho fatto nessuno reato Presidente io non ho commesso nessuno reato ma faceva parte la nuova camorra ma no chi faceva parte questa nuova camorra io non so neanche se esiste questa camorra Presidente io sono entrato signor Presidente io sono entrato a 18 poi interviene il promotore generale no no l'ha detto già è inutile che glielo domande ha detto già che non esiste che glielo domanda ma io non dico che non esiste esistono non lo so che ne so io di queste cose ma non so niente Presidente io non so allora che altra domanda da parte di Penzor non so forse non c'è non lo so Francesco Pugnaro sono state sempre nominate noi nominiamo sempre di Penzor nessuna domanda allora esiste il protestante il protestante si Presidente poi vorrei dire una cosa io feci una richiesta per un paio di mesi fa non so per parte degli arresti domiciliare perché adesso si fanno soltanto gli interrogatori si no volevi spiegare una cosa Presidente come so io dalla carta che mi avete reggettato dalla relazione che ha fatto questo medico non riuscivo a capire bene perché era curabile in calcio ma pure era supportabile al regime carcerale signor Presidente io ha fatto un abbassamento di testi è sciolto il vidrio negli occhi posso avere un distacco di rete signor Presidente mi dovete dire quale centro clinico carcerale può operare un distacco se a me viene un distacco di rete signor Presidente dovete essere operato di urgenza ma dovete essere operato di urgenza signor Presidente io si prendo una botta in testo posso avere un distacco di rete se ritenete di essere operato di urgenza potrete essere in testi eventualmente signor Presidente in un ospedale in un ospedale specialistico in un ospedale oculistico signor Presidente io non chiedi di uscire che è stato qui ma anche di mandarmi in un ospedale a vedere a fare un accertamento ma quello mi pare che si può fare se lui chiede di andare in ospedale ma non so se è operato perché questo non chiede di essere operato no perché questo chiede di essere un fuori perché tiene questo pericolo in comprensione signor Presidente stando uno può signor Presidente se è succeduta una cosa di questo in calcio come si fa non vuole essere autorizzato ad essere accompagnato a fare una visita speciale eh sì se deve essere è possibile ma questo senz'altro se fate la richiesta per una visita se fate la richiesta l'avrete il medico può venire anche nel carcere a visitarvi vabbè se è indicato un medico o un oculista di vostro fido può venire in carcere a visitarvi e noi lo facciamo in calcio vabbè allora potete andare allora San Birito Dovresti vedere l'interrogatorio ancora San Filippo mi sentite San Filippo mentre che viene trasportato qui San Filippo leggiamo questa lettera dove sta la Picozzi questa qua ma non è fitto ma non è a noi quella è la lettera di Fiorella non so che Picozzi ah Picozzi io ho sottoscritto Picozzi Fiorella dice così io ho sottoscritto Picozzi Fiorella è andato a Vicenza nel 60 attualmente distretto presso la casa circondariale di Nisida di Nisida essendo iniziato il processo d'appello contro la nuova camora organizzata nel quale sono imputata e sarò testimone d'accuso contro Tortola perciò è mia piena intenzione di partecipare a questo processo ma noi non l'abbiamo fatta la torta qui perché l'aveva fatto una rinunzia la mia richiesta alla signoria vostra è quella di essere scortata durante il viaggio di andata in ritorno un maggior numero di scorta per la massima incolumità e sicurezza personalità io abbiamo comunicato che deve essere trasportata con la massima cautela ma questa è una lettera che noi avevamo già mi sa credo faccio presente che sono assegnato alla sede della cassa circondariale di Brescia sezione pendente ma questa è una copia fotostatica si è logica è l'originale dovrebbe essere qua e poi ci ha aggiunto una lettera e questa è autografica questa è la lettera ma l'ho dichiarata è arrivata in questo momento da chi? è stata mandata da Pantico e Pantico come fa ad avere la lettera della Picozza lo vogliamo capire ecco e poi l'ha ricevuto quando viene l'ha ricevuto Pantico l'ha ricevuto Pantico l'ha ricevuto l'ha mandato con i copi fotostatica a quella lettera autografica si esatto esatto ma questa lettera è autografica della Picozza questa l'ho legta un bacione si parla che è l'amante di Catapato la Picozza se lo voglio sapere Pantico come fate una lettera della Picozza perché siccome la Picozza le ha mandato una lettera a Pantico e ha iniziato la copia fotostatica è chiara ma adesso abbiamo chiamato adesso deve venire per la Picozza per la Picozza bellissima bellissima carissimo D'Amico Poscuolo mi sa c'è che hai visto che lettere sono ma è la diretta D'Amico non è la diretta a noi ma l'ha mandata queste due lettere può essere scortata ma già l'avevamo noi quindi è già stata spedita alla Corte ma non c'è una lettera di Pantico che è chiusa questa qua ma io sei mettente D'Amico è una lettera di D'Amico ma è mandata attraverso attraverso Pantico mi è arrivato qua in questo momento io l'ho presentata l'ha mandata credo Pantico Pantico ma l'ha mandata anche quella di D'Amico la lettera più precisa che la lettera siccome ogni stanza mi arriva dalla corrispondenza che io ovviamente consegno la lettera di D'Amico mi precise il mareciato la mandata Catapano ecco è una lettera chiusa del D'Amico quindi Catapano ha mandato allora Catapano ha mandato la lettera di D'Amico e questa lettera è indirizzata alla corte io pensavo eh giusto giusto qua si risparmi di franco porri vedo si risparmi di franco porri forse tutti incollati in maniera tale da non farla leggere è una lettera che la chiude ma la facciamo leggere chiusa la legge il consiglio è giusta è una voce chiara non si è aperta perché la metta io le lettere giuste non si possono talmente devono essere aperte allora è aperte è aperta e riguarda la querela sport quindi non riguarda questo non riguarda un piccio è una querela sport quindi riguarda l'esame della figliuola non ci interessa a noi e sarà rimessa è già stata rimessa alla proposta e mandiamo anche questa non riguarda la visione personale non ci riguarda no non dice no no dice che scriverà no dice soltanto che parta che se la lamenterà con le autorità politiche alte per quello che è successo non riguarda quindi la mandiamo per basso e poi per rinottare al pubblico come dice carabinieri scusi carabinieri non vedo il presidente non sento proprio nemmeno perché qui in mezzo un po' si vede è un po' si sente quindi grazie è una lettera personale di amico alla corte è una lettera personale che sarà inoltrata tramite la proposta generale al pubblico ministero qui è stata inoltrata la querela quindi non riguarda è inutile dare o dire dovrebbe essere letta che so a porte chiuse e a non valare bene di sgombrare più ma l'aulo per leggere una lettera che poi non riguarda questo processo allora San Vilippo voi avete finito presidente come? dico avete finito se voi mandate l'antelettor insomma io chiedo la parola e non mi tiene mai concessa e voi siete arrivati ora sono arrivato e quasi quasi mi verrebbe voglia di dire che non c'è niente da dire presidente è perché ieri ho chiesto la parola e non me l'ha dato l'altro ieri ho chiesto la parola sono venuto sono venuto malgrado mi sentivo male perché io non sono in condizione di viaggiare ma io viaggiare noi lavoriamo fino alle tre e mezza alle quattro ogni giorno interrotta me un giorno la porta e non è che senza fare niente senta ma presidente io mi sciroppo più di quattrocento chilometri al giorno anche questo è fastidioso abbiamo cercato di farle evitare questo viaggio e non ci siamo presciti va bene ma quando uno le chiede la parola e lei gliela concede a chi che sia e poi quando gliela chiedo io non me la concede non è vero mi chiama per testimonia che cosa le dovrei dire che non c'ho niente da dire no va bene non è che non l'avete niente voi siete stato aspettate San Filippo San Filippo voi siete stato condannato al San Filippo San Filippo San Filippo non ci rivolgiamo signore presidente ma insomma ma quello mi insulta presidente perché non intendo essere offeso da tu io mi allontano da là e vattene via che quando qua non servi non serve presidente noi ci allontaniamo adesso basta no no adesso basta te ne vogliono andare è ancora qua presidente è ancora qua non dovete ma ha detto che se ne vuole andare presidente noi ci allontaniamo dall'aula per cortesia tengo un comportamento è una vergogna se rimanete qua bravi e mannaccia la misera ma scusi ma se sono insultato presidente presidente l'avvocato l'annio del foro di penemento si allontana dall'aula noi non siamo abituati nel nostro foro ad essere trattati così tu sei abituato a stare citto lei parli come si deve se no ti busco la querezza non interrogate perché oltre a tutti deve rendere l'interrogatorio lo deve rendere pure l'interrogatorio il pensiero della corte e nel superiore interesse della giustizia ci allontaniamo dall'aula bravi proprio interpretando il pensiero della corte della stessa corte non dovete intervenire non intervenire intervenite voi ma che cosa devo fare allora devo essere interrogato cosa si dovete essere interrogato e dovete intervenire la pazienza aspettata avete provocato già questo disapore dagli avvocati perché non mi rivolgete in maniera anche garbata li confronti all'avvocato ma quello non mi hai insultato non c'è una parte li confronti all'avvocato Presidente mi hai insultato mi hai insultato e mi ha detto delle parolacce se li dicono piano piano lei non li sente qua non si fa l'altro che sentire parolacce molte volte sono dette qualche volta non sono neppure dette e sono sentita allora Sanpini si è stato controllato anche qua a tre mesi non c'è stato nessuno siamo soli siamo arrivati soli io e lei ma che devo fare se mi insultano ma non rispondete ma come non devo rispondere fino a un certo punto Presidente è certo fino a un certo punto perché se sarò nelle prossime udienze e sarò ancora insultato così rialgerò non verbalmente ho ritornato alla tavola del gabbi sperando eh sì me ne vado e che devo fare comunque non è che sono disposto a essere interrogato quando ci sono gli avvocati no potete potete essere interrogato soltanto quando ci sono gli avvocati voi qua siete un'imputata non ve lo dimenticate questo fatto dite agli avvocati che posso rientrare la gabbia intera così restiamo in bocchi silenzio in quella gabbia numero io non leggo la mia numero che non per favore stamattina è programmato l'interrogatore di San Filippo e Belluso ora inviamo il processo sentiamo San Filippo e Belluso abbiamo fatto il minuto di sospensione per l'incidente e basta adesso sentiamo San Filippo che viene qua come imbutato e basta San Filippo ma San Filippo mi state a sentire dovete accomodarvi qui senza dire neanche una parola cioè ricordandoli che è stato già esposto una volta perché voi siete imputati e siete appellanti è così ora avete reso in primo grado cioè gli istruttori avete reso un interrogatorio il 26 luglio 83 e avete detto questo Presidente mi scusi se lo interrompino io non dico niente agli avvocati però però gli avvocati sono pregati di non dire niente a me perché con tutto quello che è successo in quest'anno con i viaggi massacranti che facciamo loro sono nervosi anche noi siamo nervosi è chiuso l'incidente non ritorniamo avete detto così dall'ottobre 81 ho deciso di collaborare questo è sommariamente vi leggo l'interrogatorio non tutte le parole vostre barra Foggi mi salvò da un attentato teso mi da Andraus e Faro scrissi una lettera al pubblico ministero accennando anche alla faccenda Tortola nel carcere di Nuro fu trasferito Duratello che venne nella mia cella la vostra cella un giorno mi parlò di Tortola dicendo che aveva lavorato per lui e per altri nel traffico della droga e nel riciclaggio del denaro sporco mi parlò dello sgarro fatto ai fratelli Mirabella per oltre 200 milioni e come si era pensato di pulirlo e come si era salvato per l'intervento di Frank Coppola questo è l'interrogatorio che resta da voi mi disse che Tortola aveva fatto alcuni lavori anche per Cutolo ammetto di far parte della nuova camorra organizzata la mia affidazione avvenne nel gennaio-febbraio 1981 a Pianosa avete ancora reso un altro interrogatorio il 6 febbraio 1984 dopo 5 mesi avete detto ammetto la debito avete poi indicato numerose persone che facevano parte della nuova camorra organizzata che per i motivi che le ho spiegato in primo grado non ho accusato qui in aula poi presento un elenco degli affiliati questi distruttori sempre sono a dicersi relativamente ad Enzo Tortola conferma la direzione resa precedentemente quella di cui sommariamente vi ho letto in udienza all'udienza poi del dibattimento il 28 marzo 1985 avete detto confermo le dichiarazioni rese eccetto quella verso Tortola questi e innocente io ho riferito solo quello che mi ha detto Turatello poi nella caserma di Carabinieri di Napoli Barro e Pantico separatamente mi dissero che Tortola era innocente anche Merluso mi ha detto ciò nell'81 io Fala Andraus Turci Tucci Rossi Chiti confluimmo nella nuova camorra organizzata Sant'Aniello Turci Vendri Chiti Franzese Pasquale Fosca Alessandro fanno parte della nuova camorra organizzata me lo hanno riferito loro stessi ho saputo da altri che anche la marca Salvatore Carioli Cristiano non lo so Cristino non lo so Gangemi Gangemi e Madonna fanno parte della nuova camorra organizzata poi successivamente avete presentato quell'esposto di cui avete dato lettura voi stessi in confronto con Tortola ecco questa è la storia anche cronologicamente le vostre dichiarazioni ora voi in rapporto alla alla Presidente allora siete con questo sì 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 allora confermo tutto però prima di iniziare con l'interrogatorio vorrei dire che non è assolutissimamente vero quello che ha detto Pasquale D'Amico visto che non ho avuto la possibilità di difendermi cioè non è vero in quest'anno non solo su Di Me ma anche su Gianni Melluso qui un sacco di pentiti stanno facendo per usare un termine il tiro al Melluso prima si diceva il tiro alla Tortora ora si dice il tiro al Melluso perché ce l'hanno sulla punta del naso Pasquale D'Amico non comandava come faceva capire lui ieri in quest'udienza Pasquale D'Amico è stato condannato a morte dalla Camorra e dalle BR nel nella primavera dei sequestri delle BR del 1981 durante il sequestro di Ciro Cirillo e ci sono anche dei riscontri lui ha mandato una lettera al mattino in quel periodo e ha fatto sapere mediante questa lettera che se le BR non avrebbero liberato Ciro Cirillo i camorristi si sarebbero alleati ai carabinieri a dare la caccia ai brigadisti praticamente si è autocondannato a morte da quel momento in poi se prima era nessuno mescolato con niente vabbè da quel momento in poi non contava proprio assolutissimamente niente anche io sto collaborando per per questi fatti di cui con il giudice Alemi e ne so qualcosa in più di D'Amico perché io mi ero politicizzato c'è un mandato di cattura per insurrezione armata con chi voleva fare la guerra a San Filippo con chi con chi volevate fare questa guerra in questa insurrezione armata non ho capito con quale banda con quale no noi non volevamo fare la guerra a nessuno no rispondi del reato di insurrezione armata a me sento a Morello lei fa sempre spesso e volentieri ironia con i pentiti però io ho visto che quando qui vengono dei camorristi va bene che sono veramente dei criminali lei questa ironia non la fa io devo fare domande a chi accusa non che si difenda il diritto io le ho detto che a causa di questa attività politica che ho svolto in quel periodo lì ma con chi voglio sapere con l'EPR ecco mi si contesta l'insurrezione armata con il mandato di cattura e io con l'EPR volevo sapere a banda armata insurrezione armata allora piano piano era rimasto in sospeso un venuto allora cercate di chiedere le le istruttorie hai chiuso soltanto il risultato se si è inviato a giudizio diciamo a voi presidente non so se risulta già è un dato che potrebbe risultare altrove comunque è una data certa vorrei sapere la data di questa innanzitutto se esiste perché non lo so se questa lettera al mattino di D'Amico che data c'ha il mattino in che data l'ha pubblicato la data non la so però se fate una ricerca la troverò senza altro perché se n'è parlato di questa lettera apri l'81 facilmente apri l'81 sarebbe il caso di acquisire il numero del mattino che porta la a ma io ho parlato della primavera dei sequestri 1981 basta questo primavera 81 vediamo se è mai arrivata non lo so si parla di una lettera pubblicata ma lui queste cose quando le ha sapute? quando le ha sapute? io sei da lei ero con lo stesso D'Amico al carcere di Badecarlos nel 1900 in quella primavera lì quella primavera sì ero insieme con D'Amico nel carcere di Badecarlos e siccome partecipavo e siccome partecipavo per incarico dei comuni Badecarlo 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 e siccome Presidente partecipavo come componente comune per incarico degli stessi comuni alle riunioni della brigata di campo delle PR di cui ho subito anche un processo sono stato condannato per banda armata e altri riati connessi le posso dire con certezza che la brigata di campo cioè su direzione del fronte delle carceri guidato all'epoca da Giovanni Senzani ha detto che D'Amico da quel momento si doveva considerare un cadavere non è stato ucciso non è stato ucciso condannato cioè e dalle camorre e dalla camorre e condannato anche dalla c'è stata anche una clamorosa c'è stata anche una clamorosa smentita perché lui fra l'altro nella lettera diceva che lui parlava per bocca di Cutolo Cutolo perentoriamente ha detto che per bocca di Cutolo parla solamente Cutolo la sentenza è dell'anno scorso e il presidente mi sembra che si chiama Vitalis ma dove? a che parte? che città? Nuoro cioè che tribunale per che cosa? mi sembra che sia Corte d'Assise credo Corte d'Assise e quando? ma quando? l'anno scorso grosso modo se dobbiamo chiedere la sentenza ricorda il nome del pubblico ministero ma senta lì non è che non è che se ne facciano tanti di processi poi qui c'è un avvocato che mi segue va bene ossessionatamente in tutti i processi si chiama Bacciovi fatevelo dire da lui perché lui era un avvocato che era in quel processo lì senta Presidente scusi ricorda per caso San Filippo il nome del pubblico ministero no comunque il processo il pubblico ministero si ricorda per quanto riguarda i dati del processo li conosco io quindi eh li conosce lui io che San Filippo continui a parlare di questioni che non c'entrano niente perché sta parlando di questioni brigate rosse guardi che era attivente a caso d'amico io no io vorrei conoscere il nome del pubblico ministero ci dice Morello e non è un attivente si è fatti per Damingo e lui dice che non sono attivente no lo vorrei soltanto per quanto riguarda non l'ha detto prima ce lo dice soltanto stamattina ma guardi che io fino a ieri fino a ieri a lei le ho chiesto la parola a lei al presidente per quale motivo allora io ti rimando le faccio la domanda non mi avete chiamato ma in istruttore in istruttore non lo sa che posizione avevo assunto io che posizione hanno assunto tanti pentiti però questi sono fatti riscontrabili noi che sono chiacchiere perché le chiacchiere stanno a zero scusi presidente i zeri sono rotondi e si allontano rotolando presidente avevo chiesto avevo chiesto alla corte ecco chiedo alla corte di rivolgere questa domanda al San Filippo ricorda il nome del pubblico ministero di quel processo poi dirò perché si mi sembra che si chiamasse Chessa ah Chessa non era Norfo o era Norfo o era Chessa no Norfo è quel pubblico ministero che fu accusato ma io lo so a che questo vuole arrivare lei ha votato Coppola ha votato Coppola è Chessa la voto io sì Norfo è il pubblico ministero che fu accusato dal San Filippo e da altri e questo ha affinanza con questo processo di avere tramato l'uccisione del presidente di quella corte d'assise è giusto agli atti vi sono le prove di quello che dico presidente non riguarda esula da questo processo c'entra niente questi dati visto che gentilmente c'è l'avvocato che ce li può dire tutti autorevolmente ce li può dire tutti ma io io non ho come i dati so che il processo attualmente è in attesa di utilizzazione di udienza alla corte d'assise di appello di Cagliari la sentenza di primo grado è della corte d'assise di Nuoro di Nuoro e chi era il pubblico ministero e quella è la cosa che aveva il pubblico ministero era Chessa l'episodio norfo nel quale l'episodio norfo nel quale è un fatto diverso perché la parola dei bacioni lo sa in pubblica udienza accusò di aver organizzato e preparato omicidi al pubblico ministero fu un'altra fu un'altra no fu accusò di avere organizzato un'infinizione in particolare del procuratore del procuratore generale della Villa Santa quello fu un altro processo sempre a Nuoro quello fu un altro processo il quale era pubblico ministero norfo state per difendermi da queste imputazioni siete come appellante rispondete come io non ho niente da cui difendermi presidente ho ammesso le mie responsabilità ma io l'ho detto già avete addirittura rifiuto l'attenuante generica avete fatto un appellante sì perché non mi interessa e mi scusi dopo che mi hanno dato un ergasto le 800 anni di carcere che me ne devo fare di 4 anni voglio una condanna come tutti gli altri eh voglio una condanna come tutti gli altri ma avete detto esplicitamente io non lo voglio dire su questo punto su questo punto credo che il dottor Morello non abbia niente da dire perché ha detto che Belluso ha peso 3 anni e gli sembravano pochi no non ho detto che mi sembravano pochi no gli sembravano pochi 3 anni perché non me lo dice a me che gli sembrano pochi io gli dico perché non me lo aumenta io ho detto che Belluso che me ne dia a 20 o che me ne dia a 30 è la stessa cosa io ho detto che Belluso ha avuto poco perché il tribunale è andato sotto il minimo legale perché la legge prevede 4 anni il tribunale gli ha dato 3 anni senza attivanti vuol dire che i giudici di primo grado non è che erano tanto esperti rispetto a lei no no erano esperti ma possiamo sbagliare tutti questo dovete pensare non è questione di essere esperti o meno non gli poter aumentare la pena a lei doveva fare appello ma non la fare e poter aumentare la pena a me con l'appello suo non la possiamo aumentare la pena perciò può stare tranquillo che gliela possiamo dividere non gliela possiamo aumentare no ma guardi che io sono tranquillissimo perché anche se me l'avrebbe aumentata infrangendo la legge non l'avrei certamente denunciato non è che devo uscire domani ma che condanna avete avuto avete avuto ho detto se dire il gasto lei quanti anni poi e tanti centinaia di anni non lo so neanche io quanti anni c'è 800 ha detto ha detto 800 vabbè l'ho detto tanto per dire comunque sono centinaia vabbè 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 dovete aggiungere altro come imputato come imputato dovete rispondere senta allora io no come imputato vabbè come imputato io ho ammesso le mie responsabilità penso di aver detto tutto e quindi hai detto come interrogatori hai detto tutto poi dovremmo vedere se eventualmente dovessi ammettare qualche confronto o no 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 guardi io voglio fare un solo confronto perché come mantengo la linea del primo grado dico solamente confermo tutto e non voglio fare però c'è un confronto che lei ha autorizzato e che siccome io non devo venire più la pregherei di farlo fare un confronto con Valanzasi io non ho mai accusato io non ho mai accusato Valanzasca di essere un camorrista e sai perché? perché accusare di certi riati gente come Valanzasca gli fai una cortesia escono dall'isolamento e comunque girano per cercare di tentare evasioni e altre cose però ora adesso visto che lui ha chiesto il confronto con me e lei l'ha autorizzato lei l'ha autorizzato io lo accuso con dati di fatto presidente che lui è un camorrista sì 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 mi pare che sia stato ammesso il confronto con Valanzasi poi siccome non verrò più per parecchie udienze quindi la prego di farmelo fare adesso ah è insegnito prima che si chiude la fase dibattimentale chiedo anche un confronto l'ultimo confronto con Angelo Santaniello aspettate lo chiedi pure tu e ora vieni qua che ti faccio vedere che lo chiedi pure tu non rispondete dovete fare la strategia con me non dovete parlare con gli altri Santaniello dice per conto suo al massimo non posso rispondere a Santaniello allora chiedo eh presidente no no deve prendere Valanzasca il procuratore generale per che cosa? dobbiamo sfruttare devo dire una cosa comunque si è il confronto niente da dire però c'era un fatto che io avevo ancora un dieci minuti di deposizione da fare senti io non devo venire più qua non devo venire più quindi facciamo subito non c'è problema non c'è problema il confronto lo facciamo subito ci mancherebbe l'ho chiesto però dico io dovevo ancora concludere non so e trovate un buco fra un confronto e l'altro non lo so ma lo troviamo un buco ma oggi ci andiamo ancora ritorno Meluso è andato a confronto con Meluso già l'ha assorbito pure la partaggiorna perfetto con certo punto gli avvocati non ce ne fanno più compagnia allora chiedo presidente posso parlare io? cioè io chiedo subito il motivo per il quale io ho chiesto il confronto con il San Filippo cioè lui nelle sue dichiarazioni di quelle che ho letto ovviamente dice che io e Turatello lui gli risulta che nel 74 nel 75 nel 76 eravamo in discussione in guerra come si dice tra virgolette volevo sapere se questa affermazione che ha fatto la conferma proviene da luce o no? almeno nel momento in cui è avvenuto è avvenuta quella famosa sparatoria all'uscita della pischia di Turatello a posto grazie quindi se si può andare a vedere questo effettivamente risale al 76 e se gli risulti no 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 questo parla così l'uno con l'altro è l'attroccio ci vuol potere no no comunque sono cose che sono già accertate dai verbali era solamente per confermarlo perché c'è un ulteriore domanda stai tranquillo Valanza mica te la stai cantando no no lo sto chiedendo a te lo stai dicendo tu non lo mica detto io no perché ti vedo molto preoccupato qui guarda allora lui ha parlato di una sparatoria in Bisca adesso vorrei sapere se quello a cui lui si riferisce è una sparatoria alla Bisca nella quale sarebbe stata fatta tra virgolette una rapina un esproprio oppure dove ci sarebbe stata quella famosa discussione con non lo dire che lo dico io no a posto allora dico in piazza Cantore esiste un locale notturno e non è una Bisca dove sarebbe successo un episodio senti a questa piazza qua non la conosco non l'ho mai nominata e non mi interessa neanche lo dico io che si trova in piazza Cantore a me io non la conosco a voi non la conosci allora voglio io ho solamente Presidente io ho solamente dichiarato che verso e l'anno è quello lì nel 1970 1976 e un certo un catanese Salvatore Caruso soprannominato Spaghettino entrò in una Bisca di Frenzessi Duratello ha perso 20 milioni ha perso 20 milioni non li ha voluti spagare Duratello gli ha sguarciato la gola infilando due dita all'interno e siccome Spaghettino si trovava in compagnia di un suo uomo un certo Vito Pesce questi andandosene via poi nella tarda notte hanno aspettato all'uscita Duratello e i suoi uomini e gli hanno sparato addosso in quell'occasione Presidente in quell'occasione devo aggiungere questo Duratello è stato ferito e per avere un posto sicuro è stato nascosto in casa Tortora risulta già questo qua dagli anni eh d'accordo risulta la dichiarazione se è vero o no bisogna accertarlo Presidente un momento no io un momento un momento Presidente si 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 no esatto siccome sono stati siccome loro lo cercavano per uccidere giusto per uccidere lo cercavate o no siamo d'accordo su tutto non c'è problema ma lo cercavate o no e allora faccia verbalizzare che lo cercavano per ucciderlo eh Presidente allora eh successo questo episodio questo episodio a a voce del San Filippo che lui tra parentesi ha detto lui non lo sto dicendo io che conosceva già prima questo episodio che poi glielo avrebbe conformato Duratello a Nuoro esatto si oh erano presenti tre persone diciamo quelli nemici di Duratello uno sarebbe stato Caruso Salvatore Spaghettino l'altro sarebbe stato Vito Pesce una terza persona e la terza persona sarebbe stata mi sembra non ne sono sicuro però Rossano Cochis boh a posto questo allora torno a bomba a questo punto io non era questo qua mi serviva io sapevo che San Filippo aveva dichiarato questo siccome io ho detto non ne sono sicuro se l'altra persona era Rossano Cochis boh a posto non ho niente da ecceppire a questo punto il senti ma questo che c'entra quello che tu sei Camus per favore ti sto dicendo ti ho posto una domanda ma in risposta adesso dico perché di questo confronto con San Filippo e perché ho chiesto questa San Filippo perché Andrea Villa dichiara che in quel locale quella situazione quegli stessi episodi di cui stiamo parlando adesso sarebbero stati commessi da Vito Pesce Cocchis Rossano e Andrea Villa e non parlo assolutamente di Caruso Salvatore a me non mi interessa della megalomania di Andrea Villa a me mi interessa boh scrivati a parlato di megalomania di Andrea Villa a posto sì sì questo vorremmo che fosse puntualmente verbalizzalo a me serve Presidente io l'avevo già fatto presente al giudice relatore Morelli senti un po' per questo confronto un attimo e per favore ti rispondo uno per voi ti rispondo non ti preoccupare a me questo Andrea Villa cioè Andrea Villa si sostituisce in questo frangente a Caruso Salvatore per dimostrare la sua discussione con Turatello ecco ora tu mi devi dire una cosa tu mi devi dire una cosa era Caruso Salvatore detto Spagliettino sì te lo dico io sì Renato Valanzasca dichiara che c'era Caruso Salvatore e tu hai ragione e Andrea Villa ha mentito ecco ma se gli altri gli altri dicono cazzate io che ci posso fare io volevo cercare ti sto dando ragione scusa stavo cercando la tua conferma del fatto che hai saputo curiosissimo che state d'accordo tutti e due stavate prendendo no 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 ma io difatti ho detto siamo perfettamente d'accordo non dico su tutti e tre io dico semplicemente che era presente Caruso Salvatore e Andrea Villa si sostituisce a Caruso Salvatore e non parla da tenere presente di coltellati Andrea Villa ma semplicemente di schiaffi non perché non ci siano state le coltellate perché le coltellate ha ragione lui ci sono state e gli ha messo due diti in gola però siccome Caruso Salvatore è stato arrestato con la gola squarciata mentre invece Andrea Villa non avrebbe nessuna cicatrice allora ha dovuto parlare sostituire la coltellata con gli schiaffi Presidente io non avevo capito che Valanzasca era d'accordo con me per il semplice fatto che forse è l'unica volta che Valanzasca si trova d'accordo no no io sono sempre d'accordo con te sai che ti voglio bene no? sì pure io ti voglio bene sai quanto ti voglio bene comunque non ti agitare però quanto 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 mi hai minacciato e quanto ti sei vantato in giro anche dell'uccisione di mio padre che dice che l'hai avvallato ma guarda in quel momento non mi volevi bene guarda io non ho no no non ci siamo fuori strada eh Presidente no 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 ma io mi sembra di fare più più tranquillo di così dico io non ho avvallato di tuo padre l'ho saputo dai giornali se mi dici se mi è dispiaciuto e se mi sono messo a piangere non mi sono messo a piangere tutto qui io non ho ne ha avvallato perché è una cosa che non mi toccava non mi riguardava tu a me personalmente non mi hai mai fatto stai tranquillo a posto a posto prendiamolo io sono io assorbo tutto sono una buona spugna comunque Presidente ma Presidente ma lei che cosa si aspetta? l'unico rapporto che ci può essere fra me e Valanzasca è questo eh Presidente io sono sempre speranzoso quantomeno quantomeno io sono urbano non sto offendendo quindi dico a me chiedo ti sto offendendo no 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 appunto continuiamolo ti meriteresti per altro ma mica ti sto offendendo continuiamolo così non mi fare piangerai non serve no? dunque la seconda domanda era questa dice che lui non mi aveva accusato qua c'è una lista che non so dove più l'ho messa fatta da il signor Sanfilippo che fa una lista di camorristi a questo punto però eh? ora a questo punto no 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 aspetta 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 l'hai già detto l'ha escludo subito dico io volevo porre questa domanda della lista a questo punto lui dice che non mi ha incluso solo per farmi un piacere perché per me sarebbe stato un girare quindi a questo punto cade la domanda io non ti devo più chiedere niente ma ci ha detto mi faccio un favore quindi basta è vero presidente loro se c'hanno dei processi escono d'accordo dall'articolo che girano per cercare di evadere di uccidere le solite cose le solite cose presidente è questo ma io lo potrei accusare presidente io lo potrei accusare Renato Vallanzas di riati ben più gravi del 416 solamente che io non l'accuso perché gli faccio una cortesia grazie come a lui come a tanti altri perché qua ce ne sono tanti altri come lui però ora visto che lui ha chiesto i confronti io le devo dire determinate cose ecco quando nel 1981 Turatello e Cutolo volevano fare un ponte fra Napoli e Milano cioè volevano fare una fusione fra le due organizzazioni guarda che reggio Calabria Messina senti un po' hai detto non parlo più lo sai che cosa hai detto lo sai che cosa hai detto hai detto che ti comporti bene e allora comportati bene perché i tre caratteriani ci sono davanti far non bastano quindi comportati bene e non fare lo sfumicoso eh Presidente allora dico una cosa stiamo parlando volevano fare una fusione senta Presidente volevano fare uno per ha parlato lei esatto e dopo parla lei ecco e poi parlerai anche tu tu parli sempre mannaccia fammi parlare un po' a me vabbè senta volevano fare una fusione fra le due organizzazioni sì vabbè c'è quale reggio canadale non c'è ragione in Milano in Milano in Milano in Milano in Milano dice lui mannaccia eh mi riferivo al ponte di Messina al ponte sullo stretto era una battuta ma c'è anche quello di Bucmi zitta Napoli Milano voi dove state parlare eh volevano fare questa fusione lui era d'accordo era d'accordo infatti per dargli dargli lo zuccherino al al Berranè gli hanno dato su su sollecitazione di Cudolo Turatello gli ha regalato una bisca ora voglio vedere se lui nega che Turatello perché lui ha detto che faceva che faceva che doveva far mangiare i suoi uomini va bene non gli ha non gli ha regalato una bisca poi glielo confermerà lui stesso glielo confermerà lui stesso no un attimo io ancora non ho finito in che anno è a casa e all'inizio dell'81 il mese esatto il giorno e l'ora mi dispiace non glielo posso fornire con l'inizio e e quindi lui era d'accordo con questa fusione e questa fusione è avvenuta ma lo fate la domanda adesso un attimo questa fusione è avvenuta è avvenuta poi poi ecco però lui si credeva siccome lui si è sempre ritenuto un capo e ha sempre detto come 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 Cassius Clay io sono il più grande l'ha sempre detto non lo può negare si credeva di fare una specie di repubblica fra virgolette nella repubblica cioè si credeva di fare all'interno dell'organizzazione un fronte a sé queste velleità sono venute a mancare quando nel carcere di Ascoli Piceno ha ricevuto degli schiaffi da Raffaele Cutolo perché era null'altro che uno scagnozzo come tutti gli altri quando il PM gli ha detto che Barra aveva saputo il PM Olivares che Barra gli aveva dato gli schiaffi ha avuto un lapsus perché è stato Raffaele Cutolo a dargli gli schiaffi vediamo se nega anche questo per il momento mi deve rispondere a questo perché se no poi ci dimentichiamo allora ecco bravo allora dovete rispondere a questa dovete rispondere a questa cosa mi scusi adesso io pretendo di non essere interrotto dal Signore pretendo chiaro l'ho lasciato parlare ancora un po' mi addormentavo all'unione prima prima all'unione che ti ero un po' su Presidente qua non so se ci fosse stato seduto in questa sedia qua Tortora diceva delirio io delirio non lo dico comunque minchiate ha detto un altro test che stavamo atto stamattina e rispondo minchiate cosa devo dire questo dice c'è stata quest'unione tra parentesi nell'8081 mi sarebbe stato no rispondiamo a qualcosa e l'ha data questa pisca Turatello la pisca te l'ha data o no ma vuoi farmi parlare e allora state zitto Presidente devo rispondere per favore allora da quello che risulta non rispondo io per me rispondono i carabinieri la polizia poteva rispondere quello che è qua stato stamattina e paminonda nel 1980 gennaio 1980 Turatello fa un processo dove c'era quest'epaminonda al quale viene tagliato forse 79 addirittura viene tagliata la faccia ad epaminonda da uno dei Mirabella Turatello da quel momento non è più in possesso delle pische di Milano quindi nell'8081 quando dice lui dice menghiate come diceva quello stamattina ho risposto alla sua domanda no quella è un'altra piccola aveva ancora delle pische Turatello nel 81 all'inizio lo ricordo io perché lui non se la ricorda Presidente non è vero che ha perduto tutte le pische ma Presidente non è vero che ha perduto tutte le pische senti dico facciamo un confronto l'ho lasciato parlare ma dovete far parlare meglio spegni la luce a questo perché se no non facciamo un confronto è un monologo no mai eh beh no però devo rispondere perché no mai si presta tante interpretazioni invece ho voluto stabilire che Turatello da quando dice lui un anno un anno e mezzo prima già pische a Milano non ne aveva più perché il padrone in contrastato delle pische era diventato e Paminondo è sporpiando la Turatello e Paminondo è stato sempre un asino non è mai stato quello che i giornali o quello che dice uno come te perché ti conviene dire così e Paminondo non è stato mai nessuno a far restare a posto mi appropio di una frase che ha detto un'altra persona un altro pendito a far restare quattro pensionati nascondendo veramente la gente che si meritava di andare in carcere faccio presente che sono in base alle relazioni di solo ed esclusivamente e Paminondo senza prendere il gruppo dei pentiti di questa situazione solo il gruppo solo e Paminondo ha parlato di 90 omicidi per i pensionati comunque andiamo avanti sono minchiate non me ne frega niente mi dice le cose dunque gli schiaffi dai presi da Raffaele Gutolo gli schiaffi dai presi da Raffaele Gutolo do anche questa risposta la quale avevo già risposto in primo grado ho aggiunto la lanzasca gli schiaffi Sugamenti state zitto lascia parlare ogni tanto che c'è oh ehi Sabri 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 no 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 non fermo Sabri non la siete stato non siete stato mi difedi a me che puttana non siete stato non lasciami fermi a me mi dira Sabri si è si è si è si 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 posso avvicinarmi si 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 mi si mi si sto calmo ma non mi sono neanche morso è mi 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 ma è presidente non mi interessa presidente che mi importa io non vi chiedo se mi interessa o no? Allora, che mi interessa o no, non mi interessa neppure a me. Allora, allontanate all'aula del comportamento violento ed irriguardoso che ha avuto, e di confrontare la Corte. Eh, Presidente, posso parlare? No, un momento, Presidente, mi scusi. No, 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 un attimo, Presidente. No, è un attimo, Presidente. E insomma, questo fa bordelle e mi mandate via me. Mi volete fare... Eh? No, no, dico, ma io posso parlare, ho l'opportunità di parlare. No, Presidente, qua mi è stato. Io dovevo fare un confronto con San Filippo. San Filippo ha volutamente fatto questa sceneggiata per non rispondere alle mie domande. Allora, io parlo del confronto che dovevo fare con San Filippo. Dato che ha fatto tutta questa scena, insomma, mi ha dato lo stesso fastidio che mi può dare un moscone quando mi dà fastidio. Difatti, non mi sono nemmeno scomposto più di tanto dalla sedia perché... San Filippo deve essere espulso dall'Aula. Presidente, ma... Eh, Presidente, facciamo conto che ci sia stato uno che ha avuto una crisi epilettica. Ce l'ha avuta lui, io non mi sono neanche mosso. Penso che si sia stato visto dalla corte, che non mi sono neppure mosso. Non ho neanche tolto gli occhiali così per una questione di... Dico, magari di opportunità, via. Eh... ...participare. Tanto ormai non penso che stia... Al limite può gridarmi qualcosa. Io, a differenza sua, sono intelligente e faccio finta di non sentirlo. Quindi dico... eh, Presidente, eh, tenga presente una cosa, che io... Ma mi sembra che San Filippo... Ma possiamo dare qualche martellata per far star zitta sta gente? Almeno gli avvocati e gli imputati, per favore. No, non l'abbiamo fatto... Non ti avete pensato. No, non ti avete pensato. Beh, vabbè... No, io dicevo martellata, mi riferivo al martellino, che di solito... No, ma di solito... Presidente, mi sembra che lei ha ordinato l'espulsione di San Filippo. Sì, ho ordinato l'espulsione. Ora, ora io direi che dovrebbe essere eseguita questa espulsione. Come? Dovrebbe essere eseguita. Mi sembra che lei è sempre lì. E poi potremmo continuare a sentire Valanzasca che... Io devo sempre parlare di San Filippo, eh, non di altri. Di San Filippo. Siccome Valanzasca avrebbe detto delle cose in occasione del confronto, il confronto è mancato, non per colpa di Valanzasca. Ora facciamo parlare Valanzasca, assolutamente. Sì, sì, no, ma questo ci è stato detto dal Presidente. Il Pubblico Ministero, faccio presente una cosa, che questa situazione da lui mi era già stata prospettata dalle gabbie. Gli ho detto, vieni, facciamo un confronto e mi raccomando, la sceneggiata è già stata fatta ieri, facciamola in maniera civile. Ma ha detto, non ti preoccupare, sono una sola, ha messo solo una postilla, basta che non mi metti in imbarazzo. Solo questa ha detto. E se devo fare un confronto per far piacere a lui, allora evito di chiederlo. Io faccio un confronto perché il confronto deve tornare utile a me e, combinazione, oggi come oggi i miei interessi sono concordi con quelli della giustizia perché ci venga un po' di verità. E allora dico, siccome lo si mette in imbarazzo, questo prende, fa gli scatti isterici. Allora vuoi continuare? Allora, posso? Piano piano, che il cancello è già stato. Eh, Gianni, non ti preoccupare, tu so che sei molto più civile di San Filippo, verrai qua, il Presidente ha già detto di sì, penso che poi con me l'uso, me l'uso non è il tipo da queste sceneggiate, quindi non ci sono problemi. Però volevo prima concludere il discorso... Se lo faccia presto per piacere, perché non possiamo stare qua. non l'ho più niente da sentirla. Ma facciamo presto, lei ha parlato per due giorni di seguito sta parlando, la stiamo lasciando parlare due giorni di seguito. Accidenti, proprio a lei la... Ma lei non è che sta parlando solo adesso, lei sta parlando da due giorni e continuo a parlare, ma non faccio dei cappelli, continuo a parlare, dica tutto e lo dica presto. Non possiamo stare qua giorni di seguito. E allora, per favore il Procuratore non mi interrompa. No, io non interrompo. Oh, e allora, grazie, grazie. Aspetta, vedi a aspettare. Oh, avanti, va la zasca. Dunque, vabbè, a parte c'erano cose che sarebbero state il caso di fare domande direttamente, dunque io volevo far presente solo una cosa, avrei voluto pogli tutte queste domande in sua presenza perché avreste dovuto vedere la sua reazione. Allora, lui si presenta a questo processo come se è presentato in diecimila altri processi. Italicus, strage, bombe rosse, bombe nere, bombe gialle, bombe arancioni, c'è sempre stato dappertutto. A Nuoro, a Genova per l'evasione dei genovesi, a Novara per l'omicidio di noi, ha sempre fatto la medesima fine, la fine del cretino. Non gli ha dato confidenza a nessuno, l'hanno preso e l'hanno buttato fuori da ogni parte perché diceva, non cose contro quello che poteva dire Vallanzasca, che allora Vallanzasca dice una cosa, un altro ne dice un'altra e a questo punto può esserci anche un disguido di vedute. No, diceva cose assolutamente assurde anche per tutti quelli che erano i riscontri processuali. Uno, e a proposito di questo fatto, qui addirittura quando se ne è venuto a dire che in primo grado il dottor Marmo si è persino messo a ridere quando San Filippo ha detto che lui avrebbe partecipato con Concutelli alla fondazione di Ordine Nero, Ordine Nuovo non ricordo, cosa che ha solamente una semplice precisazione che Ordine Nero e Ordine Nuovo esisteva dal 1966, quando non so se San Filippo ancora aveva le braghette corte, a che si è messo a ridere pure il Pubblico Ministero Marmo? Queste sono le affermazioni in genere di San Filippo. Avrei voluto chiedere a San Filippo da quando ha cominciato a collaborare, cioè più o meno io non ho la pretesa dei giorni come hanno la pretesa agli anni. Se lo sapete dicela voi. No, no, non lo so, però so solamente una cosa precedente, che non più di un mese prima era stata arrestata sua madre nel carcere di Palermo perché gli aveva portato una pistola in carcere. È stata arrestata la madre di San Filippo e poi San Filippo ha cominciato a collaborare. Questa è la collaborazione di San Filippo. Concomitanza vuol dire anche un mese dopo, non lo so, dico io, non c'ero. Sì, sì, sì. Poi c'è una cosa, diceva che lui è sempre, io mi baso solamente su quello che lui dice sui verbali. Diceva che era a disposizione della NCO, senza aver commesso mai gravi reati, però San Filippo è uno di quelli condannati per due omicidi a nuoro, al che due sono le cose. O San Filippo che si è autoaccusato di essere uno dei responsabili, o San Filippo mente e quindi non è responsabile e quindi è un megalomada della Madonna, o diversamente, è responsabile, però non avendo mai fatto parte della NCO, la NCO è da escludere che possa avere qualcosa a che vedere con questi due morti. È chiaro il discorso che voglio fare. Tra parentesi, uno dei due morti, uno dei due, era già quinta, un tizio che a Milano aveva fatto arrestare 16 persone, aveva ammazzato la moglie di un poliziotto che era la sua amante e aveva fatto arrestare altra gente ed era diventato il collaboratore fisso dei carabinieri. Oh, e questa era la condanna a morte di Giacquinta, per l'altro non parlo perché non lo so e non lo conoscevo nemmeno. Appunto della guerra di Turatello e questo mi sembra che abbia già risposto. Presidente, c'è un'altra cosa, qui si sovrappongono, Gianni per favore! E allora fatti allontanare, che ti devo dire? Mi vuoi far finire? Dunque, quando qua si parla e si parla di due episodi ben assestanti, San Filippo fino adesso ha detto che nel 1974 ci sarebbe stata appunto questa sparatoria, queste coltellate, non queste coltellate, nelle quali Turatello si sarebbe fatto credere morto. Allora, io dico alla Corte, primo, sono due episodi ben distinti e separati. In una situazione, io ero in carcere quando succede questo fatto di piazza Cantore, di quello delle dita nel collo. Io l'ho lasciato parlare perché alla fine si lega da solo. A lui bastava portare lo spago, il resto ci pensa a lui a legarsi come un prosciutto. Io ero in carcere perché lui parla di un reato successo nel 1975, febbraio-marzo 1975, e io sono stato in carcere fino al 1976, quindi non ci piove che io ero in carcere. Quindi a quel preciso fatto io non potevo essere presente. Quando invece parla che Turatello si faceva credere morto e che io praticamente sarei stato quello che gli ha sparato a Turatello, si parla del novembre-dicembre 1976, quindi lui confonde molto probabilmente i due episodi. Poi lui a parte aveva detto che è avvenuto nel febbraio-marzo 1975. novembre-dicembre-dicembre-76. Poi di questo ne parliamo con quel signore là che... Melluso si riferisce a Melluso? Sì, sì, mi riferisco. È stato detenuto Melluso? No, no, non è che si riferisce a Melluso, no. No, 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 è stato Melluso. Io ero fuori quindi, non l'ho seguito, perciò ho tutto qui... Dice quello che dice... No, perché volevo mettere a disposizione della Corte una scheda, ecco, quindi per poter ricostruire i periodi. Allora, possiamo dire una cosa? Sì, un'ultima cosa. Volevo anche chiedere, questo qua vi sarà facile accertare. No, era per rispondere un po' a quella che è diventata, a parte che è piuttosto evidente, perché lo si vede come si comportano i pentiti in aula. Sono strafottenti, hanno la pretesa di comandare loro in ogni situazione. E io volevo... No, no, e poi, un momento, c'è una cosa, che per quello che riguarda l'aula se ne può rendere conto il Presidente, la Corte, il Pubblico Ministero e tutti quanti. Per quello che invece riguarda il carcere. La cosa è un po' più ristretta. E allora, bisognerebbe andare a vedere se effettivamente San Filippo ha Novara e effettivamente magari non ha, e lui ha un processo in corso e lo sa, glielo avrei questo per questo, non per accusarlo di qualcosa, perché lui ha un processo in corso perché ha tagliato la faccia a un brigadier a una guardia in carcere, al che l'hanno portato alla caserma dei Carabinieri e io ho parlato con un ragazzino di vent'anni, un allievo dei Carabinieri, che si è messo a piangere perché dice che a parte fargli fare la branda di San Filippo, il colonnello gli faceva fare la branda a San Filippo quando si trovava a Novara nella caserma dei Carabinieri, addirittura gli ha fatto assaggiare il cibo di San Filippo perché San Filippo dice, e cosa ne so se qualcuno di voi mi avveleni. Ecco, questo qua era per dire il punto, e vabbè non ci importa Presidente, non ci importa, ma questo è il senso che mi diceva, sono le pretesi di San Filippo, sono le pretesi di San Filippo. No va bene Presidente, però questo a rilievo da un'altra angolazione perché dimostra che anche questo accusatore di Tortora era minacciato di morte. Cioè si sentiva minacciato, non era curante, si sentiva minacciato di morte. No, ma io di fatti, Presidente, io di questo fatto... Si sentiva minacciato di morte. Presidente, ma Procuratore Generale, io di fatti di questa cosa non ho neanche fatto eccenno perché mi sembra talmente banale, quindi è facile dire, è facile dire, è facile dire, no, momento, magari... Procuratore Generale, dico, io non ne ho fatto cenno anche perché è una cosa che, visto che se parlate, Pandigo ha suggerito quando parlava Vincenzo Andraus a proposito della tra virgolette dell'azione di Turatello, si parla di una famosa lettera, dato che di questa lettera io ne sono a conoscenza, però ne volevo parlare con Pandigo perché la lettera non era indirizzata direttamente a me, ma era scritta a Marco Medda affinché Marco Medda parlasse con me. Quindi questo è un fatto per, diciamo, la minaccia di morte a San Filippo. Avrei detto semplicemente due parole, non tanto per accennare alla minaccia, tanto per tornare sul discorso di Vincenzo Andraus che giustamente, una volta tanto, Pandigo ha detto no, non era una delazione, era una lettera ed è la verità, perché la lettera è stata sequestrata, quindi... Comunque, Presidente, un'ultima cosa a questo punto qui, che io avrei voluto dirglielo, mi spiace che se ne sia andato, perché lui qua alla Corte, un po' a tutti quanti, ha detto qua voi non ci volete in aula, non vi facciamo comodo. Ma io onestamente mi pento, mi dolgo di non aver conosciuto San Filippo fin dalle prime mie carcerazioni, perché avere un accusatore del genere è una garanzia da soluzione, è una garanzia da soluzione, perché lui tutti i processi dove si è presentato a testimoniare ha mandato assolto la gente che accusava. Presidente, comunque, su San Filippo non penso di avere da dire nient'altro, visto che c'era qualcosa, ma era necessario che fosse qua. San Filippo se ne è andato. No, ma lui adesso in cambio, subito, subito, perché così facciamo venire Berlusso, prima di... Eh beh, boh, boh, va bene. Noi davvero senza aspettare un po' di... perché Berlusso sta aspettando stamattina pure lui. Insomma, e... e... e compenetriamoci di questa situazione, ci compenetriamo anche noi. Per lui sarebbe comodissimo andarcene alle tre, alle due, all'una. Guarda, io non è che noi abbiamo una passione, un trasporto... Ma non devono fare il confronto, per dire. E poi il confronto. E noi, beh, se ne è andato per un minuto, perché Berlusso non ha reso l'interrogatorio. Ha Berlusso non ha reso? Non ha reso ancora l'interrogatorio. No. Allora sentiremo qualche altra verità. Ah, tu no. Insomma, io ho già cominciato il dialogo, siete stati interrogati? Povero. Presidente, vedete che mi avete chiamato voi. Sì, perciò... Ma siete stati interrogati? Non è stato già interrogato. Che giorno? Non mi ricordo. Aspetta, adesso Berlusso, aspetta. Il giorno, Berlusso. Ma che ragione? Berlusso, il 25 giugno. Ha fatto il confronto con Tortore e Pazzo. No, interrogato, non è stato interrogato. Ha fatto il confronto con Tortore e Pazzo. No, no, solo il confronto ha fatto. Ha fatto il confronto con Tortore e Pazzo. Non è stato interrogato. Anche interrogato. Io posso ricordare. 25 giugno. Se Berlusso, il 25 giugno dovrebbe essere interrogato. Belluso. Eh, esatto. E allora passiamo subito al confronto, perché se non ci vede, poi qua... Presidente, io avevo pregato gentilmente lei, una volta che c'era Paminonda, ha fatto malissimo, credo, da parte mia, a non farmi accettare il confronto con Paminonda. Ma qua, avete sentito come finisco i confronti? Ha ragione. Allora io la prego. Anche Paminonda aveva chiesto il confronto, già al giudice Introini di Milano. Ma io penso che Paminonda sotto sotto abbia detto che non voleva fare confronti, comunque... No, no, lo ha chiesto, c'è un verbale nel quale ha chiesto il confronto con il Ludo. Sì, gli voglio dire, mi faccia una cortesia, ogni volta che qualcuno tira in balla a me, io la prego gentilmente di farmi chiamare a me. Ma non facciamo chiamare a me, dicevo al giorno... Presidente, ma è comodo dire, Merlusso mi ha detto, Merlusso mi ha detto, Merlusso mi ha detto, e io allora come mi difetto? Ma quello dica... Ma io mi sono lato. No, voi, voi potete dire... Come Catapana ha detto che io ci ho confidato tante cose. Lei, giustamente, dice Merlusso... Voi dite adesso Catapana. Catapana. Mi ha preferito tutte cose non esaltate. Presidente, ancora lei non ha visto niente. Ancora ne verranno ancora. Non è solo Catapana, d'amico, qua. Ne verranno ancora qualche sei, sette, otto. Ancora ne verranno ancora di più. E diranno tutta la stessa cosa. Merlusso mi ha detto che Tortore non c'è. Merlusso mi ha detto questo. Merlusso è la stessa tarantella. Ma questa è la verità, ha una sua forza accogente, signor Merlusso. Però non si dimentica, Presidente, che tutti questi che stanno dicendo queste cose hanno fatto dei verbali, dati riscontri su, per dire, Catapana, ha detto che riguardo per dire il figlio di Cutolo gli abbia detto al carcere della Pianosa che il figlio di Cutolo dice che doveva andare lui, quando era scarcerato, il Catapana a Milano alle dipendenze di Moccia. L'ha dichiarato lui stesso al verbale. E ora dici che non è più vero niente. Ha detto che è vero o non è vero? No, no, molti si dimenticano quello che hanno detto e dicono delle cose nuove. E appunto, se come ora verrà... E questo è appunto l'esame che poi farà la Corte per vedere quando sono credibili e quando non sono credibili. Presidente, tu sai che cosa gli ho detto io due, cinque minuti fa a San Filippo? Io sono contento che a posto di venire ancora sei, sette penditi dicendo, Merlusso mi ha detto, ne vengano accevente. Così, in quest'aula, lo capiscono tutti che è lo stesso filone. Merlusso mi ha detto, no, 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 a Novara, a Pescara, a Campobasso, eccetera, eccetera. Ora io, Presidente, gli dico una cosa. Io non so che opinioni si ha fatta lei di me. Io sono uno che non dico mai niente a nessuno, Presidente. Io ho detto anche in quest'aula, sia a Renato Vallanzasca, a chiunque, qualsiasi cosa credete di Tortora, se tu credi che è innocente, fai bene. Se tu credi che è colpevole, fai bene ugualmente. Ognuno è libero di credere quello che vuole. Figurati che se io ci dicevo a Catapano, a D'Amico, agli altri... E dopo riguardo la bambina di Catapano, di D'Amico, Presidente. Per favore, lei mi doveva far mettere a verbale che non aveva 12 anni. Ma lasciamelo a parte, se aveva 12-17 anni è un argomento che si poteva non toccare. Vabbè, c'è un interrogatore, non possiamo fare direttamente il confronto con Vallanzasca. Allora, è un argomento che è da fastidio, è un argomento che è certamente da fastidio. Sono da parte, è avvenuto, non è avvenuto, non mi interessa, mi sia avvenuto o non è avvenuto. A me è un argomento che crea... e non è giusto, nominarlo in un'aula pubblica e in un'aula giudiziaria. Questo è qualunque cosa abbiamo fatto. Io posso parlare di chiacchiere, ma non... Eh, prego. Uno, due, tre punti di contrasto. No, ci sono, vede... Su quelle cose sulle quali siete d'accordo? No, 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 ma se ero d'accordo con lui, molto probabilmente saremmo assieme a mangiare. Non siamo d'accordo proprio su niente. Perciò dico, no, tra le cose sulle quali siete d'accordo, perché crede che ci sarà qualche cosa sulle quali siete d'accordo. Oh, ma voi parlate invece delle questioni in cui non siete d'accordo. Sì, ma io, Presidente, ma non so di cosa si riferisce, d'accordo o non d'accordo. In ogni caso, ovviamente, io trovo dei punti dove ritengo che ci siano delle anomalie nel suo discorso. Comunque, Gianni, hai visto che ci siamo trovati a confronto? Non lo sto parlando. Cioè, mi auguro che sia un po' diverso da quello di Sottilipo. Lo spero bene. Lo spero bene. Poco fa l'hai detto anche tu che io non sono di questa pasta. Oh, perfetto, apposto. No, ma siccome hai visto che siete stati assieme, sai, tante volte certe cose sono contagiosi. Ah, sì. Comunque, io, cioè, quello che volevo, la mia richiesta principi era questa, fare un confronto con Melluso per dimostrare che lui non poteva conoscere Turatello. Vi ho lanciato questa sfida e l'accettate qui. Allora, Presidente, vado per... Mi conosci, Gianni? Vedete che alle tre e mezza finisce l'altro. Mi conosci? Sappe di regolare. Cosa? Mi conosci? Gianni, mi conosci? Non lo so, ma tante volte. Ti conosco da tanto tempo. Perfetto. Ti risulta, questa è la prima domanda, ti risulta che sono camorrista? No. A posto, grazie. Sei vicino della camorra, sì, eh? Vicino cosa vuol dire? Vicino che era assieme. Dopo non so se sei stato legalizzato. Quello non lo so. Ebbè, no, allora un momento, spiega. Vicino ero assieme. Siccome Marco Medda era diventato quasi il vice di Cutolo l'ultimamente che era da Scolipiceno, e tu eri con loro. Ora non so se sei stato legalizzato o meno, eri soltanto amico, mangiavato assieme, non so cosa... Non dice lui questo. Sì, sì, ho capito cosa dice lui. Sei un amico di Marco Medda, oppure sei un amico di Marco Medda, oppure sei un amico di Marco Medda. No, perfetto. Allora, io l'unica cosa che volevo far presente, mi ricollego a quello che avevo già detto prima, cioè di verificare se effettivamente Marco Medda se ne è uscito dalla mia cella, cambiando direttamente sezione. Questo qua anche per... No, non era in sezione con te. No, prima era in camerone con te. Cioè, io ero in sezione con te. Quando tu, quando sei arrivato e sei venuto in sezione dove c'ero io di sopra, in precedenza Marco Medda era il cameroncino con me e Cocchis Rossano. Sì. Quando Marco Medda ha deciso di andare da Raffaele Cutolo, lui è uscito dalla mia stanza, prima che tu salisti di sopra, e è rimasto di là. Quindi lui ha scelto di fare una determinata... Ma Marco Medda era con te, era fatta per dire la stessa cosa. No, tra me e lui, allora, visto che dici questo, c'è stato anche un periodo che si è stati anche abbastanza vecchi. C'era Vito Pesce pure, anche Vito Pesce era uno dei più fedati e due. Sì, sì, questo è un altro conto. Marco Medda magari non lo era. Comunque, vabbè. Io volevo dire questo, Presidente, ho notato, ho letto i suoi verbali, no? E lui quando parla, parla di Viale Monterosa relativamente al derby. Viale Montenero, non so, poi il piazzale Loreto, il piazzale Cordusio, Tu sei di Milano, dove hanno... Esatto, esatto, no, giusto, giusto. Difatti appunto per questo ti do io una mano. Però mi sembra che sia, nonostante tutto, un po' riduttivo, nel senso che lui parla di Milano e parla ogni infatto suo, si riferisce, Viale Montenero, Viale Monterosa. Tolto da questi due... C'è solo un accenno, a parte Legnano-Melegnano, che non mi interessa, c'è un fatto di piazzale Corvetto, oppure piazzale Loreto. Però, dico in partenza, lui parlando vicino alla stazione centrale, parla allora di piazzale Loreto, effettivamente è abbastanza vicino. Perfetto. Però, cioè, nonostante tutto, mi sembra riduttivo parlare di Milano e parlare solo di questi due posti. Faccio questo appunto perché? Perché io ho letto anche qualcosa dei verbali di Andrea Villa. Sono due luoghi, Viale Montenero, e poi ultimamente ha fatto un'altra cosa, ha detto le case rosse di Corsolodi. Dunque, allora, primo in Viale Montenero lo ripete mille volte Villa Andrea, questo posto, per un semplice motivo Villa Andrea c'è nato, la madre ci abita a 20 metri, cioè è una stradina che confluisce con Viale Montenero, quindi lui li conosce bar, droghieri, cioè non è che conosce i locali, lui conosce proprio anche gli esercenti tutti di questo pezzo di strada, perché c'è nato e c'è stato fin da bambino. Però, e quindi dico, questo per me è un riferimento, lui dice, era amico di Andrea, comunque ha conosciuto Andrea, c'è stata appunto questa opportunità anche per la storia delle fotografie, però dico, c'è un discorso che, uno mi pare riduttivo, secondariamente, sei stato al derby? Tante volte. Boh, conosci bene quindi il derby. Come no? Dimmi chi era il gestore del derby. Era una contessa. Boh, perfetto, allora, allora, quando stai parlando? Del 75, 76. Perfetto. Non so se era proprietario, il gestore ho detto, quello che stava presente lì, diciamo che era quello intrattenitore, quando ancora... no, 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 non so chi era l'intestatario, ecco. No, ma non è... adesso spiego per dire cosa volevo dire. Faccio presente che a questo derby, il derby club, che era un locale in Viale Monterosa, bravo, è l'unica cosa che ti ricordi di Milano, puntualizziamola, almeno siamo sicuri, che la persona... A lui vi rivolgite? No, no, a lui, va beh, ma se no mi tocco... tu girate un po', altrimenti... Ma è un confronto che fate fra voi, insomma... Sì, ho capito, ma... Ma se tu non mi dici le domande, qui ora non vediamo più... no, 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 oggi il gestore di questo locale si chiama Rudy Magnaghi, è un uomo che è conosciuto come, non so, quello un pazzo, quello che girava qua in moto che faceva dannare polizia e carabinieri, nel senso, era un uomo che nell'ambiente di Milano non era sconosciuto a nessuno, era una persona, cioè, che ha tenuto in mano un sacco di locali, era uno dei migliori cantanti di Malavita, così cantava tutte le canzoni di Malavita, e quindi era una persona che come si presentavano, una persona nuova, diceva, io sono Rudy Magnaghi, che canzoni vuoi che ti canti a questi livelli? Ma nemmeno non lo conosco a quello che ti cittano. Perfetto, e per forza sarei stato... Non nemmeno non lo conosco. Sarei stato mezzavolta allora, Gianni. Tante volte, le posso dire a tutti i locali che ci sono? Bom, bom, bom. Tutti pure le sedi, ti racconto. Allora dico, io, è questo che chiedo, il, diciamo, il gestore, il tenutario di questo locale, che era una volta, era uno dei migliori locali di Milano, come a livello di avanspettacolo, che poi è decaduto un pochettino, forse perché ci hanno cominciato ad andare Gianni Melluso, è decaduto un po' questo locale, è una battuta ovviamente, Gianni. Non rispondo. Bom, e poi, scusa, spiega un attimino alla Corte, cosa sono le case rosse di Corsolodi? Ecco, sono, avevo già detto altre volte, è una specie di residence, non una specie di residence, la maggior parte, in queste case rosse, sono tutti appartamenti, ammobiliati, cioè questi appartamenti, per dire che affittano 200 mila lire al mese, 300, con già i mobili dentro, che ci vanno parecchie prostitute, è vero, ci abitano anche parecchie prostitute, e sono appartamenti bilocali, monolocali, ammobiliati. Finito così? Che cos'è, volevi sapere? No, dico, ad esempio, non so, ci sarà... E sai chi era il proprietario una volta? Chi era? Il proprietario una volta, non il proprietario, uno dei tanti forse soci, e non il proprietario assoluto, era quello che aveva la Royce Rosso, che lo conosci pure bene tu, che dopo hanno ucciso... Lo conosco nessuno. Lo conosce, era nada... Comunque, Presidente... Chiama Mario... Tu, l'unica cosa che puoi aver visto di queste case rosse, se le hai mai viste... Se le hai mai viste, puoi averle viste perché c'è la tangenziale che va sull'autostrada serenissima per andare a Genova... Eh, per andare a... No, ma qual è Genova? Ma... Venezia, serenissima ti ho detto. Ma che c'entra le case rosse con Venezia? No, qual è Venezia? No, no... Eh, vabbè, comunque, capito... Tralasciamo, allora... Non andiamo... Allora, Presidente, voglio dire questo... Ma precisiamo che... Nelle case rosse... Allora, no... Lui mi dice, le case rosse ha parlato di quartier generale di Turatello. Allora faccio presente, il giudice Alessandrini di Milano, il giudice ammazzato, abitava alle case rosse... No, è possibile, no? No, aspetta, ci abitano colonnelli dei carabinieri, magistrati, poliziotti, capo della mobile. È il quartiere più ultra che esista a Milano. Cioè, è un quartiere, non è un quartiere così, che mi dice la mignotta, ci stava la prostituta... Si abitavano delle prostitute. Si parla di mini appartamenti, mini locali. Io dico che questo è un luogo ultra chic, non so se rendo l'idea, di una Milano estremamente bene, che se non è gente che ha i miliardi, quanto meno è gente che ha... Ma oltretutto dico il quartiere generale di Turo a pieno... Con le carabinieri, gente che c'è i miliardi. Comunque io penso... No, no, non ci... No, un momento, andate. Eh, va bene, andate a vedere se ci abitano i miliardi. Non facciamo delle battute di spirito. Non facciamo delle battute di spirito. Io se dico questa cosa, allora ti... Vado a specificare anche. Se io dico questa cosa è perché in questo residence, come lo chiediamo... Ma forse tu scambiti di quelle case rosse. Questo resto... Io parlo delle case rosse, io non mi confondo. No, no, che dici tu in Porta Romana, intendiamoci. Corsolotti è lo stesso posto dove Andrea Villa colloca il quartiere generale di Turatelli. Sì, dove hanno ucciso questo dell'arro rosse che ti ho detto prima si chiama Mario e ora non mi viene nemmeno il segno. Non lo so. Lo sai perché... Ma mai gliel'ha ucciso pure. Isacca, perciò è inutile che parliamo di questo perché sai anche questo. Scusa, non mi stravolgere. Sto dicendo semplicemente. Mi hai fatto le case rosse di via Corsolotti. Corsolotti. Questo ha detto lui. E' un quartiere molto elegante e non... Cioè, io è questo che voglio dire. Allora, dico... No, io ho detto che è un quartiere, io ho detto che è un residence. Dei palazzini sono... Che sono frequentate, però da... Ma spiegami com'è l'ingresso di questi dati. Gianni, spiega solamente com'è l'ingresso del residence. Questo che tu chiami residence spiegalo com'è. Io volevo prima dire, Presidente... Perfetto. Ora, questo non vuol dire, Presidente, se ci abita lei o io o il colonnello dei Carabinieri. D'accordo, va benissimo. Ma ci può abitare di lunghe. Va benissimo. Se quella per me... Spiega com'è l'ingresso di... Spiegalo. In questo appartamento, Presidente, io posso dire che là la prostituta, forse lei, per prostitute intende chissà che cosa. No, 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 no. Io gli dico, prostitute, donne, che non ci crederà nessuno che sono queste prostitute. Non è che stanno in mezzo alla strada e si portano a loro. Oh, non ve le inguagliare pure a loro come torto, non lascia le stare almeno queste. Comunque senti, Gianni. Erano prostitute che potevano andare, che basta che andavano in via larga, ma andavano a fare le marchette e poi maserate, Presidente, non è che andavano Spiega com'è l'ingresso di questo che tu hai definito Resine. Spiega come si entra. Presidente, scusi, sul punto, noi vorremmo far risentire il nastro, perché il signor Melluso ha dichiarato, me lo ricordavano i colleghi, che si parla di appartamenti da 250 mila di salire. Sì, sì, è vero. A me si ammobiliate, c'è un affitto dove abitavano, dove abitavano le prostitute. No dove abitavano, c'erano delle prostitute che li ha sopporto. Avvocato, è poco importante, spiega alla Corte l'ingresso questo Corso Lodi, dove ci sono questi appartamenti per dire è molto facile andare là e cioè anche a vista d'occhio subito si vede perché è una zona dove non si può entrare per dire con le macchine cioè c'entra lì dentro chi abita? Ecco, prima di entrare. È un'entrata con la moneta. No, è un'entrata tipo privata che lei non può entrare se non abita là. Ecco, c'è un cancello e... Sì, c'entra chi abita. No, lo diceva l'avvocato. Avvocati, lasciatelo parlare. No, no, io non dico niente. No, 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 perché siccome vedo che ti interrompo... No, 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 no. Sembra giusto che... Che in queste residenze prima di entrare c'è un cancello grandissimo per dire se uno ha la macchina se abita lì dentro eccetera eccetera in questo cancello c'è anche una porticina sempre di ferro o di metallo che ha le chiave e il proprietario apre e entra. Oppure per dire ci sarà sto grande cancello che si apre sempre una macchina eccetera eccetera. Cosa volevi sapere? Ma esiste una portineria? No, quando c'ero io non che non esisteva perlomeno io non ho mai visto portineria. No, se tu dicevi che insomma il quartiere generale ci sarai entrato hai detto che ci hai incontrato tutto orto. Vedi che il quartiere generale se tu non l'hai capito bene l'ha detto Marisa Figurato se tu leggi verbale che ho fatto io non ho mai detto che questo era il quartiere generale io ho detto che là c'erano degli appartamenti o qualche appartamento dove c'era Ciccio che lavorava la roba o si smirciava la roba ora se tu hai appresso a Marisa Figurato che dice che c'era il quartiere generale lei può dire quello che vuole. Allora lasciamo perdere io sto dicendo semplicemente allora sta portineria la vogliamo stabilire c'era? Non c'era? Non lo so io non l'ho mai vista questa portineria ma ci sei entrato tu in questo portiere? Ci sono entrato ti ho detto che c'era una ragazza che io ci ho anche dormito in questo appartamento ammobiliato e questo ti posso dire io non l'ho mai visto una portineria e allora Presidente faccio presente che c'è la centrale della Mondialpol e c'è un Mondialpol con la pistola al fianco no 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 stai timido lasciami finire hai parlato lasciami finire a me c'è un Mondialpol con la pistola al fianco con la stella da sceriffo che qualora arrivi chiunque che non sia conosciuto non fa entrare nessuno allora guarda come ti dico una cosa fammi finire no perché non nemmeno esistevano quando ti dico io Stefano Vappolo che dici tu cioè credo che nemmeno esistevano eh Presidente io tu stai parlando penso ah non lo so 75-76 credo che hai parlato di Turatello ecco e di questi periodi ti dico che io in quel periodo di tutti c'ho un Mondialpol morto ammazzato che me l'hanno messo posto per me io ti dico che forse non si esistevano io questo si può accertare lo accerteriamo me lo uso non lo so se esistevano la Corte lo accerterà eh perfetto allora d'accordo eh tralasciato finiamolo qua non ha importanza Villa nel clan Turatello ti risulta che Villa era nel clan Turatello come no? lo conoscevi da dentro è quello che ti ha detto San Filippo lo conoscevi da fuori è come San Filippo il ragazzo è già altato e allora è facile prenderlo se no sai cosa c'è di domande ne ho parecchie se ognuno facciamo sta cosa non finiamo più il Presidente dice che inizia alle 4 Villa Villa era del clan Turatello l'hai conosciuto dentro o fuori dal carcere? io l'ho conosciuto fuori dal carcere oh io una volta ti dico pure stavo sparando a uno e è stato Villa a levarmi la pistola di mano ecco e allora Andrea Villa quindi cazzo ma allora non eri così bravo ammazzavi la gente no no ammazzato nessuno eh allora forse quella volta volevo sparare a uno Andrea Villa tu quando ti risulta che sei stato nel clan Turatello quindi 75-76 perché questo è il periodo che tu stavi con Turatello io non so che periodo è stato con te Andrea Villa cioè non non so nemmeno ma se tu eri con Turatello scusa uno che prima ti era amico e poi ti doveva sparare Renato ti doveva sparare no no non hai capito dico allora mi ha tolto la pistola a te nessuno questo episodio cosa può essere successo e Renato mettiamo conto nel 75 lui ti toglie la pistola era uno del clan Turatello ti toglie la pistola ma chi te lo dice che ti è stato lascia perdere ti ho detto una volta a Villa mi ha tolto la pistola che stavo sparando a uno non è che ti sto dicendo tu parli non mi far tirare non mi tirare però le domande che faceva San Felipo 75-76 tu parli della tua conoscenza di Turatello quindi ti riferisci quando dici che hai conosciuto fuori Andrea Villa nel clan Turatello non può essere altro che nel 75-76 ma chi te l'ha detto perché deve essere e poi sentiamo quando allora dimmi giustamente l'avvocato una volta tanto scusa ma tu sei un avvocato di Tortora o ci passano avvocati che ci hanno ma questo non l'ho capito a questo punto Presidente non ha più importanza la domanda la corte trarà le proprie cose dai a punto scusa voi avete conosciuto come no sì ma io l'ho spiegato pure Presidente ma avete conosciuto Andrea Villa in l'epoca ma Presidente io sono arrivato a Milano ho detto che 72 così 72-73 ecco dopo quanto tempo avete conosciuto quando sono arrivato a Milano io ho conosciuto sia Andrea Villa che tante persone ma dopo quanto tempo avete conosciuto ma non lo so Presidente io non ne chiedo due anni vabbè vabbè dopo appena che sono arrivato a Milano sì ho passato sei mesi un anno Presidente l'ho conosciuto anzi l'ho conosciuto a Blecusse che tu ci andavi spesso ma non lo so tu mi stai facendo la domanda a San Filippo te lo dico io si chiamava Blecusse di Piazzale Cantone te lo dico io che era il locale allora io ci sarei andato tante volte in questo locale no no la risposta non è una risposta allora Presidente avvocati perché sennò qua quello che dice che dicono i due che si stanno scassando le corno scusando il termine dico non si capisce dico ma chi ce l'ha queste corno? io io ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro non lo so se ce l'hai comunque Presidente io il Turatello lui parlava di Villa quando ho conosciuto no Turatello io Turatello l'ho conosciuto verso il 74 fine 75 ora non mi ricordo bene quando ho conosciuto Turatello lui mi parla di Villa e l'hai conosciuto prima? non so se è stato primo comunque ti faccio presente che Andrea Villa di Chiara che lui dal 1972 al 1976 è stato nel clan Turatello quindi quando tu l'hai conosciuto a meno che non sei venuto non lo so quando l'ho conosciuto no basta non fare come torta che macchina avevo del 75 ma che ne so Gianni facciamo una cosa con me non ciurlare del manico io non mi schiavo il tecortore è chiaro? sì io non ti dico delirio a posto tu mi hai detto a me non mi interessa più Presidente allora tu hai detto un'altra cosa siccome io qui con te e soprattutto con Andrea Villa farai il confronto con Andrea Villa io qua sono venuto solo ed esclusivamente per riabilitare tutto il fango e le immondizie che avete buttato al bosso a Turatello ah no su Tortola ma che cazzo non le fotte a me non si faccia a fottere lascia a me dimostrerò io che è Tortola in docente sto parlando io ti dimostro che tu non conosci Turatello è diverso ti sto facendo una domanda senta lei è leggermente in ritardo signor Belluso noi lo abbiamo già dimostrato non è che a quello che abbiamo scritto lei non ha dimostrato niente Gianni lascelo per vediamocela vediamocela io e te che ci stiamo divertendo tu hai parlato ti consegni e fatte l'avete dimostrato anche a primo grado non me la trovo ma io non dico niente di malattia scusa Gianni Gianni tu hai parlato e io parlo di quei 20-30 fogli di verbale tuoi di consegna Moccia Cusumano e Turatello dato che penso che sia assurdo che tu potessi lavorare per tre organizzazioni concorrenti mi deduco che fosse un'unica organizzazione ma non è così cioè non è né Moccia né Cusumano né Turatello è una unica persona e chi sarebbe? sono unica persona per dire cioè quindi è un'unica organizzazione ma dico chi era il boss di questi qui? si sa che è stato sempre Turatello il boss grazie grazie allora e quindi era il Cusumano che andava in Thailandia lì dove no a Bangkok andava a Moccia cioè a Bangkok e in Thailandia all'estero beh no all'estero scusa all'estero ci sono andato anch'io ma non lavoravo per Turatello in questi paesi se dopo il Thailandia ma sempre a livello scusa tu hai trattato sempre cocaina sì io non so nemmeno cos'è l'eroina cioè droga perfetto allora presidente faccio presente che non bisogna essere non pare come Panimò e Panimò e Panimò per favore per favore Gianni io dico io dico semplicemente dati di fatto Bangkok è conosciuto come forse il più grande porto del Medio Oriente però cioè delle Indie in ogni caso è un porto senz'altro dove ci saranno traffici mondi però è sempre stato considerato solo e disclusivamente la mecca dell'eroina e non della cocaina la cocaina si parla di Bolivia si parla di Perù e che è tutta un'altra strada non c'entra proprio niente Bangkok e la Thailandia ma se Comba Kid ha detto che in Thailandia portava Comba Kid è il grande trafficante di eroina si ma di chi ha portato che ha portato in Italia sacchi di cocaina di eroina ha sempre parlato di eroina Comba Kid che ha portato anche vedete che io sono stato in cella con Comba Kid tu non lo conosci nemmeno no 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 io so io so i dati di fatto ma io ci sono stato la cocaina non esiste ma lui se esiste esiste come esiste a Napoli ce la portano però ma io non lo so se esiste o no vabbè a posto mica sono andato io tu hai detto Gianni che in una determinata situazione Turatello si lamentava con Tortora perché diceva che questi napoletani alzavano i prezzi facevano arrivare in poche parole troppa poca roba a Milano alzando eccessivamente i prezzi allora ti chiedo primo ti risulta che Turatello fosse figlioccio di Frank Tredita Coppola l'ho sentito un sacco di volte però non si è capito mai se è figlio o se è figlioccio o se è una montatura che stava sempre allora questo lo andrei a chiedere al giudice Montoni di Milano che dopo ci arriviamo non lo so ti risulta non so così ti sembra hai sentito hai saputo hai sentito hai saputo ti risulta che Turatello insieme a Frank Coppola sia mai stato nell'anno 75 a Detroit con Joe Adonis uno dei capi di Cosa Nostra e che addirittura Turatello avesse delle foto che si vantava se tu gli eri amico non puoi non averle viste si vantava facendo vedere queste fotografie tra lui e Joe Adonis che bevevano brindavano ti risulta non lo so nemmeno di queste foto Detroit sì basterebbe chiedere al giudice Montoni di Milano che c'è tutta una documentazione del genere non lo so cioè questo qua è un fatto notorio non a Vallanzasca polizia carabinieri magistratura sì ma che vuol dire se non lo so no volevo dire che quello che ci permetteva di battere la mano sulla spalla di Joe Adonis veniva da stipezzenti napoletani a farsi pagare la cocaina in più per carità ma Napoli perché l'hai preso tu cioè perché non poteva venire io ho visto ho visto ho visto l'ambiente di Napoli non mi farà andare oltre ah e allora sono tutti così no sto dicendo semplicemente che si sta parlando di capi di cosa nostra e che Turatello si lamenta con Tortola perché i napoletani gli mettono la roba troppo calda ma possibile pietà senti qua allora ti dico soltanto una cosa per fare capire tutti Turatello tu lo dico io Turatello non ha mai avuto a che fare con la droga allora aspetta allora mi dico non ha mai avuto a che fare con la droga ma senti a me dopo Turatello in Italia non ci sarebbe giustato nessuno tu dici che Turatello era sto grande personaggio allora ti dico subito tu lo sai chi era Nino Faro in Italia dei carceri italiani Nino Faro ma no a te ditemi Renato senti a me Nino Faro in Italia era il detenuto più temibile e pauroso di tutti i carcerati italiani ebbene ebbene Nino Faro che non aveva paura né di te né di Turatello né di tutti questi grandi personaggi ma Rastorina gli ha dato due cortellate posso da passi e allora che vuol dire scusa ti sto dicendo semplicemente che tu hai detto lo stavo uccidendo tu hai detto semplicemente non andiamo ma ne prende Gianni non cambiare discorso ti ho detto hai detto che sarebbe stato corretto allora non andare oltre io ti ho fatto semplicemente una non lo so oh ti sto dicendo eh non lo so io ho capito che non lo sa io sto semplicemente riferendomi che lui dichiara di aver sentito Turatello quasi piagnucolare con il tortora che a Napoli gli mettevano la roba troppo cara ma quale piagnucolare si lamentava insomma mettila come vuoi e allora dobbiamo venire a Pomasina finiscila lì dobbiamo venire a Pomasina comunque poi hai detto un'altra cosa che tu hai sentito praticamente la prima volta che hai sentito parlare della camorra io non ne capisco di camorra beh sì beh è perché sennò sareste in imbarazzo guarda caso comunque non accusa nessuno di questo tu hai sentito Marinello dice che io ci ho fatto vedere le foto mamma mia io ti sto facendo una domanda non ne capisco di camorra mi sembra che tu evidentemente andando con Belluso con San Filippo e con Pandico hai imparato a ciurlare nel manico ti ho detto stai nel stai io ti pongo una domanda tu hai parlato nel 74-75 tu hai parlato che nel 74-75 dal Mocci hai sentito per la prima volta parlare cioè di questa NCO di questa camorra di questo Raffaele Cutolo nella sua estensione di Milano cioè hai sentito parlare di lui per la prima volta come un'entità un qualcosa che esisteva dici prima non mi risultava beh a parte che mi verrebbe da ridere io non so che cosa significava un NCO una camorra perfetto ma io volevo fare presente solamente alla corte quanto mai c'è parlato di NCO nel 1974 nel 1975 tutto qua ma allora facciamo una cosa vogliamo leggere si verbale che tu dici che io ho dichiarato nel 1975 ho sentito parlare di camorra allora leggiamo è verbale leggiamo si verbale Presidente io c'è una cosa io io dico semplicemente questo Gianni non mi fare così stupido se io ti ho detto mi permettevo di scherzare con Gianni signori della corte dicendo preparati mettiti l'alloro sulle orecchie la mela in bocca il rosmarino sotto la scella che scusando il termine non offenderti con la carotina in culo per metterti allo spiedo te la metto durante i giorni io ti ho detto vediamo se ci vedi per adesso è una carotina vedrai quello che c'è in seguito ma se tu non lo fai adunque ce l'andiamo qui vabbè ma non fare così è una vita che mi hai detto che tu hai d'esempio hai detto per fare beh vabbè mi sembra che questo qua ormai l'abbia detto insomma non penso che ci sia bisogno di dire altro tu hai detto che rispondendo al fatto che dici tu facevi rapine da 3, 5, 10 milioni quanto erano e poi pigliavi 10 milioni con la droga e tu hai detto sì ma vabbè ma anche tu ratello allora io invito la corte andare a prendere questi fascicoli della famosa rapina no alla pisca dove hanno levato i gioelle quello che vuol dire beh no tu hai parlato di rapina hai parlato che sono andati a prendere i soldi nella pisca ma non dove ti riferisci tu che hanno la pisca per prendersi la pisca in mano senti no no dove c'è stato Graziano Mesine Paminonte eccetera Gianni allora dovresti dimostrare anche alla corte che ce ne sono stati altri di questi fatti mentre invece a Milano c'è sempre stato un solo fatto perché Turatello dove Turatello è entrato è vero che ha preso i documenti lo so lo so ha preso tutti i nominativi ha preso tutti i soldi che erano sul banco ha chiesto a ognuno rilasciando un biglietto da visita di un altro locale vi andavano a giocare a un altro locale è vero dicendo venite a giocare qua e contavano quanti soldi erano 3 milioni dice questa è la ricevuta quando andrai a giocare dall'altra parte ti verranno restituiti i soldi quindi Turatello non è vero che faceva rapine nei termini che dici tu tu andavi a fare le rapine in posta lui ha preso 95 milioni in quell'occasione scusa ha preso 95 milioni in quell'occasione rilasciando tanto di ricevuta soldi che sono stati ridati ai legittimi proprietari quando sono andati a giocare ma quella era una rapina per un locale per fare cambiare locale non c'entra niente e questo è un aspetto quante volte l'avevi visto Turatello? tante volte parecchie volte cosa? non ho capito una volta l'avevo visto Turatello di questa rapina presidente è verissimo tutto quello che dici ma era una rapina per far richiudere questo locale e per mandare tale persone che giocavano là nei locali suoi non vuol dire niente Gianni allora ti dico e dirò un'altra cosa verificabile anche questa dall'accordo l'ha fatto pure Paminosa aspetta per favore quando è successo questo episodio Turatello non era mai non aveva ancora mai avuto a che fare con le bische l'ha fatto per fare un piacere ad Otello Onofrio non è vero ma non mi interessa io ho i verbali tu c'hai le chiacchiere ma portasi verbale no ma io non posso ma tu c'hai un guaterno e basta no forse sì portasi verbale non hai capito Gianni io dico sempre alla corte verificate quello che vi dico sì ma è facile dire verificate verificate tu non hai fatto verificare niente ma portale Gianni per favore ti sto dicendo io dico alla corte che presentandosi al Brera Bridge Turatello ha fatto solo ed esclusivamente un favore alla bisca di via Sempione che era detenuta da Otello Onofrio Turatello fino a loro non aveva mai avuto a che fare con le bische e tantomeno con la droga comunque non ha avuto mai a che fare di droga ho mai detto pure Paminonda non ha avuto mai a che fare con la droga non ha avuto nemmai bische mai droga tu sai che era Turatello stupido Turatello era il braccio destro oppure il compare di Tanino Fidanzate uno dei più grossi trafficanti di Milano lo sanno tutti e tu dici che Turatello non sta di droga Gianni Gianni senti devo dire pure il nome di Tanino Fidanzate ora senti ma tu mi stai facendo non mi dico insomma la differenza che io dico alla corte riscontrata sono ma per quanto sono Gaetano Tanino cioè tre quattro fratelle di cognome di Tizanzate che sono i più grossi trafficanti di cocaina che ci sono quasi in Europa no in Italia si si che ora sono a Palermo imputati che ci imputano 300 kg di cocaina che ci hanno sequestrato e tu dici che Turatello non sa nemmeno cos'è la cocaina aspetta fammi dunque allora prima di tutto per rispondere a questo signore prima di tutto io non voglio entrare nel merito questi perché mi toccherebbe fare più o meno delle ammissioni e quindi io sulla sedia sulla sedia di Gianni Melluso non mi ci voglio sedere ma forse nemmeno io mi ci vorrei trovare sulla sedia di Gianni Melluso e allora dico te lo dico pure io e non lo so oggi come oggi ti obbligo io a farlo se io sarei di nuovo a avere la possibilità di essere Gianni Melluso in questa sedia vai tranquillo che io non ci sarei più hai visto che ti è andata male no mi è andata male è andato tutta puttana sono stato un cretino che nel senso non è aiutato di nessuno malvisto dunque signori della corte io dunque per quello che riguarda Presidente però devi fare una cortesia se non finisce questo interrogatorio oggi siccome la questione è molto no 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 ma guarda vado a stringere vado a stringere anzi semmai salto altre battute altre cose che ti potrebbero mettere in croce Gianni parla porca di sé ma tu incominci a parlare ma le quattro ci mandano via Gianni tu continui a parlare e mi tiri fuori gente che io non ti ho mai nominato chi ti ha mai parlato dei fidanzati che ce ne hai mai potuto tu conosci i fratelli fidanzati benissimo li conosci sai come e sai che sono così con Turatello o erano Gianni io allora posso rispondere a questa domanda e visto che insisti mi spiace dover parlare anche dei fidanzati dico quando Turatello era in vita ed era fuori i fidanzati potevano solamente essere quelli che gli portavano la macchina hai capito ti sbaglio vedi che tu allora Danilo Finanzato non li conosco non sai nemmeno chi sono il giudice esatto il giudice Falcone di Palermo comunque ti risulta tra parentesi visto che era in semina Turatello ti risulta che sia stata fatta un espropio una rapina in una sua bisca per circa 40-50 milioni è vero mi risulta e chi risulta che l'abbia fatta io quindi mi risulta che è stata fatta in via Savona bravo della bisca di via Savona però non sono certo perché non mi sono mai interessato so che sei stata in via Savona siccome eri vicino a Turatello Turatello dico quantomeno avrebbe dovuto dirti puttana Eva mi hanno portato i soldi quindi questo io volevo dirti per tornare mi dovrei fare vedere le foto mi dovrei fare vedere ma Gianni non fare dello spirito ti sto dicendo semplicemente se lo sapevi a questo punto se lo sapevi io voglio fare presente alla corte a differenza delle rapine di Melluso Vallanzasca è andato si in visca e si è preso 40 euro in via Savona è vero? in via Savona hai visto che non ti dico bugie? non mi dici bugie però ci sei andato con una bomba a mano e ce l'hai messo la sovretà bravo bravo hai visto? però stai calmo allora io se dico questo l'avvocato dice che ha scoperto che il cento è posto ma cazzo mi vuoi far finire? finisci ma è logico se ci sono tutti imputati io ti voglio dire questo perché nel giro di una settimana 40 milioni i rapinati da Vallanzasca sono andati in vaglia da mezzo milione e l'uno a carcerati che ci sono in tutta Italia stai zitto? no arco Dio e le ricevute stai zitto le ricevute sono state mandate a Turatello a mo' di sfida dicendo cornuto con i suoi soldi con i tuoi soldi mangiano 80 bravi ragazzi in carcere non è vero stai dicendo delle bugie per farti grande di fronte ai carcerati te lo dico io senti ma io ho bisogno già dici tu che hai bisogno di andare io vi dico semplicemente allora la rapina deve essere successa a ottobre stai zitto a ottobre voi controllate se il mese di ottobre sono stati fatti da 30 a 40 uffici postali di Milano diversi perché non potevo far fare i vagli a tutti in un posto a fatti i conti 40 milioni a mezzo milione e l'uno sono 80 detenuti nelle varie carceri e perché non le fai accertare se sono meglio lo sto dicendo la corte ma se tu parli così tu dici io ho delle prove se tu porti un quaderno in mano dove stanno sti ricevute? si eeeh ooooh le ho ricevute io per spottimento una volta fatto sono andato nuovamente nella pisca di Turatello ho preso l'usciere per l'orecchio che in quel caso magari poteva essere anche Paminonda e gli ho dato in mano una busta dicendo dici che adesso gli ho preso i soldi e questi mangiano e la prossima volta gli prendo la vita questo è stato un discorso vorrevo dire una cosa no 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 il fatto della pisca effettivamente mi sto facendo grande con i tuoi tenuti non c'è problema il fatto della pisca che ti ha regalato Turatello vede che San Filippo si sbagliava Renato questa rapida che hanno? comunque era su tutti i giornali di Milano no hai stato aspetta me lo dici tu mi dai una mano magari che cazzo io ti posso dire che ci hai messo la bomba a mano sul tavolo perché parlo solo ed esclusivamente doveva essere ottobre 76 però non ne sono certo insomma io prima di Natale no Mario dicembre non poteva essere perché era già stato sparato Francis poi parliamo anche di questo tu mi parli io ho sentito tutto il tuo il tuo il tuo espluato di Milano è stato verso la fine del 76 giusto? il tuo momento d'oro diciamo perché ho sentito che ho consentito droga a Tortora droga a Califano ti incontri con pazienza il fatto del pazienza di questi personaggi è meglio che non ne parliamo no ma io perché io direi a qualcuno che parla di queste cose di leggere i primi verbali Gianni per favore io sto dicendo semplicemente i riferimenti delle date la cronicità storica di questo fatto tu parli di novembre no dicembre cioè dicembre 76 gennaio 77 e in questo lasso di tempo in questo paio di mesi succedono consegna a destra consegna a sinistra ma non è vero quello che dici tu che era in fin di vita Turatello ti spiegherò anche questo ti dico pure dove c'è sparato allora dunque con quale macchina allora dunque allora ti risulta che Turatello sia stato sparato a Milano sulla circonvallazione è vero era dentro la macchina con Porsche con Carlo Agento e Gianni Scupola te lo dico io Presidente qua mi tocca andare a reoconfesso di un reato e no dillo mi tocca andare a reoconfesso di un reato allora era un Porsche rosso di Carlo Agento se non sbagli il colore un certo Carlo Agento che dopo è stato ucciso dai carabinieri di Milano eeeh boh eeeh non dirgli più niente perché stoppi no ma sai che ti dico la verità no Gianni non dire più niente perché Gianni non dire più niente che stai facendo un'altra figuraccia scriviamo allora io parlo in riferimento a questo punto specifico tranne se non ha già sparatore dopo non lo so e se è quella non è che ci sparavo tutti i giorni ma non vorrei che dopo ci hai sparato per dire che ne so a qualche altro un amico suo si sta parlando sempre del dicembre 1976 il periodo che stai parlando tu allora Turatello a parte che è stato sparato le auto sono state ritrovate per questo che dico finiscila perché fai figuracce ci sono due BMW 3000 e un Mercedes 520 e un Mercedes 420 450 comunque non esiste nessun Porsche rosso il Porsche era di Carlo Argento ti ho detto senti tra parentesi Gianni si è rotto pure il vetro di dietro ma c'era anche Carlo Argento si è insanguinato tutto per dire ma c'era anche Carlo Argento c'era Gianni Scupola non è vero vai ora Presidente le macchine io non so preciso se erano due o uno o due però una macchina o Carlo Argento che un Porsche suo rosso è stata pure sparata da loro ora non so se loro per dire Turatello erano con due macchine o con una macchina questo non lo so però Turatello non è vero che è stato ferito a morte come dicono loro dunque allora no qua poi c'è un fatto perché mi serviva anche quell'altro signore che è andato in escandescenza perché lo stesso fatto no ma lui praticamente veniva ti ho detto ti domino la porcere io lascia perdere a San Filippo ti ho detto lui oltretutto sono due BMW 3000 e un Mercedes 450 quindi non esisteva nessun Porsche perché due BMW erano loro 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 noi eravamo in due perché siccome io sono quello che mi nascondo qua non avete fatto altro che sfottermi io ero qui mi permettevo di andare io con un autista e attaccare tre macchine ferme non è vero Renato non è vero cosa che dice queste cose no e allora vabbè allora che cosa ti risulta di diverso ma sai che cosa è Renato perché poi sull'episodio tu e sull'episodio non ci sarebbero eri pippato dalla testa fino ai piedi tutti i giorni e allora come ti ho detto io non ti dico tante cose e andavi pur a prendere una volta guarda caso tu sei uscito io sono entrato dell'agenzia al Citiacono in Vionione che ti aveva dato un appartamento te l'ho detto anche là senti tu non stai facendo io ti sto portando dei dati eri trogato e ti pippavi tu Gianni per favore tu non stai facendo altro che il gioco di quegli 4 sporchi pennivendoli che fino a ieri dicevano la banda dei drogati io mi sono mi sono messo a disposizione di qualsiasi analisi per far vedere ma chi ti pippavi ma no e va bene non bucare senti se non sbaglio faceva la stessa cosa Tortora ma Tortora è stato chiesto che gli fosse stata fatta un'analisi per favore e come si stabilisce questa analisi te lo dico io come si stabilisce ma scusate allora tu hai preso più copia tu hai la bruciatura delle mucose te lo dico io tu hai la bruciatura delle mucose se dovesti essere uno che si assume cocaina tramite aspirazioni quindi a distanza di decine di anni tu ritroveresti nelle narici di chi ha assorbito cocaina a livello dicono di no tu mi dici a me pippavi dalla mattina alla sera sì è vero allora a questo punto non pippavi sarebbe no come tu Vito Pesce dai vabbè comunque io dovrei tirar fuori cose talmente particolari che non mi interessa tirar fuori quindi non voglio parlarne di questo parliamo di io ti dico semplicemente non pippavo la banda dei drogati parlate i carabinieri e le polizie che hanno fatto non le chiacchiere dei giornalisti che hanno fatto determinate relazioni hanno parlato sempre di Vito Pesce Claudio Gatti e allora non rompere le uova con ballare Renato ma se avete ammazzato i poliziotti in piazza dentro perché la vado tutti mi fanno io sono fatto di un altro affare non è vero senti comunque andiamo avanti il fatto che io dicevo volevo qua quel signore lui dice parla con me no non è che preferivo parlare con lui che non con te però poteva dare la conferma come già io ho visto che la data su alcuni verbali che ha fatto che Turatello si spacciava per morto cosa che era riportata dai giornali è vero no perfetto tu dici che non è vero che era ferita a morte si che era ferita a morte e lui si faceva spacciare ci aveva detto mettiamo in giro la voce che sono morti ma non è vero che era stato ferita a morte perfetto allora dico signor presidente lui parla di un determinato periodo io in quel periodo dico giornali alla mano viene ritrovata una villa a Bormio in cui Turatello ha soggiornato con la propria donna poi mi spieghi chi è la donna di Turatello dopo te lo dico con la propria donna soggiorna in una villa a Bormio e Turatello all'incursione dei carabinieri riesce a scappare quando c'è la macchinetta del caffè che è ancora calda cioè i carabinieri quindi sono arrivati il momento che Turatello scappa non è vero non è vero rilasciate vabbè ma porco ma non è vero tu sei raccontato presidente io dico a questo che continua a dire non è vero che mi lasci parlare lui le sue cassate le ha già dette mi lasci dire le mie ecco appunto allora voi verificate se i carabinieri non sono andati a Bormio e hanno detto che lì fino a 5 minuti prima soggiornava Turatello poteva essersi Turatello non è vero uno secondariamente in un appartamento dove è stata riconosciuta la presenza del Turatello e della sua donna in Milano anche lì Turatello non si sta quanto tempo fosse venuto via prima ha fatto stare che ritrovano un paio di stampelle con le quali Turatello aveva girato a Bormio e quelle cose si ricollegano e due cose si ricollegano a quello che dice come spiega la domanda dell'avvocato non ho capito non ho capito non ho capito non è non c'è chi è dopo glielo diga no lo deve dire alla corte non ammita la donna si la donna con la quale viveva Turatello Turatello era la moglie o era una madre no io Turatello perlomeno prima non è stato mai sposato tranne quando si è sposato dopo un regolamento la sua donna chi era la sua donna per dire era lì a Zennare ai tempi di Andrea Villa che lui era innamoratissimo Bromio vabbè lascia stare non andiamo sui particolari scolari lì a Zennare lì a Zennare lì a Zennare perfetto io dico una certa ragazza chicca cioè io dico la donna del cuore di Ciccio era lì a Zennare proprio che anche se lei ce ne combinava di tutti i colori era sempre lei per lui per lo meno però era una ragazza dopo una chicca che lui se la faceva con questa ragazza chicca e quando vedi Gianni no Presidente non è che per dire si prendeva la ragazza vicino dopo andava e se le metteva tutte e due sotto braccio era lo stesso periodo di tempo si si sta ragazza Lìa era innamoratissimo anche se ne faceva di tutti i colori ci andava sempre e dopo soprattutto c'era questa ragazza chicca conosci lasciamo perdere la Lìa poi è morta buonanima quindi non la tiriamo in mezzo conosci questa chicca che dici tu aspetta che la conosco si è biondo bruna no è alta più alta di me è biondo bruna non ti ho detto se è alto o basso ti ho chiesto se è biondo bruna e hai i capelli sui castane ora mi ricordo una mia di mezzo sono più sicuro a posto castane chiare ma scusa io che calore di capelli c'ho nero o bionde castane tra parenti tu non mi interessi non sei neanche una e allora che vuoi sapere chi era come alta presidente alta su non so se ero un metro e settantacinque settantasette settantotto cioè non lo posso dire dammi a retta una cosa cioè non ero un metro e settanta sessantanove così basta eh dammi a retta se tu dovesti dare un'indicazione alla corte mi hai date tante per far arrestare Tortola dite che non l'ho fatta arrestare io Tortola no 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 vabbè lasciamo per questo lo sappiamo per fare per fare per fare cioè io potevo parlare di stare così scusa eh Gianni facciamo stare anche quello che c'è da ridere comunque possiamo parlare anche di questo no 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 non parliamo non è per carità vedi che hanno trovato dei documenti che ti parano non mi interessa non mi interessa non mi prega niente perché non conviene oltretutto è pure antipatico quindi che cazzo tu se come hai detto Gianni per favore i personaggi per dire sono difficili che io Gianni ti sto dicendo se tu dovresti dare un'indicazione alla corte per far scoprire la chicca far trovare questa chicca cosa diresti tu eri un uomo di Turatello io no io ero nemico eri nemico io so come si chiama di nome cognome dove abita dove non abita è quella che dico io allora ti dico soltanto una cosa fuori fuori e tu mi insegni queste cose perché ero un balordo come me non mi insegni queste cose i miei cognomi non li sa nessuno nemmeno se nessuno sapeva che io mi chiamavo Melluso o che tu ti chiamavi Vallanzasca dopo che eri là di Tanta allora sì io il cognome di questa ragazza non lo so ora se tu sai il nome e cognome di questa ragazza io ti sfido a dirlo alla corte farla venire in aula ma io così la posso riconoscere qualche segno particolare l'ho descritta ma che gli devo dire avevi detto molto alta era una ragazza presidente castana alta sul metro e 75 76 se dopo è 79 74 io non lo so ce la diamo buono lo stesso perché là le donne camminano con le tacche io non so se si mettono i tacchi più alti e che altro segno particolare era una e appunto magra magra questa ragazza disgrazia vuole faceva anche uso di cocaina no in modo eccessivo come la faceva per dire altre donne in questa pietra come la faceva Balanzasco via vai e dai Renato lo faceva e portava che c'è di vergogna io ti lascio parlare poi alla fine ma se avete ammazzato il poliziotto l'ho detto a piazza vetro perché eravate pieni di cocaina e dai non parlare di altri fatti allora presidente alta e sì e se le poteva pesare se sono 60 kg se sono 58 non lo so cioè esile non era una ragazza grazza bella formosa e vicino Como presidente non so se era di Como era la maggior parte vicino Como cioè abitava in quelle zone se è quella che dici mi conviene dire italiana forse è meglio se ti fermi su italiana forse c'è Zecchi ma scusa se dici Giacomo o dici la Vesseria ma scusa Matti io c'avevo una ragazza che si chiama Paola che ne stanno e gli altri tutti che la conoscono come si chiama di cognome come dove abitavo no abitava nella stessa casa di Turatello presidente io ho detto che questa non era la ragazza proprio del cuore di Turatello era una ragazza di Turatello ecco sta ragazza abitava il viale Monza c'è un banco di Roma più avanti te ne vai là e c'aveva un appartamento là ecco ora se Turatello era innamorato più di questo più di quella io non lo so vi posso dire che la ragazza di Turatello era lì a Tenare che c'aveva un bambino quello vi posso dire ora se lui conosce questa ragazza la faccia comunque va bene eh sì sì no voglio dire voglio dire semplicemente una cosa dico tu hai dato una serie di indicazioni no? dico e quindi non sapresti dare nient'altro per fare io se dovrei rintracciarlo farla rintracciare non saprei come farla allora perciò ti prego di farla rintracciare eh Presidente ma non farmi fare le infalità a me ti prego quindi non puoi dirmi a me fammela arrestare scusa Presidente ha detto che c'ha nome e cognome sì sì è indirizzo ecco falla venire allora cosa? falla venire in aula allora dico eh Presidente Presidente io ho chiesto lasciamo per la descrizione sono fesserie sono fesserie e adesso ve lo dimostro dico io ho chiesto se lui avrebbe un qualche altro modo per far rintracciare questa donna allora dico lui era un uomo di turatello o non lo era e spiego anche perché non ti spiego io se ero di turatello o non ero di turatello vuoi che ti rispondo? Gianni vuoi che ti rispondo? Gianni tu hai detto una cosa assurda hai detto che non hai altro modo per farla rintracciare è assurdo no no se la dover allora dici voi questo segno no dirlo tu dai come cognome questo segno particolare scusa ti stai pendendo pendete e basta ma che fai in testa? è uno stronzo queste cose sto scherzando avevo qualche segno particolare che non ha detto no 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 i segni particolari io non ci faccio caso io so solamente che questa donna presidente non sa niente lo vedo di qui io ti sfido di portare questa ragazza qua allora ma non mi devi sfidare ti dico che tu non meno sai chi è questa ragazza allora presidente io dico una cosa lui e questo è un'altra ulteriore di poi vi do la prova che lui non lo conosce questa invece è un'altra ulteriore piccola chicca che gli serve a questo signore non è piccola che me lo sono che me lo sto risolando poco poco dico lui non era lui non era uomo di Turatello anche perché questa donna non è bisogno non c'è bisogno che vi dica io il nome è stata arrestata con Turatello con Turatello è stata arrestata c'è fatta c'è fatta tre anni e mezzo di galera che ti è unita non c'è chetti non dire cazzate l'unica donna di Turatello a parte la lì a Zennari è che ti è unita ma io non dico che ti è unita stai zitto che ti è unita non c'è quella è la piota non c'è non te la inficcare le chicca c'è chetti che le è stata arrestata in Belgio per Turatello chetti onida non è vero non c'è non cazzate chetti onida c'è fatta tre anni e mezzo di carte in Belgio perché era la donna che aveva affittato la casa la villa Boario e si torna al discorso della villa Boario era l'intestataria della villa dove hanno trovato le stampelle di Turatello chetti onida chica lui siccome sapeva un qualcosa del genere si è inventato chica perché diceva con la cappa cominciava e allora posso dare un altro particolare ma non dare più non iniziare ma non è chetti che dice i particolari lasciali a Pantico per favore no Pantico lascialo per io ti volevo dire ma chetti che dici tu non è la chetti basta basta già ma insomma i prove questi erano ancora ce n'è chetti unita presidente quello che dice lui per chi ho chetti presidente lui ha detto che chetti era la ragazza anche di Turatello presidente anche di Turatello guarda che non è il luogo all'accordo all'accordo è un pezzo di qui dentro ora lei scusa lei presidente forse fa una determinata vita e allora lo posso anche capire ma uno che ha fatto una determinata vita come lui come me non spericolata presidente non sistemata come voi che avete famiglia fuori ogni locale ogni discoteca ogni night ogni prostituta per lo meno c'ha diversi ragazzi non che ci confiva assieme ragazzi per dire che gli interessano ma non ti squalificare ulteriormente che chetti unita lei la conosceva l'ho vista presidente e consigliere sapeva che era amica l'ho sentito io quando l'ho detto prima eh eh presidente questa chette non era la ragazza di Turatello oh va bene presidente non è la chette perché se no questo ci porta in cassazione io vi ho dato dei fatti questo vi dà delle cari ma non è andiamo ora andiamo ora io era la ragazza che lavorava con Turatello e stavano assieme presidente c'è una domanda del consigliere Morello dice perché non l'ha citata prima no e perché cosa dovevo citare se questa ragazza non mi è stata ora l'avvocato io dico una cosa consigliere cioè lei dice che non l'ha detta prima perché non era la ragazza di Turatello e quando ho fatto il primo dibattimento avevo tre cioè perlomeno Tortola aveva tre avvocate non mi dicono nessuna domanda quando me ne vado oppure quando faccio il confronto con Tortola le domande venivano tutte là ora io dico una cosa se quando io sono stato interrogato prima da lei o in primo grado mi chiedevano di questa ragazza io rispondevo mica ci posso dire oppure a lei tutti i ragazzi che ho avuto io che ho avuto Turatello Gianni Gianni abbiamo chiesto 5-10 minuti fa un quarto d'ora se lei me lo chiedeva prima no gliel'abbiamo chiesto se conosceva non so chi gliel'ha chiesto io Gianni scusa Gianni che aveva delle ragazze però le ragazze che mi interessavano Gianni per favore lascia stare quello che dicono gli avvocati io ti ho chiesto a te avevi un altro sistema per rintracciare questa donna tu mi hai detto no questa donna è stata arrestata insieme a Turatello non è chiesto ma vabbè d'accordo c'hai ragione tu si chiamava chicca c'hai ragione tu va bene lo giudicheranno loro e facciamolo giudicare allora perfetto andiamo avanti allora volevo chiedere no sulla sparatoria mi devi dire che prima te ne sei andato angoli e angoli mi stavi dicendo allora la sparatoria Gianni no comincia sai che io perché ciccio tu hai detto che era stato ferito gravemente Gianni ciccio ha preso un colpo di pistola questo lo abbiamo letto anche noi sui giornali da Napoli Gianni 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 Presidente io devo dire una cosa siccome l'altra volta è stato detto Turatello era in fin di vita eccetera io ho detto sempre che non è vero assolutamente Turatello ha avuto questa sparatoria ora non so nemmeno se c'era lui non so è stata ferita la gamba si ma di striscio non so se questa pallottola però c'è entrata dentro o c'è entrata fuori e la notizia è stata ferita la gamba Presidente Presidente allora io dico cosa è entrato e vuoi Presidente senti non lo so Presidente si è entrata dentro io non lo so Presidente io dico una cosa e molto probabilmente quando Turatello è entrato se andiamo avanti così gli dico pure che ha messo la notizia in giro che era morto ma che cosa non è che dobbiamo fare ma di quello che vuoi tu e allora tu continui a dire fesceria te ne inventi una tutti i momenti no non me ne invento vedi che ci sono gli altri chiedo chiedo che la corte voglia acquisire quelle che possono essere stati indagini polizie carabinieri Turatello è stato colpito mi alzo per farvi vedere non per dargli addosso ci va anche a rappelare è stato colpito ho la schiena qui e il proiettile è uscito sotto la scena questa era la ferita di Turatello quella di lui non era in fin di vista si non era in fin di vista la proiettile è uscito da sotto la scena ecco ecco fallo mettere a verbale perché domani va a finire dopo che sto proiettile non è entrato più e allora mettiamo a verbale io gli dico Presidente che è stato ferito ora non so gli avvocati ce ne devono andare un'ultima domanda ho pregato il Presidente siccome io ti devo dire dopo alcune cose giustamente Presidente ma che devo dire io me ne devo andare sono alle 4 non ci possiamo vedere la cosa Avvocato Trofino no no lei quando esce di qua se ne va beatamente al parro a casa sua di sua moglie a lavorare va bene io devo andare in un carcere tre ore e mezzo di furgone ora questo caldo che c'è se si vuole tanto per parlare così Gianni Gianni Presidente no io non ho voglia ma io avvocato volevo accettare il confronto siccome oltretutto oggi mi hanno detto che io sarei io sarei venuto qua voci anche da lui ma dagli altri per la telegissione che lo dico io e allora dico una cosa io lo voglio tagliare io non lo voglio più fare il confronto con lui lo voglio concludere adesso e ciò 5 minuti ancora lo tengo impegnato allora dico Presidente vedi che se no me ne vado io dopo se lei non è possibile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti spedicato a proposito vedi ti spiego anche diglielo Gianni spedicato no Gianni Pippo spedicato tu manco sai che nemmeno chi è spedicato allora non conosco nessuno a Milano ma se tu dici Gianni hai ragione Gianni c'erano due a Milano io e Gianni Scupola c'è ma addono che pretese Renato non fraintendiamo se il peggio di Erode li hai ammazzati tutti Gianni da piccolino Renato comunque adesso conoscevano in quella spedicato spiegati spiegati riguardo la lettera di spedicato vi sto dicendo l'ho detto anche a un processo di nuovo di nuovo di quando mi hanno chiamato per la storia di Duratello a me spedicato Presidente non ho mai mai scritto una lettera io non ho ricevuto mai una lettera di spedicato mi è stato contestato che nel carcere di Genova mi abbia arrivato una lettera a me oppure non so se io gli avrei scritto a lui o lui me l'abbia mandato a me non so come sta facendo mi è stata contestata questa lettera io questa lettera Presidente non l'ho mai avuto vabbè a posto spedicato se l'ho visto l'ho visto qualche volta si è spuggito non so nemmeno a chi è spedicato vabbè è inutile insomma cioè che c'entra su spedicato è venuto a dire che era in possesso di questa lettera io ho chiesto mi sono litigato col Presidente di farmi fare un confronto mi ha detto Cimelluso ma che confronto devi fare Gianni lasciamo perdere l'ultima cosa e poi ti do la prova che non conoscevi Turatello ce l'ho qua vedi pilla l'avvocato dice che c'è le prove che non c'è non c'è la prova che Turatello è una cosa l'ultima a parte per dirti veramente te l'ho già detto ieri mi sembrava il caso di ripeter ma se ti rispondo accetterai il confronto come no se mi rispondi guarda io mi butto con la testa nel cesso dunque l'unica cosa che ti voglio dire e lo voglio dire anche a loro perché io te l'ho detto già ieri la cosa è stata veramente squallida perché sappi che Pasquale D'Amico ha una bambina che ha 12 anni sappilo e non ne ha né 17 né 18 e allora questo te lo dico spassionato anche se quell'altro è da ammazzare come più di te non è vero se c'è uno da ammazzare qui di giusti la ola sei tu perché tu hai ammazzato 7 carabinieri 7 poliziotti e 10 figli di mamma carcerati e detenuti perciò non è che dobbiamo fare la carne sopra e maccarone sotto ci all'incontrarsi per andare a finire lui sei un killer espettato hai ucciso bambini hai ucciso carabinieri hai ucciso poliziotti hai ferito ma ci sono come è stato presidente come io sarei quello da ammazzare io collaboro con la giustizia e lui ammazzare il poliziotti e io sono da ammazzare lei mi dice si dove l'uso era una battuta presidente quella ha ucciso un sacco di persone ha ammazzato un ragazzo di nome lui un bambino di 18 anni 20 anni solo perché ha scritto una cartolina brutta e porca miseria che sua mamma l'ho visto io con le lacrime così agli occhi gli ha ammessi questi diritti ha ammessi che bravo ho ci porto le mani io Gianni scusa posso l'ultima domanda presidente lui dice che io sono da ammazzare e lei non se ne sbatte proprio io lui mi dice e lui sta in zile Gianni dai è stata una battuta ti devo chiedere scusa Gianni io non devo essere ammazzato io se devo essere solo ammazzato sai perché devo essere ammazzato perché mi sono pentito mi sono schifato di essere pentito Gianni il procuratore aveva ragione Gianni non c'è nessuno che si interessa a sto fenomeno di pentito Gianni però è vero ma vedete che la mia famiglia è bussata strada strada e lei dice non è vero Gianni ma me ne devo andare scusa questo qua è un problema insomma tuo non è che puoi coinvolgere me Renato se tu mi dici che io sono da uccidere dico il procuratore c'è allora ragione a dire dobbiamo indagare perché nessuno mi tuteli Presidente no io non voglio non voglio cioè a questo punto a buttare un'altra scintilla per farlo schiattare non mi costerebbe niente Renato però io ti parlo solo con la bocca stai tranquillo Gianni allora ti dico tu stesso visto che io ti ho fatto questa battuta tu stesso mi hai detto Renato mi rendo conto che io per te sia uno da ammazzare me l'hai detto come no ma a livello perché io sono che i carabinieri con i giudici con lo stagato ma non a livello perché io ho fatto qualcosa che mi ero di essere ammazzato perché per te e per te e allora perché e anche per gli avvocati te lo dico io sono un infatti sono un terratore Gianni vogliamo vogliamo avvocato vabbè avvocato io sono sempre un pentito avvocato Turofini lei lo sa che lo rispetto perciò e si considera da ucciderlo su pentito Gianni 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 anche i pentiti ma parla ma parla con me con me mica con Coppolo è per te avvocato io gli dico solfanto una cosa è giusto però è l'ultima cosa che devo dire attere nato avvocato se lei potrebbe fare squagliare Gianni Melluso lo farebbe squagliare così lei si sbaglia se come Gianni Melluso è il punto più forte di tutta l'accusa finché che arriva qua di amico Gianni Gianni per favore ma dammi a retta i confronti li stai facendo con me l'ultima cosa però lei mi ha detto che martedì Gianni tutto quello che vuoi io so se il consigliere che dopo non succederà Gianni l'ultima cosa io voglio la prova che mi dice che torta era in acento cioè che Turatello allora ah non ce la vuole allora dimmi la fatta di torta c'era una cosa che ti volevo dire questo qua era più che altro diretta ai magistrati allora dico e beh se ti metti lì a fare i commissi mi fa piacere parlare con l'avvocato io rispondo primo si è sempre parlato qua dei ricatti che sono stati fatti dai Gianni per favore no no quando parlavi tutti stavo hai ragione stavo guardando quando sono stati fatti i ricatti cioè si è stato si è parlato qua di ricatti per quelli che potevano essere i ricatti dai giudici ai pentiti non parlare di giudici no 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 Renato Gianni per favore finiscila lascia che mi riprenda il Presidente almeno se tu scusa non parlerò più non parlerò più Renato non parlerò più non parlerò più Presidente me lo stavo dimenticando Presidente dopo non parlerò più se no me lo dimentico non c'entra niente con Renato che dopo tutto scusate me lo dimentico voglio dire soltanto una cosa me lo permetta prima è venuto Catapano volevo dire che lui c'ha mettetola a verbale un astio enorme col giudice Fontana e col giudice Di Pietro perché gli avevano no e ho detto già formalmente gli avevano quasi quasi detto una volta che gli davano la libertà provvisoria dopo sta libertà provvisoria non è stata più data come? no Presidente e quando è stato arrivato il mandato di cattura Catapano Renato scusa un attimo ti rispondo tu perché è importante è una parentesi scusa non mi interessa no è importantissimo ma interessano a noi scusi ecco interessa aiuterò anche io l'avvocato non ti preoccupate volevo dire che lui ha avuto questo mandato di cattura per camorra dal giudice Di Pietro Fontana non lo so e allora mi diceva che il giudice Fontana gli aveva quasi quasi assicurato che gli dava la libertà provvisoria e lo faceva uscire non appena il giudice forse Fontana intelligentemente ha pagliato bene gli atti e ha rifiutato questa libertà provvisoria Presidente era successo in finimondo in quel carcere di Campobasso e per questo mi ha detto a me e sul ragazzo Catapano che dopo è un bravo ragazzo mi dispiace come si scaglia così contro di me di lui non posso dire niente non sono il motivo ha avuto questo asse e mi ha detto ti faccio vedere quello che mi hanno truffato questi giudici mi hanno girato mi hanno fatto pentire mi hanno fatto dire tutta la verità e ora mi hanno abbandonato non appena possibile anch'io non mi dimostrerò più dove è successo questo il Presidente io vi voglio dire soltanto una cosa credetemi c'è un complotto ma Gianni ma c'è un complotto scusa e dove ti rispondo a te c'è un complotto e il Presidente Rocco contro lo Stato da parte di alcuni penditi Presidente mettetelo a verbale ve lo giuro complotto è vero è vero Presidente è vero è vero Renato no è importante perché qui ognuno può venire a dire come quello è venuto a dire ma stai facendo i confronti con me ti prego ti ho detto scusa pure come l'avete saputo chi ve l'ha detto questa promessa dell'impegno lui questo ragazzo Catapano quello che ha detto è ferissimo io con Catapano eravamo così ma ve l'ha detto il stesso Catapano si Catapano mi ha detto a me Gianni sto uscendo che mi danno la libertà provvisoria era ero io presente non quando me l'ha detto il giudice era nella caserma Pastrenco con me mi è venuto dice Gianni mi ha chiamato il colonnello Candida il giudice Fontana il giudice Di Pietro e mi hanno assicurato che molto presto mi fanno danno la libertà provvisoria ora Presidente io non so se un magistrato del genere lo chiamava dicendoci queste cose perché non ci credo vi dico la verità però vi garantisco una cosa Presidente veda che c'è in atto un complotto contro l'istituzione contro i magistrati contro lo Stato che non si sta capendo più niente io scusa un attimo Pantico scusa ve lo giuro Presidente quello che sto vedendo io lei forse da fuori ho l'avvocato e ci do ragione ognuno che viene qua Presidente Merlusa mi ha detto che è tutto rinocente Presidente e va bene è facile io vi dico soltanto una cosa Presidente lei è stata intelligente l'altra volta quando ha letto la lettera del Procuratore Generale io ho scritto al Ministro di Grazie e Giustizia 3-4 mesi prima che c'era sto complotto ancora non c'era nemmeno l'appello io non sapevo che tutto questo succedeva è successo c'è un complotto soprattutto signor Presidente contro il giudice Fontana il giudice Manguso il giudice Di Pietro il giudice Di Persia e soprattutto col consigliere Farina e il giudice Cedrangolo c'è una montatura perché dicono che accusando Tortora la legge dei penditi non riuscirà più e allora hanno deciso i magistrati ci hanno abbandonato ci hanno fatto accusare un personaggio così importante e noi sai che facciamo diciamo che ce l'hanno detto loro e non se ne parla più e volevano può infolgere me perché come diceva l'avvocato fare cadere basta Gianni è Cristo Presidente fare cadere dopo Gianni Melluso e allora loro Presidente volevano l'aiuto mio perché se io lo dicevo io che ero l'accusatore diretto a me me l'ha detto lei che torta rinnocente la cosa era molto credibile ma se lo dice lui che può dire Melluso mi ha detto che torta rinnocente invece io potrei dire ma l'ha detto il procuratore generale quando non è verissimo io vi prego di mettere queste cose a verbale Presidente il procuratore generale è meglio che fa un'intagine c'è un complotto una cosa enorme va bene Gianni 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 allora avvocato Trofino eh per favore adesso ma con l'avvocato Trofino mi garantisco che il procuratore cedrangolo è stato mandato via ufficialmente per altre cretinate allora Gianni Gianni dai a retta me per far finirla cazzo hai fatto adesso hai fatto ancora un'altra volta con me devi parlare che sono anche a me che ci sono anch'io tradotti in italiano dico con me devi parlare allora dico che parli di complotti conosci il giudice Montoni di Milano non l'ho mai visto conosco il giudice Di Mangio che è meglio che non lo conosco più conosci io non ho natato ah senti conosci il giudice Montoni no presidente lo conosco no ti chiedo si o no devo rispondere ma io non posso dire si o no io non ti posso dire io ti devo dare una spiegazione io non sono San Filippo si lo conosco si non lo conosco altrimenti ti fa comodo voglio dire soltanto presidente che il giudice che parla a questo signore prima di chiamare Renato ma questo signore no Renato in modo amichevolo l'ho detto non in modo ironico il giudice Montoni ho l'altro giudice che parla di Maggio sono dei bravissimi magistrati perché io non ho incontrato mai Maggio però presidente non vorrei peccare io sono stato interrogato dal giudice Di Maggio in modo squallido presidente io voglio che le metta verbale va bene Renato a Di Maggio stiamo parlando del giudice di un tronco il giudice è tutto ma c'ha a finenza queste cose che deve essere a senso uno è logico c'ha a finenza te lo dico perché c'entra Tortona pure qui si te lo dico io io ho fatto dei verbali già è inutile che lo dico ora Di Maggio avete detto io ho scritto alla procura ho detto ma lei dove mi ha mandato il procuratore c'è Drangolo a Milano in mano del giudice Di Maggio che voleva sapere ma questi magistrati di Napoli che stanno facendo sono impazziti ci ho detto uno che è impazzito è lei qui e guarda caso sto giudice Di Maggio prima di essere magistrato lavorava dell'avvocato dell'avvocato dell'avvallo eh sì Gianni io ho fatto una domanda ti verbalizzi tutto questo tu Gianni 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 io è quello che vorrei però questo non vuol dire che è un cattivo magistrato la tua polemica la tua polemica o meglio la vostra polemica di pentiti che qua ci sono le varie porcure che usando voi come armi si stanno facendo la guerra Santa Maria Capovetere contro Napoli Napoli contro Santa Maria state facendo ma non è vero ma non è vero ma non è vero comunque io conosco il giudice scolastico Gianni a me non mi ha detto mai niente ma che me ne fota a me del giudice scolastico e allora perché parla Santa Maria Sto dicendo il giudice Montoni lo conosce no oh chi è mai capitato di avere a che fare col giudice Montoni non lo conosce non lo conosco non lo conosco Presidente c'è un motivo se dico così io non sono scemo tranne se mi ha interrogato qualche volta io non so che si chiamava Montone ah ma hai avuto a che fare col giudice Montoni ti chiedo non posso escludere Renato io non so chi è questo Montone tranne che mi ha interrogato a me qualche volta che non so che si chiamava Montone perfetto quindi non sai tu cioè questo Montoni cioè l'ho sentito oh perfetto però non so se mi ha interrogato mai dieci anni fa cinque anni fa no 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 va bene non si sta dicendo di questo ma allora allora Presidente io faccio presente un'altra cosa il giudice Montoni è quello che procede a Milano diciamo quello che ha interrogato quelle epaminonda stamattina ma è vero il giudice Montoni ha gli imputati che mi spiace oggi non c'è nessuno dei due comunque Andraus e Nino Faro è andato a interrogarli ad Ariane Irpino e vabbè a parte degli apprezzamenti che non so che diciamo sulla magistratura napoletana tra virgolette non voglio entrare in particolari poi non mi interessa facciamo tutta allusione allora 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 entro in particolare entra entra in particolare entra Presidente e procuratore generale io entro in particolare entra allora i due imputati Andraus e Faro vanno dal giudice Montoni non ricordo quanto comunque interrogatori non ne hanno fatti i 107 come Gianni Melluso quindi si può rintracciare la svelta e dicono e vengono accusati praticamente Da e Paminonda tra gli altri e altra gente che loro erano quelli che facevano parte diciamo di una certa organizzazione mafiosa e quindi non camorristica all'interno delle carcere avevano determinate al che quando dice ma chi è che dice questo chi è che non dice questo dice ma è a un bel momento il giudice dice senta perché Andraus gli risponde dice senta dice io per cause dice perché non viene a dire queste cose a Napoli ma che c'entra con me e te lo dico subito te lo dico subito perché Gianni non fare il forno stai calmo hai parlato fino adesso con loro mi fai io sto parlando almeno con la corte ma tu devi parlare con me allora dico il giudice Montoni dice Andraus si difende in questi termini dice ma senta se lei dice queste cose che io faccio parte della mafia che oltretutto sarebbe collegata ai partellino e quindi contro la NCO lei giudice perché non viene a dirlo a Napoli almeno mi scagionano subito dimostrerebbero sarebbe la prova approvata che io non ho niente a che fare con la NCO e lui ha detto dice dice perché lì io sono dentro per l'accusa magari di qualche di qualche pazzo dice questo lo dice Andraus al che il giudice Montoni risponde a lui dicendo dice noi a Milano stiamo facendo le cose in maniera estremamente seria forse anche bruciati dall'esperienza napoletana noi vogliamo evitare errori di sorta tanto è vero stai fitto stai fitto tanto è vero che me l'uso mi ha mandato 30 telegrammi e 30 lettere e non l'ho neanche mai chiamata Presidente parole del giudice Montoni aspetta metta verbale che io ho scritto al giudice Montoni faccia subito un programma perché se Montoni l'ha detto è più bugiardo di lui anche se è giudice glielo dico chiaro se l'ha detto se non l'ha detto questo vi sta riempendo di chiacchia va bene non l'ho mai scritto a Montoni che gli è stato riferito ma è facile dire così Presidente e viene Catapano dice me l'uso me l'ha detto un amico me l'uso me l'ha detto viene lui quello me l'ha detto possiamo andare avanti ho detto in questi termini noi a Milano sta verbalizzando devo andare più piano cosa devo fare più piano così verbalizza no ma ha detto pure un'altra cosa prima ha detto a parte dei commenti che hanno fatto che il giudice Montoni ha fatto sulla magistratura napoletana io l'ho invitato a vedere quali erano questi commenti il commento era solo ed esclusivamente questo a me è riportato dall'Andraus dicendo noi noi no l'ha detto sui pentiti avvocato non deve intervenire nessuno Presidente l'ha detto sui pentiti avvocato Trofini non sui giudici ha detto non solo i pentiti napoletani ce l'ho io conservato avvocato dunque c'è Corsalino dunque allora io ripeto le affermazioni del giudice Montoni a Andraus e Faro è stata quella di dire noi non siamo non qua non vogliamo non siamo a Napoli noi negli stessi errori della magistratura napoletana non li possiamo mai commettere primo perché visto che vogliamo andare in particolare l'istruttoria è stata estremamente seria e abbiamo cercato riscontri a tutte le affermazioni di ogni pentito anche diciamo quello che tra virgolette potrebbe essere più credibile a questo aggiunge tanto è vero che il pentito della NCO cioè che è in questo processo Gianni Melluso ha fatto a me e allora mettiamola a vero 30 lettere e 30 telegram no guarda Gianni non è vero più è scritto speriamo che chiamano a giudice Montoni no e va bene ma per te sarebbe e vedrai se il giudice Montoni dice queste cose basta basta va bene a posto allora Gianni allora io devo dire una cosa e fammi parlare pure a me stanno la miseria a Napoli dicono così Presidente lo sai perché si riferisce al giudice Montoni? perché c'ha ragione di quello che dice ha ragione a modo suo se come il giudice Montoni lavora quasi in coppia col giudice Di Maggio il giudice come? allora lo conosce il giudice ma allora lo conosce allora hai scritto Di Maggio scusa hai scritto Di Maggio scusa hai scritto Di Maggio no qui sta scrivendo tutto Cancellero non cominciamo a cambiare le cose no dico se non hai scritto di parlare con Montoni hai scritto per parlare con Di Maggio è questa la domanda perché ti interessa tu mi hai detto che il giudice Montoni ha detto che io ci ho scritto 30 telegrammi e 30 lettere perfetto chiamiamo sul giudice Montoni e vediamo se io non trovo di in faccia dopo se ha detto queste cose si se ha detto queste cose la domanda è quest'altra non è che questi 30 cartoline e 33 l'hanno l'ha fatta il giudice Di Maggio anziché il giudice Montoni Presidente consigliere cioè quello voleva dire è loci ora si è capita che voleva dire l'abbiamo capita tutta e allora rispondi consigliere vedendo che è andata bruciata di qui dice vabbè Presidente non ho detto niente abbiamo scherzato Senato conoscevi tu Rachello ti provo che tu non avrai conosciuto un cazzo di nessuno allora allora dico tu Rachello tu l'hai conosciuto nel 1974-75 giusto provalo oh e ho spiegato ah vai Renato stai zitto una lettera che io ho scritta Renato no 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 questo è un rapporto dei carabinieri e prendiamo è un modello Z ma come tutto questo è che è brava chissà che cosa c'è un modello Z l'avvocato dice che hanno le prove che c'è tu dici che io c'hai le prove ti faccio parlare faccio parlare sei proprio un procuratore ma io dovrei non ho capito che devo far parlare faccio parlare grazie procuratore dunque sai che cos'è un modello Z che ne so io che è il modello Z io che sono voi lo lei che ha fatto lei fa tre ore sta dicendo eh potine le fa no perché prima vabbè perché questo qua sarebbe un confronto a suo favore io sto stavo guardando e allora ma non allora Furatello aveva fino al 1977 un tatuaggio sulla mano sinistra grosso così e che vuoi qua cosa raffigurava questo tatuaggio c'è un modello Z dei carabinieri che ne parla e sentiamo sentiamo allora lui lui 1977 marzo viene arrestato questo tatuaggio non c'è più non c'è più perché mentre è stato ferito quando dico io lui ha fatto delle lavaggi laser e si è tolto questo tatuaggio però tu l'hai conosciuto nel 74 e 75 fammi parlare che cazzo di tatuaggio aveva qua ora fammi parlare sentiamo qui mi credi Renato se io ero un avvocato un giornalista mi alzavo e me ne andavo mi sembrava credi bene se io ero uno di loro chi era che tatuaggio aveva qua grosso così l'aveva se io ero un animale ti aiuto io come parlare se io ti ho detto ero uno del pubblico ti giuro che mi sarei impaurito sai che cosa c'è ma all'ultimo mi viene un foglio giornale modello Z non è un rapporto dei carabinieri i carabinieri e che cosa vuoi carabinieri di Milano ma da me che cosa vuoi se sono carabinieri sono su polizioni che vuol dire che tatuaggio che era sulla mano presidente e consigliere lei se stavolta parlo con lei dice devo parlare con il presidente presidente volevo dire insomma questo tatuaggio la dovrebbe avere aveva un tatuaggio no ve lo rispiego presidente un momento aveva un momento aveva avvocati non mi segnate ma non suggerisca nulla però non mi suggerite niente per favore presidente un momento presidente posso finire posso finire no non è completa la mia domanda però martedì dobbiamo essere qua non è che dopo sì 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 dico Turatello Francesco aveva un tatuaggio qua sulla mano fatto da minorenne dal carcere dei minorenni questo tatuaggio gli è stato rifatto nel 1968 69 a Milano perché era fatto piuttosto male e gli è stato fatto la medesima immagine abbellita e in più è stata colorata un momento presidente per favore gli sono stati messi dei colori tant'è vero che giornali alla mano quando si parlava di questo l'uomo del e parlavano di questo tatuaggio cioè quando parlavano di Turatello tant'è vero che Turatello è diventato adulto diciamo e quindi sapendo che poteva essere sì ma la conclusione vai porca miseria che tatuaggio aveva fammi rispondere che parli sempre tu perché questo sai chi te l'ha detto sta facendo questo tatuaggio te lo dico io tu nemmeno tu lo sapevi te l'ha detto qualcuno per che il tatuaggio aveva sui mani ti rispondo ma la sinistra e la mano destra ma la sinistra e la mano destra ma con l'ha detto la mano destra e la mano sinistra e il tatuaggio lui sta parlando ora rispondo io io presidente di tatuaggi che lui dice averle sui dita non lo aveva su qua su la dica dica parli lei questo tatuaggio io presidente non ci ho fatto nemmai caso anzi metta verbale che da parte mia io non ho visto mai questo tatuaggio eh presidente ora se per tatuaggio l'aveva qui e così perlomeno eh non so dove intende lui dove intende tu io ripeto ripeto ma dove intende il tatuaggio ripeto te l'ho detto qua o qua eh presidente io forse non no io nemmeno io l'ho capito non il presidente ah non hai capito nemmeno io l'ho capito allora non l'ho visto mai chiuso oh il procuratore volevo sapere dove l'aveva perché lui dice qua ma non ha importanza l'ha detto che non l'ho visto mai oh il tatuaggio di turattello ma tranne se l'abbia fatto fare lui io non lo so come io non l'ho mai visto il tatuaggio allora dico se tu non hai visto questo tatuaggio il tatuaggio era fatto fin da bambino no e allora dico e allora nel 1977 quando lui oltretutto tu avresti dovuto conoscerlo nel carcere di Cuneo aveva una ti dimostro che l'ho conosciuto anche fuori aspetta aveva e aspettiamo diciamo una bruciatura diciamo una bruciatura perché la cancellazione al laser Renato dice che aveva un tatuaggio ora aveva la bruciatura no non cambiare con me il gioco delle tre carte non si fa hai detto che aveva un tatuaggio fino al 1977 fino al marzo 1977 quando lui entra in carcere lui ha un tatuaggio fino a prima di entrare nel 77 ha un tatuaggio in carcere c'è il tatuaggio e se l'ha bruciato no in carcere lui è venuto senza tatuaggio perché quando è stato ferito da Vallanzasca si è cancellato anche questo e allora facciamo una cosa allora dico primo oltretutto Turatello Francesco a Milano era anche conosciuto come Francis dai guanti bianchi non è vero stai dicendo una bugia enorme non è vero assolutamente Turatello era conosciuto come faccia d'angelo ancora dico Presidente io a queste qua lasciamo perdere quello che dice lui io dico voi potete controllare lo lasciamo sempre perdere no io dico io ti ho detto che portavo la prova tu stai dicendo che lui non aveva tatuaggi basta è chiuso lì il discorso è chiuso lì non c'è più niente da dire ho detto che non aveva tatuaggi posso inserire una domanda il tatuaggio sull'amato lei signor Belluso porta tatuaggi ma avvocato a questo scopo glielo dico chi porta i tatuaggi è portato a notare i tatuaggi sul corpo giusto ecco quindi risponde a questa domanda lei porta tatuaggi ma mi sembra una domanda imperfinente avvocato mi risponde a questa domanda ce l'ho dei tatuaggi ce l'hai i tatuaggi a verbale ce l'ho eh boh Presidente io dico una cosa perché ho parlato del tatuaggio sulla mano e non ho parlato del scusando il termine eh che poteva avere la mosca in una parte talmente intima del corpo che lui poteva dirmi ma Renato ma io questo mica ci sono stato a letto assieme allora io dico e oltretutto chi sa se ci sono stato che ne sai ebbè non con lui eh questo è un'affermazione gratuita che oltretutto forse era facile che ti rispondevo quello che ti dicevi ora ulteriormente offende la memoria di Turattello perché Turattello con te non poteva neanche stare a dieci metri perché non poteva stare quindi in ogni caso cioè è andato a finire io che io che tu ero un povero trocato fuori doveva stare vicino a te ma non e con me non ci doveva stare non non vicino a me Renato io prima di arrestarmi te lo dico chiaro chiaro quando ero fuori guai mi impressiono no non ti impressionare non sono un violento non sono messa con il violente no no mi impressiono per quello che mi dici ti dico soltanto una cosa ci sono in carcere i fratelli Mirabella che erano intimi amici di Turattello ci sono ancora Gianni Scupera e tanta altra gente io Renato quando avevo 18-19 anni 20 anni se tu mi facevi solo tanto una cosa oh mamma mia per carità non vorrei impressionare non voglio impressionare nessuno io ti sto dicendo tu stai dicendo che Turattello mi stava 10 metri lontano Turattello io ti dico che ti prendeva Turattello e te lo facevo mangiare se qua io ti dicevo io ti dico semplicemente che Turattello io ti dico Presidente mi stava 10 metri lontano Presidente sì sì perché non avresti potuto parlare ma voi non le capite tu a Trani sei andato ho capito voleva dire che Turattello mi stava 10 metri per dire no non ti stava no non hai capito Gianni no Gianni Gianni non hai capito che lui stava no lui ti teneva 10 metri è diverso cioè che intendi fammelo capire che ti teneva 10 metri perché tu non potevi neanche permetterti di rivolgergli la parola a Turattello sì te lo dico io ma Lanzasca ci vuole togliere quest'incubo ci vuole dare un momento un momento allora dico Renato ti posso dire una cosa sì le persone che ho conosciuto io da giovane mamma mia ma che ci interessa a noi da giovane ma hai detto che hai conosciuto Tortora che cazzo mi rappresentava a Tortora chi era nessuno Tortora ancora Renato fatelo parlare ma che risposta si devo dare ecco ma se tu mi dici che deve stare 10 metri lontano io ti dico no ci potete dare un momento assieme va bene finisci la Tortora non era nessuno in quel periodo che ti dico io era un povero Cristo come ero io chi era su Tortora è Tortora Gianni finiscila lì per favore ti ho detto ora è diventato un personaggio allora è diventato è meglio non lo conoscerlo forse grazie a Merlus Gianni allora dico non ero offensivo non ero offensivo questo è un volvallo c'hai i peli dentro lo stomaco non fuori hai capito sì che io non sono Tortora l'hai capito sì ma lo so hai saputo che io ti avevo detto che la carota te l'avrei messo in culo qui l'hai capito sì ma dove la stai mettendo questa carota comunque anzi ti dico una cosa Renato vedi che Tortora che tu lo fai con il santarellino questo Tortora non me ne frega niente di Tortora non è vero Renato io so per certo tu stai facendo questo per difendere Tortora e tu te ne batti le scatole te ne sbatti di Turatello e chi ci sta a dire stai facendo questo soprattutto tu per aiutare la difesa di Tortora te lo dico io permettimelo non offenderlo non ha senso offesa per aiutare il modo morale può anche darsi non perché te lo dice la tua bene bene questo mi fa molto piacere preso atto del fatto che lei abbia detto per ragioni morali mi fa molto piacere di questa confessione che lei sta facendo in contavolo forse tu vuoi aiutare questa è una vera confessione sei stupido Gianni mi complimento ma se io non sarei pentito e se ci sarebbe l'avvocato Coppola che difende a un amorrista io me ne vado con l'avvocato Coppola cerco di aiutarlo scusa io è questo che ti volevo chiedere per concludere la domanda poi tu martedì non faccia che non mi chiama perché l'ho promesso mamma mia non facciamo un bordello no senza bordello e dopo ti rispondo io che tu non eri nessuno a Milano e ti rispondo io chi eri tu cosa facevi a chi frequentavi e chi erano i tuoi amici dopo te lo dico io belluso questa parte di questa prossima numero ti dico pure chi era la tua ragazza e l'ho avuto io la tua ragazza Barbara dopo ti dico chi era Barbara ma chi vuoi rovinare qualche altro io Barbara io no mi dispiace che ho rovinato solo Tortola Barbara è la storia della kitty è la storia della cacca tu te ne inventi uno ogni minuto ti dico e di Barbara ti do il nome belluso ma non me ne fotte niente no ti do il suo nome e non ci ha fuso niente ma questo non interessa la corte io ho detto ti sto dicendo Renato l'avvocato dice che questo non interessa quello che dici tu interessa perché difende giustamente la persona quello che dico io non è tu se ancora Gianni se tu ancora ti dovevi qualificare per qualcosa l'hai finito di fare oggi se ancora oggi come oggi tu entri in un'aula gli dici mi chiamo Gianni Belluso non ti credono più è vero hai ragione allora te lo dico io te lo dico io hai ragione apposto che era sufficiente questa era la famosa carota di cui parlavi però ti dico una cosa sono andato a sei processi questo me lo lascia dire presidente me ne vado me ne vado io avvocato John Fini presidente lui dice che se io entro dentro un'aula allora gli rispondo che sono andato in sei aula di giustizia presidente sono stati tutto quello che ho detto io già una volta il consigliere mi ha detto dobbiamo stabilire l'attentibilità la mia attentibilità è stata dimostrata prima a Napoli dopo a Cunio dopo a Trapani dopo a Palermo che deve dimostrarsi a Napoli non ancora a Napoli non ancora a Napoli in primo grado dico io ora ora ce l'ha corto non ancora ci vuole fare dare sto foglio senti Gianni no aspetta un momento aspetta dai calmo qua ci siete venuti tutti con le cartoline no io non ce ne ho cartoline dico ti sto dicendo e tu avevi meno gente da accusare ti sei limitato non ho accusato nessuno senti ti ho detto Gianni allora Gianni Gianni allora ti dico e allora mi consente fumare una sigaretta ho detto fuori microfono dico senti Gianni sigaretta te la fumi mo dopo subito dopo anche io ce l'ho detto dico io ti ho detto questo se tu tu mi stai dicendo quindi che Turatello non aveva tatuaggio sulla mano sul dorso della mano no non è vero non ho detto non aveva tatuaggio non lo avete notato tu allora non li hai visti se questo tatuaggio non l'ho visto l'aveva qui o qui o se l'aveva bruciato e non si notava io non lo so Gianni non lo so sarò più chiaro ha detto che non l'ha visto che c'è già l'ha detto e appunto l'ho detto è un momento è importante se lui mi dice no no prendi il microfono Renato così è tutto registrato come l'avvocato se dice dopo non ti preoccupare non ti preoccupare che io non ho bisogno no prendiamo lo suo microfono a differenza tua giochi delle tre carte non ne faccio io ho parlato borso della mano e quando ho parlato articoli di giornale alla mano quando parla che lui dice Francis Facciadangelo Francis Facciadangelo è sempre stato il suo soprannome fin da quanto era ragazzino è vero c'era c'è stato anni 70 71 72 tempi si sta parlando della rapina della Steffer di Roma quando l'hanno arrestato in Sicilia al paese tuo che parlavano te lo dico io con chi la fa parlavano stai fitto non sto parlando della rapina parlavano parlavano di Turatello l'uomo dai guanti bianchi perché e spiego anche perché i guanti bianchi siccome Turatello quando era ragazzo è stato talmente inconsciente da farsi questo tatuaggio diventando un po' più adulto e quindi rendendosi conto che questo poteva essere un segno di riconoscimento non indifferente soprattutto dalla vita che ha fatto lui che l'ha fatto carcerato ricercato lui pensava bene di nascondere la mano con i guanti bianchi guanti di setta bianchi e anche questo ti risulta tu Turatello non l'hai mai visto nemmeno con i guanti bianchi no come dici tu io non l'ho visto mai Turatello come faccio a vederlo con i guanti gialli tu hai detto che non lo conosco come faccio a vederlo io vi dimostrerò con delle persone dove mi ho visto con Turatello chi c'era con me dove lo dimostrerò prima devi dimostrare quello però Gianni dopo io dirò Gianni io ti dico una cosa questa è la prima parte per me era la prima parte della domanda no devi consegnare quella frase ancora porca puttana mi vuoi far finire ti ho detto tu a questa domanda non sai rispondere Renato io rispondo Presidente vuoi consegnare questa frase io dico eh che misera io dico una cosa molto semplice io avevo siccome io volevo inizialmente da queste cose l'avevo già chiesto a un avvocato che una volta che io fossi venuto qui per fare questo confronto con lui avrei chiesto l'allontanamento di San Filippo prima di porre questa domanda perché San Filippo è stato in cella con Turatello e molto probabilmente no non molto probabilmente dico poteva anche darsi che Turatello gli avesse fatto cenno magari vedendogli il segno che cosa hai fatto avevo un e allora io avrei detto prima di porre questa domanda alla corte chiedo che sia l'allontanamento e chiamiamo a San Filippo e ce lo facciamo vedere a questo punto un momento io dico siccome siccome in ogni caso nemmeno San Filippo può avere mai visto la cosa questa era una prima domanda alla quale se lui mi avesse eventualmente perché nessuno poteva escludere categoricamente che qualcuno a lui gliel'avesse detto io avevo un'ulteriore domanda che è sempre qui che avrebbe potuto dimostrare cioè dico se tu mi rispondi era una domanda diciamo di emergenza se tu mi rispondi a questa domanda io ti faccio quest'altra domanda allora dico ti pongo esatto mi piace fare la cartelletta come mai buongiorno io ti ho posto questa domanda tu non sei in grado di rispondermi non ce l'aveva questo è il tatuaggio ce l'aveva e non l'hai visto ma che devo fare ci volete fare consegnare questa affara non c'è consegnare allora senti lui l'ha risposto già ha detto non l'ho visto lo leggete presidente faccio leggere a presidente questo è qui la prego di tenerla per lei per martedì dopo il confronto dopo il confronto ah per martedì sì 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 allora dai presidente prima che un attimo la prego non lega neanche una parola di quello che c'è scritto alla fine del confronto no 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 oltretutto se lui mi risponderà questa domanda io voglio porre una domanda successiva sempre in base a quello che c'è scritto lì no presidente ora io devo fare martedì lei ha detto ah ora lo conservi per martedì dopo noi veniamo qui e lui mi dirà dopo io ti devo fare delle domande e ti faccio vedere chi è Renato Vallanzasca alla fascia da tu non è mica finita lui deve dare una risposta se il tatuaggio ce l'aveva se il tatuaggio faccia volta te l'ho detto già martedì ho detto che non l'ha visto no ci siamo capiti benissimo non ci siamo capiti procuratore no sei tu che non ti fai capire proprio martedì no martedì martedì ha detto il presidente senti Gianni tu adesso dici sì o no ho risposto non l'ho capito ma non me lo hai capito allora non aveva tatuaggi ma chi l'ha detto non l'aveva ha detto io non l'ho visto non lo so se l'aveva o non l'aveva allora forse non ci siamo capiti eh nemmeno io ho capito dato che si parla non può non essere non l'ha visto questo è un argomento o l'ha visto o non l'ha visto come ve lo devo vedere per forza io ho un pozzo qua in mezzo ah quello sì quello sì se tu c'hai giustamente un pozzo qui e la faccia l'ho noto subito ma la tasca ma si parla di una cosa che non è il tatuaggio sul cuore non potrebbe attendere a me questo mi sta ancora adesso voi non l'avete sentito melluso ha detto che il tatuaggio sulle mani di melluso sulle mani di di donato l'adella non c'era lui non l'ha notata non l'ha visto non l'ha visto non l'ha visto non che non ce l'ha presidente no no non l'ho mai visto no no non ci siamo capiti io non ho mai detto che lui l'ha io chiedo dato che una cosa che è talmente palese per una persona può spuggirmi se il presidente ce l'ha si mette la mano in tasca andando via non me ne ha ma non è vero però io c'ho cinque punti qua ti giuro che non ci hanno fatto mai caso nessuno una volta uno mi ha guardato e mi ha detto ma sai che c'hai cinque punti come è differente io ce l'ho della mano è indifferente Gianni io sto dicendo che a differenza a differenza tua Francesco Turatello aveva tu mi dici cinque punti io ma che è matto tu cinque punti no a differenza tua dei cinque punti ma già ho tutto pure scoppiato ma tu mi dici Turatello mi sto dicendo Turatello a differenza tua non aveva i cinque punti no che si possono non nascondere era un tatuaggio così io che è rimasto fino al marzo 1900 e allora e allora quando l'ha bruciato questo tatuaggio 1977 e tu puoi provare questo che è stato bruciato io ho messo a disposizione no provare che è stato bruciato nel 77 del mese che dice io dico Renato ma smettela porca miseria se è stato bruciato prima che ne sai tu sai gennaio 77 come te sei Gianni ti sto dicendo lì non fai vedere polla ma non non fai ti sto dicendo tu mi devi dimostrare che è del gennaio 77 è stato bruciato allora io ti posso dire Renato hai ragione ma se tu mi dici io so che è stato bruciato nel gennaio 77 io ti dico è stato bruciato del 68 no perché lì c'è allora Gianni non ho mai capito perché oltretutto sei un po' stupidino no mi dicono che sono abbastanza intelligente tutte lì c'è un rapporto dei carabinieri che è stato bruciato hai capito carabinieri che dicono loro i carabinieri dicono gli amici miei non mi dicono 1976 turatello riconosciuto da ti posso dire anche cosa dillo una farfalla qui ma che vuoi tu se lo conoscevi dovevi vedere questa farfalla dovevi sapere che ce l'avevi e allora facciamo una cosa guarda 1976 e allora ti dimostro come dice un sacco di fesserie qua c'è una corte di giustizia siamo in Italia noi chiamiamo delle persone che hanno mi dispiace che sono andate Paminonda guarda perché il presidente se è un forbacchione fa venire Paminonda che Paminonda dopo è veramente era insieme e noi gli diciamo e Paminonda se aveva turatello questo che dici tu non è che ora dopo la gire ma senti come senti Renato tu non sai nemmeno chi era turatello e mi dice senti e dai l'hai conosciuto chiedo che venga messo a verbale che sto buffone che si permette di parlare di turatello infangarlo chi lo fanga ma vai a fare lei l'ho preso per il culo abbastanza un momento c'è una domanda che devo fare a Vallanzasca presidente lo sta vedendo che alla fine ti sei sbacchierato io ti ho condito per tutto il processo io ho detto io non sono San Filippo per tutto il processo io a te all'avvocato vi do testa a tutti perché la verità è sempre quella la strada a me non mi devi girare così per piacere devo fare una domanda presidente Renato io mi chiamo Gianni Merluso non ti ho dimenticato presidente io voglio sì 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 volete stare zitto giusto l'ultima domanda l'ultima domanda una domandina semplice siccome sono stato chiamato in causa a proposito di un lapsus che avrei fatto in ordine a una domanda che ho rivolto a Vallanzasca l'altro giorno ora lungi da me sia chiaro il proposito e siccome Vallanzasca ha parlato della malavita napoletana lungi da me il proposito di rivalutare la malavita napoletana sia chiaro questo qua vorrei sapere si schiaffa chi ve l'ha dato cutolo 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 no no vorrei sapere che me lo dice no è verissimo cutolo o barra no 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 barra anche però la domanda è il rapporto no allora fatemi rispondere no ma dovete stare zitto ma allora è possibile che non si capiscono certe cose farci fare la figura dello scemo modo mi servi più ti posso dire tu sei sempre stato un credito mi servi più non ti do confidenza è l'unica domanda che le ho fatte ho sbagliato in che cosa no c'è un'opposizione alla domanda ecco vabbè c'è un'opposizione alla domanda il presidente decida e la domanda sarà a parte eh procuratore generale tengo a fare presente che risponderò comunque al presidente risponderò se il presidente nonostante non si dirà l'avvocato l'avvocato è l'espessibile l'avvocato l'avvocato c'è una formazione posizione alla domanda del procuratore generale la difesa chiede che la domanda sia a me perché assolutamente ininfluente ai fini della decisione che la questa cosa fa ad emittere presidente le faccio osservare procuratore io rispondo lo stesso io rispondo lo stesso mi chiedete le cose poi non le volete sapere ma che volete da me mannacchia la madonna un momento che non le volete sapere contrariamente a quel che dice l'avvocato contrariamente a quel che dice l'avvocato ma faccia dire contrariamente a quel che dice è il stretto comporto con con il il reato che è stato a Malastrasco ossia se apparteneva o meno alla nuova camorra organizzata questo episodio ho rapporto all'accusa che porterò nei confronti di Vallandrasco per poter provare che lui non c'entra niente c'entra proprio niente boh comunque allora eh momento visto che qua prima si fa tutto mi piace che tutto questo rumore ci capisco niente dunque allora una cosa in ogni caso volevo capire anche io dato che la domanda è posta a me volevo capire anche io si no un momento procuratore è stato detto anche per motivarla per capire o meno se apparteneva alla camorra allora dico perché cutolo sarebbe stato quello che pichiava sulla qualità oppure solo a quelli che non erano della camorra ma questa è una come ora io ho fatto la parola allora mettiamola allora mettiamola così ho avuto una discussione con Raffaele Cutolo in un passeggio non mi ricordo quali dei pensieri metto la nel senso che diceva che oh un'altra moneta basta è nato mondito non è non è procuratore ma come mi debba esprimere basta chiamare mondito sì Renato sei propenso martedì no 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 Melluso non c'è se c'entra Melluso Melluso ma io dico Vallanzasca sei propenso martedì a fare accettare queste mie domande o no sempre io quelli stupidi faccio sempre concorso va bene ma questa domanda in questo momento come che c'entra 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 sì avvocato per favore basta devo parlare col procuratore generale no col presidente ma no ma io ho visto che la domanda è stata portata vabbè che facciamo le gelosie qui comunque comunque presidente allora rispondo al presidente allora presidente voglio dato che qui è stato detto da un non mi ricordo quale pentito comunque è stato detto che anche l'occasione nella quale sarebbe successa è stata un po' distorta comunque è vero mio fratello era passato arrestato era passato provenendo da Milano per arrivare a Trani si erano fermati insieme a Mirabella si era fermato nel carcere di Ascoli Mirabella è salito di sopra mi ha detto Renato guarda che c'è tuo fratello che sta andando a Trani a che è successo che siamo andati nel passeggio allora qui un testimone che è venuto qui un dissociato che io ci tenevo che magari di vedere il signor Procida è stato quello che per una mia frase detta nei confronti di 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 cultole dei camorristi cioè ho detto dice ma rimaniamo giù non rimaniamo giù eravamo già due ore oltre il termine del passeggio cultolo avrebbe zitto 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 Carmela fai la brava per favore dunque dicevo dunque mio fratello era arrivato dal carcere di Milano in traduzione per Trani ed era stato messo nello stesso furgone insieme a Salvatore Mirabella credo Salvatore Mirabella il che lui come è arrivato dentro alla matricola mio fratello ha parlato con sia mio fratello che Turi Mirabella hanno parlato con il maresciallo della scorta di Milano che mi conosce mi conosceva da un sacco di tempo fa ma senti ma non è possibile fermarsi vedere se magari riesco a parlare con mio fratello dice vabbè noi ci dovremmo fermare per mangiare quindi noi chiediamo ti appoggiamo giù se poi ci riesci sono fatti tuoi hanno detto a mio fratello quando lui è venuto su Turi Mirabella subito è venuto da me a dirmi Renato guarda che c'è tuo fratello al che abbiamo chiamato direttore non direttore il maresciallo Guaracino il comandante del carcere il direttore principale e no è importante perché è importante perché chi ha alzato le mani nei miei confronti è quell'ultimo lurito che c'era qui di Procida quale Turattino barra e Cutolo poi in seguito a questo rispondo anche a quell'altro che dice che non è vero questo nel passeggio e Cutolo se c'è una cosa per la quale posso solamente rispettare Cutolo è loro erano in 40 persone diciamo del cosiddetto clan io eravamo io e Cocchis Rossano ma guarda l'altro scemo che cazzo non è eh dico allora io eravamo io e Cocchis Rossano questo mi è venuto alle spalle e mi ha dato due pugni due schiaffi sulla schiena no Procida ma Procida poi ha detto dopo eh procuratore mi sembra che veramente guardate state facendo tutto il gioco alla Melluso Procida Procida al che è intervenuto Cutolo ha preso Procida e gli ha dato quattro schiaffi ha detto se c'è qualcuno che si può permettere di mettere le mani addosso un detenuto soprattutto se questo detenuto non è nostro sono e solamente posso permettermelo solo io questo nel passaggio ebbè ma è troppo semplice se parlo io mi buttate fuori eh signori miei e Cristo allora e ma questo è 30 volte che interviene allora dico primo il giorno stesso risalendo dal passeggio eh io e Marco Medda Marco Medda ha preso Cutolo ha preso me sulle scale ci siamo fermati sulle scale e mi ha detto Renato ha detto senti a me non mi sta bene questa situazione al che e diceva beh dice Renato cosa vuoi ma questo è uno stupido è un imbriacone è appena doveva fare qualcosa perché era appena stato battezzato e quindi doveva dimostrare è uno scemo Renato lascia aperto al che due giorni dopo mi sono trovato nella doccia perché l'unico e qua non ne ha detto niente nessuno e quindi qua sembra quasi che il pentito lo faccio io l'unico motivo l'unica possibilità che c'era fra i due mezzi tronconi di incontrarsi era non la doccia perché le docce ce n'era uno dall'altro e uno dall'altro ma era la barberia dove c'erano specchi cristi e madonna e propriamente con la sedia da barbiere cosa che sul lato destro non c'era e sul lato sinistro c'era allora quando uno si doveva fare i cappelli e era sempre sistemata nella doccia del lato sinistro lato sinistro dove c'era lato cutolo diciamo due giorni dopo questo fatto io sono andato in doccia per tagliarmi i cappelli alla presenza io e del barbiere quando è entrato cutolo siccome lui mi ha detto Renato io ti darò soddisfazione lui è entrato lui e un altro detenuto stavo dicendo una veseria non devo fare il nome cioè non devo fare il nome in questi termini perché era legato a cutolo e sarebbe come se io l'accuso di essere camorrista non per altro e a cutolo gli ho detto senti io sto ancora aspettando le motivazioni le tue le tue spiegazioni non spiegazioni lui mi avrebbe dato delle soddisfazioni fare un altro ti do soddisfazione di questo fatto che succede io sto ancora aspettando le tue soddisfazioni e lui mi ha risposto senti piccolo boss di Milano sai che io spiegazioni non ne devo dare a nessuno e mi ha tirato uno schiappo al che è uscito con una mano rotta cutolo e ci sono marescialli è uscito con un occhio segnato è stato portato sono venute dentro le guardie ci hanno acchiappato e cutolo aveva una mano rotta una mano gonfia così e un occhio segnato ed è stato fatto vedere gli hanno fatto le lastre alla mano a differenza delle lussazioni che parla pandico a metta quello sono delle radiografie questo questo è la situazione di a fra me in ogni caso e procida in un primo tempo che però con procida non c'è stato niente e poi la questione con cuto alla quale c'è una cosa però vorrei dato che procuratore generale l'altra volta aveva parlato perché qua sembrava che era diventata un'abitudine quella degli schiaffi volevo volevo sapere io ma a Pasquale Parra dove me li avrebbe dati sti schiaffi quando viene glielo domandiamo come dovrà venire dopo domandiamo signor presidente signor presidente vi chiedo scusa signor presidente signor presidente signor presidente avvocato Coppola cortesemente avvocato Coppola signor presidente sono otto ore che sto in trincea per una modestissima richiesta e vorrei avere la soddisfazione dopo otto ore di attesa di fare una modestissima richiesta a vantaggio di un povero imputato il quale non ha tutte le soddisfazioni che dovrebbe e avrebbe diritto di avvenire chiedo scusa dello sforzo l'udienza di ieri abbiamo avuto la presenza di Pasquale D'Amico per l'incidente che è avvenuto in aula a me risulta che avrebbe dovuto fare altri confronti si è interrotta l'udienza non so io sapevo avevo sentito annunciare che c'erano ancora 3-4 confronti da fare non so neanche chi sono le persone comunque ad ogni buon fine siccome a me interessa e di questo la corte mi ha già dato atto attraverso una ordinanza la prima ordinanza di ammissione di mezzi istruttori interessa che sia eseguita la ricognizione di persona di Ragosta Francesco ripeto la ricognizione non c'era mai stata risposta si è stata fatta un'ordinanza con cui si ammetteva ricognizione ed eventuale confronto che era evidente che se D'Amico non avesse riconosciuto Ragosta è la prima ordinanza consigliere Morelli in relazione all'imputato Ragosta confronto con D'Amico stando alla contraddizionalità delle dichiarazioni punto e basta eventualmente sarebbe diciamo importante anche un eventuale un eventuale ricognizione ad ogni buon fino a confronto ricognizione è un atto che il confronto incorpora anche la ricognizione è evidente il problema è questo in data 3 giugno Ragosta che era agli arresti domiciliari comunicò che avrebbe siccome tutta la storia ce l'ha ripetuta per un'ora ci può concludere adesso devo fare una richiesta sono 8 ore che aspetto anche il diritto di illustrare questa ho capito ma siccome la conosciamo la conosciamo però credo non nei dettagli precisi così come mi auguro di poterla rappresentare l'abbiamo sentita per mezz'ora ieri quando stavamo andando via adesso devo soltanto concludere il giorno 27 giugno Ragosta è stato interrogato e ha ribadito la richiesta di confronto ora questa questa affermazione a mio modesto avviso e ne vaglierà la corte poi l'importanza incorpora una richiesta di voler essere presente al momento in cui si dovrà fare questo confronto premesso che con l'ordinanza è stato ammesso questo mezzo istruttore ma c'è di più che l'imputato successivamente al suo interrogatorio si è presentato in cancelleria e ha chiesto al cancelliere di voler essere presente la corte mi darà ancora atto che nonostante io ieri avessi presentato un'istanza apposita stamattina erano l'una e Ragosta ancora non era venuta ma io con questo non è che ne voglia fare un problema ora ripeto siccome questo è un elemento essenziale ai fini della decisione della posizione di Ragosta il quale ha costantemente in maniera decisa sostenuto che questa persona il D'Amico non ha mai conosciuto neanche di vista non sapeva neanche dell'esistenza io ritengo che la corte farà opera di giustizia se vorrà disporre la ritraduzione di D'Amico oltretutto perché non si concluse avremmo avuto anche delle domande da fare nell'udienza scorsa quindi il fatto che si sia allontanato per effetto di quell'incidenza signor Presidente la richiesta è questa che sia risposta ma questo signor Presidente ma D'Amico non è un imputato D'Amico è un testimone D'Amico è un testimone quindi dovrà essere necessariamente tradotto se fosse un imputato ci troveremmo di fronte a una rinuncia tra verbale quello che chiede la posizione